Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Guglielmo II, il Kaiser. In studio, Sergio Valsania. Come iniziare una biografia di Guglielmo II, il Kaiser che ha guidato l'impero tedesco per 30 anni, dal 1888 al 1918, quando il secondo Reich ha termine e si vede costretto a lasciare la Germania, addirittura a fuggire in Olanda in maniera un po' rocambolesca, e viene addirittura inseguito dagli alleati, dall'intesa, che lo vogliono processare come il maggior responsabile della Prima Guerra Mondiale. Probabilmente è un'accusa eccessiva, però adesso vedremo un po' di ripercorrere la sua vita e di vedere quali sono state le sue responsabilità nella guida della Germania e nel complesso sistema di rapporti con tutto l'ordinamento politico tedesco. La Germania è il più grande paese d'Europa, all'epoca lo è diventato nel 1871, proprio con la creazione dell'impero tedesco dopo la vittoria sulla Francia di Napoleone III, e questa grande realtà già di 60 milioni di abitanti, che ha una struttura, come vedremo in seguito, molto articolata, con diversi organismi che poi sono anche abbastanza conflittuali fra di loro, e poi che è divenuta la prima potenza mondiale. All'epoca si calcola la potenza di una nazione sulla base del suo prodotto in termini di acciaio, di milioni di tonnellate di acciaio, e la Germania già nel 1900, quindi 12 anni dopo la salita al trono di Guglielmo II, raggiunge l'Inghilterra nella produzione di acciaio e poi la supera largamente. Comunque, diciamo, dove cominciare la biografia di Guglielmo II? Forse la possiamo cominciare un po' prima della sua nascita, perché nelle case regnanti è importante vedere quali sono i genitori, e anche nel caso di Guglielmo II quali sono i nonni di una persona destinata a salire sul trono. E allora cominceremo la nostra storia a Londra, all'esposizione universale del 1851. In quella occasione c'è una bambina, che ha 11 anni, che accompagna un giovanotto, un ragazzo, che ne ha 18-19, e l'accompagna per questi saloni dell'esposizione universale, che è il trionfo della potenza inglese, il trionfo della potenza europea, il trionfo di questa tecnologia che si sta affermando. Siamo praticamente all'inizio della rivoluzione industriale e in un momento nel quale l'organizzazione militare europea è riuscita a far sì che tutto il mondo dipenda dall'Europa. Allora c'è questa bambina che parla perfettamente tedesco e che accompagna questo ragazzo tedesco in questa esposizione universale. E ovviamente, visto che ne parliamo, non si tratta di due persone qualsiasi. Questa bambina di 11 anni, che è così brillante, intelligente e capace, è niente meno che la figlia primogenita della regina Vittoria, che si chiama Vittoria anche lei perché ai re piace chiamare i figli col proprio nome, e chiamano Vicky, per non confonderla con la mamma, con la regina d'Inghilterra e poi anche imperatrice d'India. Il ragazzo anche lui non è uno qualunque, anche se lo chiamano familiarmente Fritz, perché si tratta di Federico, figlio di Guglielmo, che è il fratello minore di Federico Guglielmo, che in quel momento è re di Prussia. E qui orientarsi nelle famiglie regnanti d'Europa non è facilissimo, però perché è importante, è così importante Federico? Perché suo zio, re di Prussia, non ha figli e suo padre è il fratello più grande del re di Prussia. Per cui si suppone che suo padre prima o poi salirà al trono e si suppone anche che lui poi diventerà, quindi con la salita al trono di suo padre, diventerà l'erede al trono e gli succederà. E quindi questa amicizia che si crea fra questa bambina e questo giovane viene vista molto bene alla corte d'Inghilterra e viene vista abbastanza bene anche alla corte di Prussia. Siamo, dicevamo, nel 1851. La Prussia non è ancora la Germania, non è ancora neppure la potenza egemone del sistema tedesco, però è un paese senz'altro importante. E allora cosa succede? Che li fanno stare un po' insieme, dopodiché Fritz deve tornare in Prussia e la bambina resta in Inghilterra. Però si scrivono e si piacciono talmente tanto e le loro famiglie sono così contente che loro due si piacciono che un po' di tempo dopo, tre anni dopo, Fritz torna in Inghilterra, si sono scritti, si sono visti, torna in Inghilterra e addirittura va dalla regina Vittoria e anche dal principe Alberto, il principe consorte però, di chi comanda la regina Vittoria, e gli chiede la mano della figlia. Sia la regina Vittoria e il principe Alberto non sono contentissimi che la figlia si sposi così giovane, sono contrari ai matrimoni tra persone troppo giovani, però l'occasione è ghiottissima. Siamo in un periodo nel quale si capisce che la Prussia diventerà un paese importantissimo in Europa e quindi l'occasione non viene lasciata perdere, però si pongono delle condizioni, delle condizioni abbastanza precise. A 14 anni Vicky è ancora troppo giovane per sposarsi, per cui la regina Vittoria dice al giovane Fritz, che ormai non è più neanche giovanissimo, ha 21 anni, gli dice va bene, noi siamo d'accordo, però per ragioni di sicurezza, per maturare meglio la convinzione, voi siete fidanzati, ma non rendiamo pubblico il fidanzamento. Il fidanzamento lo renderemo pubblico solo quando Vicky avrà compiuto 17 anni e poi quando ne ha 18 vi sposate. Più o meno tutto va avanti bene e nel 1858 i due si sposano. Lo zio di Fritz è ancora sul trono di Berlino, ma comincia a essere vecchio, fra l'altro si dice anche sia completamente pazzo e quindi è molto emarginato dalla vita politica di Berlino e della Prussia. Poi succede che muore Federico Guglielmo e diventa re Guglielmo I, il papà di Fritz. Guglielmo I è una figura abbastanza particolare dell'organizzazione dei sovrani europei, perché è un prussiano nel senso del suo avo Federico II, nel senso che non ha la vasca nella sua reggia, si fa portare la vasca una volta alla settimana per lavarsi. E' avaro quanto Federico II. Si dice che Federico II, che ogni tanto mangiava le ciliegie, perché fino a Berlino arrivano le ciliegie, o comunque arrivavano per Federico II, ebbene lui mangiava le ciliegie, poi contava quelle rimaste e segnava su un bigliettino che lasciava bene in vista Ho lasciato sette ciliegie per chiarire alla servitù che non doveva mangiarsi le sue ciliegie. Ecco, Guglielmo I fa una cosa simile con lo champagne. Guglielmo I ha una tavola molto povera e molto rigoroso, però ogni tanto beve un po' di champagne e poi segna sulla bottiglia con un lapis il livello al quale lo champagne è arrivato perché non glielo beva la servitù. E un'altra cosa che fa è avere il secondo paio buono di pantaloni, perché il paio buono è per le occasioni importanti, però se si tratta di doversi presentare in pubblico la domenica, c'è il secondo paio buono che tiene lì nel suo armadietto dei vestiti. Di lui si deve anche dire che in gioventù ha combattuto contro Napoleone. Per noi poi la storia si allunga, non vediamo le sovrapposizioni, ma all'Ipsia, il giovane Guglielmo I, che ancora non si sapeva, sarebbe diventato re, anzi non lo si supponeva, essendo il figlio cadetto, combatte addirittura contro Napoleone. E lui è contento di questo matrimonio perché si lega con la più importante famiglia, famiglia reale europea, però dietro a questa contentezza c'è una sorta di contrapposizione. Perché? Qual è l'obiettivo della regina Vittoria con questo matrimonio? Il re quando si sposano c'è sempre i loro obiettivi, le loro ambizioni, le loro idee dinastiche. Chiaramente l'idea della regina Vittoria e del principe Alberto fin quando è vivo è di inserire nella Prussia un elemento dinamico e un elemento di modernizzazione forte. Loro vedono nella Prussia una potenza nascente e nella corte di Berlino invece un ambiente molto chiuso che si deve aprire, si deve aprire all'Europa e deve essere riconquistato all'Europa occidentale. I prussiani sono per tradizione alleati dei russi. Insieme ai russi hanno spartito la Polonia, insieme ai russi hanno sconfitto Napoleone dopo aver combattuto molto a lungo insieme a Napoleone. Addirittura al congresso di Vienna quando si creano gli due schieramenti per decidere come spartirsi i resti dell'impero napoleonico prussiani e russi sono d'accordo contro austriaci e inglesi ai quali poi si unisce anche la Francia dell'abilissimo Taleran che riesce a riportare con un colpo solo la Francia all'interno del sistema delle grandi potenze. Addirittura Francia Inghilterra e Austria firmano un accordo per fare la guerra a Vienna durante il congresso per fare la guerra contro Prussia e Russia nel caso Prussia e Russia si allarghino troppo non siano disponibili ad accettare alcuni principi territoriali che soprattutto l'Austria vuole imporre perché l'Austria è terrorizzata sia dalla Prussia che dalla Russia e come vedremo c'è anche abbastanza ragione di essere. Ecco in questo contesto nasce nel 1859 il 27 gennaio quindi nell'acquario nasce Guglielmo II che è il primo figlio di Vicky e di Fritz il primo figlio di questa coppia che è stata inserita nel sistema prussiano dalla corte inglese dal progetto della regina Vittoria per trasformare la Prussia e per portarla all'interno del sistema occidentale e allontanarla un po' dalla sua dipendenza dalla Russia. Sono anni di trasformazioni molto forti perché il piccolo Guglielmo ha appena sette anni quando scoppia la guerra fra la Prussia e l'Austria nel 1866 è una guerra che noi italiani ricordiamo spesso perché noi la chiamiamo terza guerra di indipendenza è la guerra al termine della quale Venezia e il Veneto entrano a far parte del regno d'Italia e quindi una guerra importante l'Italia alleata della Prussia perché il grande nemico è l'Austria infatti sono poi i prussiani a sconfiggere gli austriaci la guerra sul fronte italiano va abbastanza malino nel 1966 gli italiani perdono a custozza per via di terra e a lissa per via di mare però i tedeschi i prussiani vincono così tanto sugli austriaci che gli austriaci sono costretti addirittura a cedere il Veneto all'Italia lo fanno col solito sistema lo cedono alla Prussia che poi lo gira all'Italia quindi la Prussia si afferma come grande potenza nel 1966 succede una cosa importante in questa guerra austro-prussiana che cosa si stanno giocando Vienna e Berlino in quell'occasione bisogna dire che abbiamo già Bismarck come cancelliere a Berlino si stanno giocando l'egemonia sul mondo tedesco il mondo tedesco viene fuori dalla pace di Vespalia che l'aveva frammentato moltissimo Napoleone non sopporta questa frammentazione e ricostruisce degli stati abbastanza grossi in Germania c'è la Baviera c'è la Sassonia c'è la Vespalia ora questi stati sono stati tedeschi ma cosa vuol dire tedesco? vuole dire che sono abitati da persone che parlano tedesco si riferiscono alla tradizione di Goethe e di Schiller ma qual è in questo momento nel quale in Germania come in Italia c'è un forte desiderio di ricomposizione delle unità nazionali essere tedeschi può voler dire essere Grossdeutschland ovvero essere legati alla tradizione dell'impero asburgico oppure Kleiner Deutschland piccoli tedeschi che è un modo per opporsi ai Grossdeutschland e li collega a Berlino e quindi a questa nuova forza prussiana che ha cominciato la guerra dei sette anni di Federico II e da allora si è allargata sempre di più vincendo quasi sempre le sue guerre anzi vincendole sempre il meccanismo entra chiaramente in competizione siccome a quei tempi avevano la mano molto pesante fanno la guerra fanno la guerra la Baviera si schiera insieme all'Austria i barbarici sono sempre stati abbastanza amici degli austriaci da Napoleone in poi e perde la guerra da quel momento la Prussia è il punto di riferimento centrale per i tedeschi si fanno degli accordi commerciali e nemmeno cinque anni dopo che è finita la guerra fra Austria e Prussia la Prussia è in grado di fare la guerra contro la Francia che di solito la Francia vinceva contro la Prussia è a Waterloo che smette di vincere contro la Prussia è in grado dicevo di fare la guerra contro la Francia e di sconfiggerla Sedan Napoleone III viene addirittura fatto prigioniero cade l'impero poi c'è addirittura la comune ma cosa è successo in questa guerra che Bismarck è riuscito a portare tutti i regnanti tedeschi di quella che adesso chiamiamo Germania a combattere contro la Francia insieme a lui nel momento della vittoria si ricompone l'impero tedesco siamo nel 1871 e il piccolo Guglielmo sta compiendo 12 anni e forse è il momento di raccontare qualche cosa della vita del piccolo Guglielmo il piccolo Guglielmo non è un bambino fortunato anzi noi tenderemmo a definirlo un bambino molto sfortunato che cosa gli succede che cosa gli è successo in realtà non si sa esattamente perché però una delle sue balie dopo al primo al secondo giorno di vita si accorge che il bambino non muove il braccio sinistro questo problema si può immaginare viene subito affrontato dai medici e qui esistono due teorie una che durante il parto che è stato podalico aiutato dal forcipe qualche cosa sia stata fatta alla spalla sinistra del bambino e gliela abbia lesa in maniera gravissima un'altra ipotesi è che il bambino abbia proprio una malformazione di tutta la parte sinistra del corpo perché poi in seguito lui avrà sempre dei grossi problemi all'orecchio sinistro sangue pus queste cose anche molto dolorose e poi proprio in questo periodo nel quale parlavamo di tutte queste guerre che si combattono e lui ha la tendenza ad appoggiare la testa sulla sinistra lui non tiene bene retta la testa anche questo si tenta di curarlo poi vedremo come va a finire col braccio si tenta di curare questa sua tendenza ad abbassare la testa e si riesce a curarla ma la terapia è una di quelle terapie molto ottocentesche molto violente perché si fa una specie di armatura di cuoio e di ferro si mette questa armatura al bambino e lui in effetti comincia a tenere la testa dritta forse anche perché se no gli tocca portare l'armatura però la cosa grave non è questa della testa che poi viene corretta ma è quella del braccio che ha due aspetti uno il fatto che lui non riesce a muovere il braccio e l'altro che si tenta di curare questa cosa e siamo nell'epoca dell'elettricità per cui gli fanno queste scariche elettriche nel braccio provano a fargli dei massaggi gli fanno una serie di cose quando diventa adulto quando smette di crescere Guglielmo II ha il braccio sinistro che è più corto di almeno 10 cm del destro e praticamente ha una leggera mobilità delle dita che non gli consente di sollevare praticamente nessun oggetto quindi è fortemente menomato è un principe per cui gli stanno molto dietro gli creano una posata particolare per cui lui riesce a mangiare utilizzando solo la destra una posata che fa sia da forchetta che da coltello per cui riesce a tagliare le vivande gli fanno delle armi particolari lui ha un fucile anzi ha una serie di fucili per andare a caccia che può usare anche solo con la mano destra e poi c'è una grandissima attenzione a non fare notare questa sua menomazione una grandissima attenzione sartoriale e anche nei momenti delle fotografie tutte le fotografie i quadri le immagini che abbiamo di Guglielmo II ce lo fanno in posa marziale ce lo fanno vedere in posa marziale con la mano sinistra di solito appoggiata sull'elsa della spada e non si capisce che il braccio è inerte e anche la mano non è capace di muoversi dentro questo contesto che non è il contesto felice per un bambino gli succedono alcune cose alcune felici altre infelici quella che si ricorda di più come cosa infelice è l'incontro col suo istruttore chiaramente essendo un bambino di famiglia reale deve avere un precettore e i suoi i suoi genitori scelgono Georg Inzpeter come precettore sia per lui che per il suo fratello minore Enrico e questa scelta è una scelta che che lascia una lascia stupiti perché questo Inzpeter è un calvinista prussiano e non sembra molto omogeneo con i modi di vedere del papà e soprattutto della mamma inglese di Vicky della figlia della regina Vittoria mamma di Guglielmo II che apparirebbe molto più liberale e soprattutto lontana da questa mentalità un po' cupa che caratterizza il calvinismo tedesco di quegli anni ora Inzpeter si impegna a fondo chiaramente il precettore di un principe che è nella linea dinastica principale di una casa reale importante come quella degli Hohenzollern in Prussia si dedica completamente all'educazione di questo principe e di suo fratello ma ha delle idee molto rigorose per esempio lui pensa che si debba lavorare tantissimo per cui sottopone questi bambini a orari di lavoro impressionanti poi seconda cosa pensa che debbano abituare il loro carattere alla frugalità per cui questi che sono principi reali di Prussia fanno colazione molto presto la mattina praticamente col pane secco da inzuppare nel latte poi si racconta a proposito di queste cose della frugalità e del controllo della propria personalità che almeno una volta Guglielmo sia costretto a offrire dei dolci a dei bambini che erano andati a trovarlo facendo il giro con questo vasso dal quale lui però non ne può prendere per dare prova della sua forza di carattere poi bisogna aggiungere che nel metodo educativo di Inzpeter non si prevede la gratificazione degli allievi per cui anche se Guglielmo e suo fratello facevano le cose per bene mai venivano gratificati mai gli veniva detto bravo perché Inzpeter era contrario una cosa positiva c'era in tutto questo che Inzpeter pensa che un monarca o uno che sicuramente è destinato a una posizione importante nella vita adulta come è la situazione di Enrico del fratello di Guglielmo II debba conoscere il paese nel quale vive per cui li porta in giro tantissimo questi due ragazzi li porta nelle fattorie li porta nelle fabbriche li porta in giro per la Germania vanno in giro sui fiumi con le barche e li spinge a parlare con le persone che incontrano quindi contadini operai pastori quelli conduttori di queste barche che girano per i fiumi tedeschi questa è una cosa che sicuramente incide molto su Guglielmo II quando sarà Kaiser in seguito perché lo indirizza verso il desiderio di essere un re che fa del bene alla propria popolazione e quindi Guglielmo II sarà un Kaiser che in realtà in maniera confusa disordinata perché sicuramente non è una persona di particolare intelligenza di particolare carisma di particolare capacità politica lui ha una forte capacità istrionica possiamo dire parla bene in pubblico anche lasciandosi andare a delle dichiarazioni spesso infelici gli piace sempre parlare per iperboli per cose grandiose però non ha capacità di sintesi e quindi lui evidentemente desidera per il suo paese un progresso ma non è capace di governare il processo di un paese che ha un sistema anche democratico abbastanza solido nel senso che il Reichstag tedesco è eletto a suffrage universale maschile all'epoca le donne non buttavano da nessuna parte e deve approvare tutte le leggi di spesa oltre a tutta un'altra tipologia di normative per cui è necessario per fare politica in Germania essere capaci di creare delle maggioranze e tenere solide queste maggioranze e poi far fare alle leggi un lungo percorso mentre invece Guglielmo II vorrebbe governare da re medievale per cui si decide una cosa e la si fa e questo non gli riuscirà comunque stiamo parlando ancora della sua gioventù e dobbiamo ricordare assolutamente gli ottimi rapporti che aveva con tutti i nonni addirittura aveva una buona memoria del principe Alberto che muore quando lui ha appena due o tre anni adora la regina Vittoria cerca di andarla a trovare quando può e addirittura la regina Vittoria morirà fra le sue braccia perché quando viene a sapere che praticamente è in fin di vita lui che è già Kaiser si precipita a Londra per andare a trovare la nonna e anche con gli altri due nonni ha un ottimo rapporto con la nonna paterna che litigava continuamente col nonno re erano facendo delle grandi scene non si vedevano quasi mai cercando di tenerli divisi quanto era possibile e quando si incontrano si becchettavano però nonostante questo la nonna e il nipotino si trovavano molto bene e poi vera adorazione per il nonno Guglielmo primo per il Kaiser prima re di Prussia e poi dopo il 71 Kaiser e non solo vera adorazione ma adorazione assolutamente ricambiata perché a questo nonno il bambino che porta il suo nome e che probabilmente salirà al trono dopo il figlio nella secondo nella linea dinastica questo bambino gli piace da pazzi tant'è che il piccolo Guglielmo è uno dei pochi ammessi alla tavola del re che mangia frugalmente però gli piace mangiare insieme questo bambino per cui nonno e bambino e poi nonno e ragazzo stanno così bene insieme che comincia anche a crearsi un rapporto politico fra i due mentre invece Fritz il principe erede al trono che ha sposato la moglie inglese che ha delle idee che i prussiani ritengono bizzarre comincia a essere come spinto fuori dal sistema tedesco dal sistema prussiano divenuto tedesco che non vede di di buon occhio questo principe che gli sembra come si dice in tedesco un po' troppo sotto la pantofola della moglie inglese le tensioni fra Fritz l'erede al trono e il padre in realtà si ripercuotono anche su principe Bismarck il cancelliere che dirige la politica tedesca dal 61 in poi quindi è il creatore dell'impero tedesco e al quale praticamente il re di Prussia poi imperatore di Germania Guglielmo I ha delegato la gestione del potere nel paese sulle modalità di gestione del potere di Bismarck Fritz ha dei grossi dubbi ci sono dei contrasti sicuramente Bismarck è un gigante della storia politica europea altrettanto sicuramente si deve dire che è un conservatore mentre Fritz e sua moglie Vicky pensano che la Germania sia un paese che deve progredire che deve aprirsi che deve uscire da quell'aria un po' plumbea della Prussia per recuperare anche tutto quello che è la luminosità e anche la giocosità della Germania occidentale della Germania renana anche di quella bavarese e Bismarck è un po' preoccupato per questo avvicinarsi al trono di un Kaiser sicuramente diverso da quello che lui ha costruito però vede con grande piacere il primo genito di Fritz Guglielmo che poi sarà Guglielmo II che invece sembra simile al nonno e allora cominciano a succedere degli episodi abbastanza strani dal punto di vista della gerarchia di corte perché Bismarck utilizza il giovane principe per delle missioni diplomatiche saltando praticamente nell'ordine gerarchico suo padre che è il principe ereditario e quindi dovrebbe farle lui quelle cose in particolare lo manda un paio di volte in Russia Bismarck manda Guglielmo un paio di volte in Russia e Guglielmo fa un figurone perché poi la corte dello zar non è lontana come mentalità dal pensiero prussiano e quindi si trovano molto bene e poi hanno anche una questione in ponte con il matrimonio della sorella di Guglielmo che si chiama Vittoria anche lei per aumentare la confusione e tutti chiamano semplicemente Moretta per semplicità la quale si è innamorata di un principe che poi anche una volta riesce a diventare anche re del Balcanico Alessandro e vorrebbe sposarlo e sua madre è d'accordo mentre invece la Russia è molto contraria perché è entrato in attrito con loro e invece Guglielmo lì a San Pietroburgo alla corte dello zar tranquillizza tutti no no non gliela faremo mai sposare non preoccupatevi perché appunto siamo in anni nei quali la politica matrimoniale è ancora molto efficiente un matrimonio è un fra figure di primo piano delle casi reali è una cosa che è molto prossima a un'alleanza e quindi un matrimonio con Alessandro provocherebbe un distacco fra la Prussia e la Russia mentre invece Guglielmo nei suoi due viaggi tranquillizza molto lo zar è da dire che non si sposeranno mai i due ma quella forse anche un'idea strana di Moretta che ama tantissimo questo principe poi il principe finisce per sposare mi pare un'attrice o una ballerina smette di fare il principe ha una vita abbastanza disordinata il tempo passa il tempo passa e il vecchio Guglielmo primo diventa sempre più vecchio e quindi si comincia a immaginare ci possa essere la successione al trono diventa sempre più vecchio nel senso che vengono festeggiati i suoi 90 anni con Fritz che insieme a Vicky aspetta di salire al trono fra l'altro vengono un po' emarginati dalla corte e allora costruiscono un luogo un luogo dove ritirarsi che si chiama Bornsted che è una praticamente una fattoria nei pressi di Posdam vicino a Berlino che loro acquistano trasformano in una fattoria modello ma con gusto molto inglese perché Vicky è inglese e allora quello è il luogo dove si ritirano praticamente stanno con i bambini giocano Vicky dipinge ad acquarello anche il il piccolo Guglielmo e poi comincia a non essere più piccolo lì ha dipinto ad acquarello gli piacciono le marine Guglielmo II dipinge ad acquarello le marine e se no legge i libri alla mamma nelle sue memorie questo luogo è un luogo di serenità di divertimento però la politica lo spinge contro suo padre e ancora di più contro sua madre anche perché Bismarck soffia sul fuoco li vuole staccare vuole utilizzare il giovane principe contro i genitori a un certo punto nel 1887 succede una una cosa che sembra una piccola infermità ma il principe Fritz ha delle difficoltà a parlare gli cambia il tono della voce diventa più stridula si chiamano specialisti da tutto il mondo e questi specialisti da tutto il mondo vedono che alle sue corde vocali c'è qualcosa di molto strano e poi il principe comincia a deperire consulto medici tedeschi la Vicky fa addirittura venire un medico dall'Inghilterra un medico scozzese un medico scozzese che però ha studiato in Germania ma lo stesso nasce tutta la polemica ma come non sono abbastanza bravi i medici tedeschi per curare il loro principe ereditario e poi soprattutto c'è un disaccordo sulla terapia perché i tedeschi sarebbero per operare mentre invece il Morrell McKenzie che è il medico scozzese non vuole e Vicky la moglie di Fritz lo impedisce ovviamente Guglielmo sarebbe anche lui per operare sta con i tedeschi i genitori il figlio e i suoi genitori si allontanano ulteriormente ma la malattia va avanti fra l'altro ci sono anche delle male lingue comunque dei pettegolezzi su quale sia la malattia del principe ereditario che secondo alcuni si tratta addirittura di sifilide che avrebbe contratto in Egitto quando è andato all'inaugurazione del canale di Suez e lì insomma questi giovanotti si sono divertiti con delle signore locali senza prestare sufficiente attenzione agli ambienti che frequentavano questo potrebbe essere importante perché potrebbe avere confuso i dottori i medici potrebbero avere individuato questa malattia essersi rifiutati di dirlo perché non è una malattia che un re possa avere un principe ereditario possa avere e questo avrebbe reso più difficile tutta la terapia resta il fatto che Fritz deperisce ed è in condizioni fisiche molto malmesse quando nel 1887 tutti i reali europei vanno a Londra perché c'è il 50 anni di regno della regina Vittoria allora ci sono proprio tutti fra l'altro è l'occasione nella quale il figlio di Guglielmo che ancora non è Guglielmo II ma si è già sposato con una principessa tedesca che viene chiamata familiarmente Dona lei si chiama Augusta Vittoria anche lei si chiamano tutte Vittorie nell'epoca della regina Vittoria si chiama Dona con la quale va sostanzialmente molto d'accordo hanno un figlio poi ne avranno altri 5 o 6 fra cui alla fine la bambina piccola adorata da Guglielmo II comunque hanno questo bambino che siccome Vichi è la primogenita della regina Vittoria e Guglielmo è il primogenito di Vichi che si è sposata molto giovane questo bambino è il primo pronipote della regina Vittoria è proprio un legame strettissimo anche questa continuità di nascite che tiene prossimi Guglielmo e la regina Vittoria viene fatto notare che il corteo della carrozza della regina Vittoria per andare a queste feste del Giubileo viene scortato dai principi a cavallo dai principi di tutto il mondo e Federico Fritz principe ereditario ormai dell'impero tedesco cavalca a fianco della carrozza ma sarà l'ultima volta che lo si vede andare a cavallo perché le sue condizioni fisiche peggiorano tant'è che dopo questo viaggio in Inghilterra questi festeggiamenti non rientra a Berlino ma comincia a fare un viaggio abbastanza triste per l'Europa prima in Tirolo poi a Sanremo addirittura in una villa vicino a Sanremo perché pensano di portarlo in dei luoghi dove possa riprendersi dei luoghi più salubri per un per un malato comunque la malattia peggiora addirittura sono costretti a fargli la tracheotomia per farlo respirare perché questa gola ormai il cancro è conclamato non c'è più neanche l'idea che sia possibile operarlo e quindi lui deperisce ma mentre lui deperisce suo padre Guglielmo I ormai dopo aver festeggiato i 90 anni sta molto male e sta per morire Guglielmo nipote di Guglielmo I viene richiamato a Berlino ed è al capezzale del nonno quando muore a questo punto diventa re diventa re diventa imperatore re di Prussia e imperatore di Germania Fritz Federico è l'amico degli inglesi con la moglie inglese parte da Sanremo viaggia in treno il suo treno non si ferma mai nel senso sarebbe normale per un per un monarca che sta salendo al trono che va a Berlino nella sua capitale per farsi incoronare fermarsi farsi acclamare festeggiamenti non si fa niente di questo perché Fritz sta molto male Fritz sta molto male arriva a Berlino viene incoronato imperatore e muore tre mesi dopo e quindi il il grande progetto di avvicinamento anglo-prussiano poi anglo-tedesco il matrimonio salta tutto perché il dopo appena tre mesi dalla salita al trono Fritz muore e diventa imperatore nel 1888 che è l'anno dei tre imperatori perché in quell'anno sono Kaiser sia Guglielmo I che Federico III che Guglielmo II diventa appunto imperatore Guglielmo II che ha una moglie tedesca ha un'educazione prussiana ed è sostanzialmente amico di Bismarck o almeno sembra molto amico di Bismarck come vedremo a questo punto probabilmente bisogna dire come funziona la Prussia di quegli anni perché la Prussia e la Germania come funziona sia la Prussia che la Germania di quegli anni perché solitamente si ha l'idea che l'impero tedesco sia simile all'impero russo cioè con uno zar o un Kaiser che poi sono due parole derivano tutte e due da Kaiser da Cesare sono parole di derivazione latina per dire imperatore e si ha l'impressione che sia uno Stato molto accentrato unitario e governato in maniera dispotica questo non è affatto vero nel senso che la Germania è una confederazione una confederazione che si è formata a seguito della proclamazione dell'impero nel 1871 ma nella quale c'è ancora il re di Baviera c'è ancora il re di Sassonia e tant'è che Guglielmo II diventa re di Prussia e imperatore di Germania c'è ancora poi ci sono altri vari principi che mantengono anche l'identità degli stati per cui Bismarck è cancelliere del Reich ma è anche primo ministro del governo prussiano in questa confederazione però c'è un elemento di disequilibrio forte qual è l'elemento di disequilibrio forte che la Prussia ha il 60% sia della popolazione che del territorio quindi è molto sbilanciato il potere perché chiaramente rispetto ai partner la Prussia è il paese di gran lunga più potente di gran lunga capace di dare l'indirizzo a tutti gli altri però ci sono degli organi costituzionali la costituzione del 1000 e di quegli anni praticamente viene ratificata alla fine degli anni 80 fra la metà e la fine degli anni 80 e prevede un sistema misto molto intrecciato perché c'è un consiglio formato dai rappresentanti dei principi dei re e dei principi di questi paesi che formano la federazione dell'impero che in realtà avrebbe dei poteri abbastanza forti però non entra mai realmente in funzione tant'è non c'ha un palazzo non ha una burocrazia si affida quando si riunisce deve riunirsi sempre nel palazzo di qualche altro organo quindi non ha una capacità di incidere sulla vita politica tedesca anche perché dietro ci sono solo dei principi che contano pochissimo quindi non è un organo rappresentativo di poteri veri mentre invece il Reichstag il Parlamento è un organo molto rappresentativo di poteri molto forti perché appunto dicevamo è eletto a suffragio universale e questa elezione a suffragio universale fa sì che in un paese che si sta sviluppando sia demograficamente che economicamente che commercialmente e che è in una fase di fortissimo inurbamento lascia lo spazio per la creazione dei partiti politici che poi è la stessa cosa che succede anche in Italia anche in Italia Giolitti si trova col suo trasformismo cioè con la sua capacità di organizzare dei deputati che praticamente controllavano il loro collegio si trova a entrare in urto con quelli che sono i partiti organizzati ovvero il partito socialista e il partito democratico cristiano poi in Germania succede una cosa abbastanza simile nasce il partito social democratico si chiama già SPD e nasce un partito che non è cristiano è proprio cattolico perché praticamente la maggioranza in Prussia la larghissima maggioranza è protestante e agraria Juncker costituisce il blocco di maggioranza contro il quale si organizzano i cattolici che sono negli altri paesi tedeschi segnatamente la Baviera Colonia e i socialisti che invece si organizzano sulla base delle organizzazioni del lavoro contro i quali infatti Bismarck si trova abbastanza male poi esiste anche una componente liberale di sinistra che non condivide esattamente le posizioni di Bismarck anzi questo è il sistema tedesco che ha però la caratteristica rispetto per esempio al sistema inglese che il potere esecutivo è tutto nelle mani del Kaiser in via teorica per cui il Kaiser nomina il cancelliere tant'è questo nome buffo cancelliere dipende dal fatto che in teoria sarebbe l'aiutante del Kaiser per governare nomina il cancelliere nomina i ministri i quali non hanno bisogno per entrare in carica di ricevere l'approvazione del Parlamento come invece succede in Inghilterra poi c'è anche una cosa formale all'apertura del Parlamento inglese il re o la regina vanno a fare il discorso in Parlamento invece in Germania sono i parlamentari che vanno dal Kaiser per sentire il suo discorso e quindi c'è questo sistema conflittuale che tiene molto lontani il Parlamento il Reichstag e l'esecutivo in più la Costituzione ha alcuni elementi di come si può dire di redazione incerta oppure se è stato fatto apposta perché non si vuole scontentare nessuno ma soprattutto per quanto riguarda l'esercito le cose sono sicuramente confuse perché la Prussia tradizione militare fra l'altro il regolamento militare prussiano viene subito esteso a tutto l'impero tedesco ha la caratteristica di riferirsi al re come capo dell'esercito per cui la Costituzione dice che il re comanda l'esercito decide tutto stabilisce quali sono i corpi fa le promozioni stabilisce i regolamenti è giudice ultimo in caso di processo militare però la stessa Costituzione stabilisce che è il Parlamento a decidere la forma e le dimensioni dell'esercito in tempo di pace anche perché sull'esempio inglese il Reistag ha l'ultima parola ha il diritto di votare o respingere le leggi di spesa che poi sono il nucleo di quello che è la democrazia moderna il primo accordo in Inghilterra con Giovanni senza terra è sulle tasse niente tasse senza rappresentanza e anche in Germania vale questo principio per imporre una tassa bisogna passare dal Parlamento questo è il sistema che Bismarck è riuscito a governare fino a quel momento e Bismarck è molto contento all'inizio di avere trovato questo principe che è di idee abbastanza conservatrici che non è filo inglese che è amico dei russi che è stato in Russia però è anche vero che i due hanno una notevole differenza di età Bismarck nell'88 ha 73 anni mentre invece Guglielmo ne ha 29 ora Bismarck oltre a essere 73 anni c'è un'altra cosa è avere comandato in ogni modo prima la Prussia e poi tutta la Germania per ben oltre un ventennio quasi 30 anni ha la maggioranza del Parlamento cioè esiste il come ci sono i giolittiani in Italia nel Parlamento tedesco esiste un blocco Bismarckiano che ha la maggioranza e questo lo garantisce da da tentativi di sostituzione da parte del Kaiser perché perché il il Kaiser deve utilizzare qualcuno che gli crei le maggioranze per fare passare le leggi quindi questo contesto vede il giovane Guglielmo che vorrebbe una volta arrivato al trono cominciare a governare un po' anche lui a differenza del nonno e lasciava fare tutto a Bismarck e Bismarck che comincia a vedersi un po' in qualche modo a essere preoccupato per l'interapprendenza di questo giovane Kaiser abbiamo detto prima l'esperienza anche giovanile di Guglielmo II è un'esperienza che l'ha portato in giro per la Germania l'ha portato a conoscere le persone e la Germania non è in un momento di tranquillità sociale anzi è in un momento di forti scosse perché ci sono gli scioperi c'è la nascita del movimento socialista del quale il Kaiser è assolutamente contrario e poi c'è questa questa cosa che è rimasta del Kulturkampf che è stato fatto da Bismarck negli anni 60-70 che è un'operazione di germanizzazione della cultura di tutto l'impero anche molto anticattolica quindi tensione con i cattolici tensioni sociali e cominciano a profilarsi anche dei problemi di politica internazionale perché Bismarck è riuscito a gestire la politica estera tedesca in maniera esemplare però la politica estera tedesca è la politica estera della Prussia poi sempre adattata forzata sempre di più che per la Germania comincia a essere una politica estera che è riduttiva rispetto all'economia alla capacità commerciale tedesca la Germania nel suo complesso vorrebbe affacciarsi in maniera un po' più decisa su tutto il mondo e cominciare a essere un po' più concorrente con l'Inghilterra che praticamente domina il mondo si arriva quindi a una forte tensione fra il nuovo Kaiser Guglielmo II e Bismarck una tensione che Guglielmo II tenta di far passare attraverso quel consiglio della corona di cui parlavamo prima quella rappresentanza dei sovrani che in realtà non ha poteri però può essere utilizzata contro qualcuno e lui comincia a fare scricchiolare in questo modo il potere bismarckiano bismarck sarebbe rimasto tranquillamente al potere se non gli fosse successo poi quello che succede nelle democrazie un incidente elettorale bismarck perde la maggioranza si trova senza maggioranza nel 90 ci sono state le elezioni c'era stato un fortissimo contrasto poco prima con il kaiser perché guglielmo divenuto kaiser comincia a mandare ordini in giro ordini ai soldati di fare questo in occasione degli scioperi vuole i rapporti dai funzionari parla con i ministri e bismarck invece pochi giorni prima si finisse conoscenza dei risultati elettorali aveva ricordato una norma che si era fatto fare da guglielmo primo apposta per dire che i funzionari dovevano parlare solo col cancelliere ed era lui che riferiva all'imperatore invece guglielmo secondo provvede subito a cancellare la norma e si trova in questo rapporto frontale con bismarck il quale ha perso le elezioni la macchina della diplomazia interna tedesca di guglielmo secondo ha fatto sì che gli altri sovrani siano con lui bismarck ha perso la maggioranza forse la politica di bismarck è diventata un po' vecchia fatto sta che esiste proprio l'occasione precisa raccontata nelle memorie del Kaiser e sempre citata di questa convocazione di Bismarck a palazzo per essere ricevuto dal Kaiser che gli contesta un fatto preciso gli contesta il tentativo di creare una nuova maggioranza nel Reichstag parlando con i capi dei partiti politici e quindi sostanzialmente cattolici e liberali di sinistra visto che con socialdemocratici chiaramente non ci parlava Bismarck però di avere fatto un'operazione politica nel Reichstag senza avere prima chiesto il permesso al Kaiser senza essere stato autorizzato e Guglielmo II gli contesta questo forte del fatto che Bismarck non è ancora riuscito a chiudere questa trattativa quindi lo coglie in un momento di debolezza l'incontro fra l'altro avviene alle 8 e 30 del mattino a Palazzo Reale che per uno come Bismarck è un orario come fossero le 4 del mattino Bismarck signore pesante disordinato che fra l'altro dirige la politica tedesca dalla sua casa di campagna di solito tanto non c'è fretta è una persona che ha anche un senso del proprio potere della propria autorità molto forte si vede convocato da questo ragazzo sostanzialmente che è accompiuto da poco più di 30 anni non è ancora con più di 31 che gli chiede conto e ragione del suo operato ed è secondo alcuni il momento di passaggio di Guglielmo II dalla minore età alla maggiore età il momento nel quale lui afferma il fatto di essere divenuto il Kaiser dell'impero tedesco il 14 marzo del 1890 Guglielmo II convoca Bismarck a Palazzo Reale e praticamente gli contesta di avere avuto dei rapporti con il Reichstag e in particolare con i partiti con i capi dei partiti rappresentati nel Reichstag il Parlamento tedesco senza avere prima consultato il Kaiser e la reazione di Bismarck ci viene raccontata da da Guglielmo stesso dal Kaiser nelle sue memorie ed è una reazione molto violenta all'inizio nel senso che il cancelliere che è un omone impressionante che ha 75 anni una vociona è un grande mangiatore grande bevitore si racconta che anche quando poi più avanti con l'età molto malato bloccato sulla sedia gli avvicinano un cucchiaio di champagne per farlo bere lui afferra il bicchiere se lo scola tutto insomma è una figura quasi tanta gruelica il cancelliere Bismarck ha una reazione così violenta che il Kaiser nelle sue memorie racconta di avere portato la mano all'elsa della spada pensava quasi come automatismo perché era quasi un'aggressione fisica da come era violenta però Guglielmo II dimostra grande capacità di reggere a questi rapporti umani anche violenti per cui non cede di un passo e a quel punto Bismarck ha la reazione opposta scoppia a piangere perché poi è un uomo appunto in età ha 75 anni e vede che il Kaiser che lui in qualche modo considerava anche una sua creatura lo sta estromettendo dalla vita politica tedesca e Guglielmo II è molto duro molto rigoroso e gli fa queste contestazioni praticamente gli dice che gli ha tolto la sua fiducia e quattro giorni dopo Bismarck rassegna formalmente le sue dimissioni ed è fuori dalla politica tedesca dove non rientrerà mai l'operazione di togliere a Bismarck il cancellerato è un'operazione molto molto violenta quella fatta da da Guglielmo II e anche molto ardita perché Bismarck è potentissimo in Germania l'ha fatta lui la Germania controlla i giornali tedeschi ha rapporti internazionali enormi ha un seguito interno di proporzioni quasi incredibili viene portato un episodio a dimostrazione di tutto questo quando cinque anni dopo aver dovuto rassegnare le dimissioni da cancelliere compie ottant'anni Bismarck compie gli anni il primo di aprile in questo primo di aprile del 1895 Bismarck riceve 450.000 lettere telegrammi di auguri da cinque anni non fa il Kaiser è ritirato in campagna ha 80 anni eppure ha ancora questo seguito enorme e in qualche modo Guglielmo II paga questa rottura con Bismarck che continua a essere un avversario del Kaiser anche attraverso i suoi rapporti con la stampa noi sappiamo che Guglielmo II ha la tendenza a lasciarsi andare quando parla in pubblico lui si immagina si autorappresenta come un sovrano che deve rappresentare il popolo che deve stare vicino al popolo che deve parlare col popolo viaggia spessissimo in Germania e fa interventi dappertutto e gli danno questi questi interventi scritti e lui un po' li guarda un po' li butta via un po' aggiunge dei pezzi e in particolare si racconta di un'occasione che è un'occasione veramente tipo per per questa sua inabilità nel trattenersi per questo lasciarsi andare alla retorica per il piacere anche di esagerare di utilizzare delle frasi fortissime una volta lui deve salutare i marinai e i soldati che sono in partenza per la Cina addirittura per sedare la rivolta dei boxer c'è stata questa rivolta dei boxer che è un episodio anche abbastanza famoso ci hanno fatto un film 55 giorni a Pechino e la rivolta viene sedata anche dall'intervento delle potenze delle potenze europee che mandano dall'Europa un corpo di spedizione internazionale che è incaricato appunto di sedare la rivolta e di riportare l'ordine in Cina in realtà non si tratta molto di riportare l'ordine in Cina quanto piuttosto di imporre alla Cina ancora di più quelle che sono le volontà dell'Europa la Cina è un grande paese però a partire dal momento delle guerre dell'oppio il potere centrale cinese si sgretola entra in crisi la Cina ha un'inferiorità militare rispetto all'Europa che è devastante per cui tutte le volte si arriva a un conflitto fra la Cina e uno dei paesi europei la Cina deve cedere e cede concessioni parti di territorio e appunto c'è questa spedizione che parte il 27 luglio del 1900 parte da Bremerhaven che è il porto militare tedesco e Guglielmo va a salutare i soldati che partono compito del Kaiser ci hanno paura i suoi collaboratori di quello che può combinare per cui Eulenberg che è un suo amico e Bullov che è il ministro degli esteri tutti e due raccontano la storia come se l'avessero fatto loro forse l'avessero fatta mettendosi d'accordo prendono il discorso del Kaiser che è stato preparato dall'ufficio non so dall'ufficio probabilmente dal ministero degli esteri ne fanno fare un sacco di copie e le distribuiscono ai giornalisti prima che il discorso venga pronunciato in modo da mandare via tutti i giornalisti col discorso così lo mettono sui loro giornali e non ascoltano quello vero perché hanno paura che il Kaiser messo a parlare davanti ai soldati si lascia andare e dica chissà che e il Kaiser infatti davanti ai soldati si lascia andare e dice chissà che e fa quello che viene detto il discorso degli unni nel quale ci sono frasi del tipo di questa quando sarete davanti al nemico abbattetelo non abbiate pietà non prendete prigionieri comportatevi come gli unni di mille anni fa oppure fate che il nome della Germania sia conosciuto in Cina in modo tale che nessun cinese abbia più il coraggio di alzare lo sguardo davanti a un tedesco siccome poi le cose non vanno mai come si cerca di farle andare no le bugiano le gambe corte queste cose qua un giornalista arriva tardi non riceve il testo scritto e si ferma ad ascoltare sente queste cose le scrive e il giorno dopo escono sui giornali il discorso degli unni è del 1900 viene utilizzato contro i tedeschi durante la propaganda nella prima guerra mondiale 15 anni dopo dall'eco che ha queste dichiarazioni che sono delle dichiarazioni veramente pazzesche se tirate completamente fuori dal testo e proposte per frasi per frammenti invece era infervorato il Kaiser davanti ai suoi soldati che stavano per partire i soldati applaudono tutti contenti nel momento la cosa va benissimo mentre invece produce una pessima impressione in tutta la stampa in tutto il pubblico quando lo viene a sapere tramite la stampa e si può immaginare che ci sia ancora almeno l'onda dello zampino di Bismarck in questo sforzo di non perdere l'occasione per far fare al Kaiser una brutta figura però chiaramente non è una questione di rapporti personali secondo alcuni la prima guerra mondiale e comunque la fine della Germania dell'impero tedesco comincia se una fine può cominciare comincia nel momento nel quale Bismarck viene allontanato dalla carica di cancelliere perché si rompe quello che è l'equilibrio diplomatico creato da Bismarck c'è una cosa proprio un atto preciso che è il mancato rinnovo del trattato di rassicurazione con la Russia che era uno dei frammenti dei tasselli del sistema ideato da Bismarck per garantire alla Germania che è un posto un po' infelice geograficamente essendo in mezzo all'Europa confina con tutti e con tutti aveva avuto a che questionare almeno contare sull'amicizia o su un rapporto di non ingerenza con la Russia costituiva un elemento portante di questo sistema e questo è quello che sostengono alcuni altri invece dicono che il sistema di Bismarck fosse finito perché la Germania ha fatto altre amicizie i grandi nemici della Russia sono due due e mezzo se vogliamo contare il grande gioco asiatico con l'Inghilterra che poi si farà addirittura sostenere dal Giappone ma i grandi nemici europei della Russia sono l'Austria-Ungheria per la questione dei Balcani e l'impero ottomano per la questione degli stretti ora la Germania dopo la guerra del 66 contro l'Austria ricuce rapidamente i rapporti con l'Austria tant'è che l'Austria diventa il suo più solido alleato e in più ha ottimi rapporti con l'impero ottomano con il sultano con Costantinopoli ora è molto difficile immaginare che sia possibile continuare a essere amici degli austriaci e dei russi dell'impero ottomano e della Russia se non con una politica molto molto condiscendente mentre invece la Germania non è più la Prussia agricola degli Juncker conservatrice che era stata al momento del grande accordo con la Russia è diventato un paese moderno industriale pieno di operai democratico che quindi non è più coerente a livello di alleanza con la Russia stessa comunque l'altro pezzo anche dell'alleanza di Bismarck che è l'alleanza con l'Italia all'interno della triplice alleanza ha più o meno lo stesso difetto che pretende di tenere insieme due che non si amano come l'Austria e Ungheria e l'Italia che sono due paesi che hanno tutti e due interessi nell'Adriatico che hanno dei sistemi conflittuali e che poi hanno il problema dell'irredentismo uno dei problemi della Germania e dell'Austria e Ungheria è che sono imperi mentre si trovano a confrontarsi con degli stati nazionali stati nazionali che sono la Francia che sono l'Italia che sono a quell'epoca l'Inghilterra la Gran Bretagna è un paese molto centralizzato adesso c'è il problema della Scozia il problema del Galles anche la Gran Bretagna comincia a diventare un paese che si articola ma all'epoca è molto centralizzato come anche la Russia mentre invece dei paesi che hanno questo sistema imperiale quindi queste diversità al loro interno si trovano in conflitto non è un caso che la Germania abbia con la Francia per l'Alsazio e la Lorena un problema esattamente uguale a quello che ha l'Austria e Ungheria con l'Italia per Trento e Trieste perché è una concezione antinazionalista in qualche modo e Bismarck quando annette l'Alsazio e la Lorena commette sostanzialmente l'errore di creare una ostilità fra la Francia e la Germania che non è compensabile che non si può spegnere se non nell'arco dei secoli non nell'arco di qualche anno tant'è 1890 cade Bismarck non viene rinnovato l'atto di rassicurazione con la Russia e passano appena quattro anni e la Russia è pronta a stipulare un'alleanza fortissima con la Francia l'alleanza che poi è la stessa costantemente rinnovata che farà scattare nel 1914 alla fine di luglio del 1914 il sistema per cui tutti fanno la guerra con tutti perché gli alleati intervengono ma questa alleanza non si basa su una qualche vicinanza culturale la Francia è la Francia repubblicana che è nata dopo la sconfitta di Napoleone III mentre invece la Russia è la Russia zarista quindi il massimo di democrazia esistente in Europa e in Francia è il minimo di democrazia esistente che è la Russia la Francia è un paese moderno sia industrialmente e commercialmente avanzato mentre la Russia è un paese che praticamente dalle guerre napoleoniche in poi si è chiuso sempre di più e ha perso il collegamento con quello che è il grande sviluppo industriale europeo è diventato un paese sempre più arretrato non perché non si sviluppasse poi un po' di fabbriche ci sono anche in Russia si aprono anche i cantieri ci sono dei desideri di modernizzazione il problema è che l'altra parte dell'Europa cresce in maniera rapidissima non a caso si parla di rivoluzione industriale si parla di un periodo che va dalla metà dell'ottocento alla grande guerra che è un periodo di furibonda espansione economica dal quale la Russia rimane tagliata fuori mentre invece addirittura gli stati dei Balcani in qualche modo ne sentono il sapore l'odore se non proprio se non vi partecipano anche se paesi come la cecoslovacchia sono paesi estremamente moderni l'Ungheria rimane agricola però la parte sicuramente Germania Inghilterra Francia nord dell'Italia risente di queste cose vanno verso uno sviluppo che fa diventare sempre più arretrata la Russia però la questione dell'Alsazio Lorena è così importante per la Francia e la Germania è talmente tanto il nemico della Francia che si crea questa alleanza nel frattempo si smonta anche un pezzo di quello che è la triplice alleanza il punto debole della triplice alleanza è l'Italia e l'Italia è stata coccolata molto dalla Germania perché ha una storia parallela l'unità d'Italia si fa in parallelo con l'unità della Germania con la creazione dell'impero tedesco anche se l'Italia si fa alla francese si potrebbe dire quindi con uno stato unitario molto accentrato mentre la Germania rimane un impero quindi con la permanenza delle realtà statuali precedenti dentro un contesto più ampio hanno ancora gli ambasciatori esiste mentre c'è l'impero tedesco a Roma c'è un ambasciatore bavarese c'è un ambasciatore sassone per cui queste realtà rimangono però l'Italia che ha compiuto questo percorso a fianco della Germania che nel 1870 prende Roma perché i tedeschi hanno battuto i francesi a Sedan c'erano i soldati francesi a difendere Roma sono i francesi che intervengono contro Garibaldi e gli impediscono di conquistare Roma difendono lo stato pontificio per cui c'è questa ostilità italo-francese che deriva dal fatto che il progetto francese di Napoleone III per Italia era completamente diverso non voleva certo uno stato unitario voleva allargare l'influenza francese nel nord Italia lasciando un altro stato nel sud sono piuttosto gli inglesi che vedono nella creazione dell'Italia come stato unitario un ostacolo per la politica mediterranea della Francia come puntualmente e quindi l'Italia è avversaria della Francia però lo è sempre meno è anche un problema di finanziamenti le banche tedesche finanziano lo sviluppo italiano con le francesi no però poi c'è lo schiaffo di Tunisi quindi l'occupazione della Tunisia da parte della Francia quando l'Italia cominciava a contarci quasi però anche queste cose vengono un po' alla volta superate dal fatto che poi il passaggio del tempo aiuta a superare quelle cose e dal fatto che Trento e Trieste sono considerate dall'opinione pubblica italiana delle città che sono italiane che vanno recuperate all'Italia cioè il senso del nazionalismo italiano è superiore a quelli che possono essere magari degli interessi anche economici anche forti e è la Germania che tiene insieme Austria e Italia dentro la triplice alleanza quindi tutto il sistema di Bismarck entra in crisi ma entra in crisi per un verso in politica estera ma per un altro verso in politica interna perché la nascita dei partiti in Germania è una cosa che lui non ha previsto la gestione della politica interna di Bismarck è una gestione sostanzialmente paternalista e il paternalismo che è poi anche più o meno lo stesso percorso che immagina Giolitti in Italia alla fine non funziona Giolitti lo immagina più tardi vent'anni dopo la caduta di Bismarck però il processo è lo stesso tentare di concedere qualche cosa alle classi emergenti senza trattare con le sue rappresentanze in questo in realtà Guglielmo II è d'accordo con Bismarck ma pensa che Bismarck non sia più capace di farlo e quindi pensa di riappropriarsi come Kaiser della gestione della cosa pubblica vuole comandare ha un'idea molto antica del sovrano ha un'idea del sovrano che dirige la cosa pubblica che sicuramente non sarebbe stata l'idea di suo padre che invece di tradizione comunque condizionato dalla moglie inglese che Vighi è una donna di grandissima personalità capace di condizionare anche un marito che poi è in fondo un campagnolo al suo confronto e quindi che avrebbe immaginato un ruolo del sovrano più come elemento d'equilibrio all'inglese anche se la regina Vittoria comandava però comandava sempre tenendosi un passo indietro rispetto alla lotta politica rispetto ai progetti politici alle grandi trasformazioni del paese che in qualche modo vanno guidate per cui Guglielmo II sostituendo Bismarck non immagina di cambiare il cancelliere ma di cambiare in un certo senso la struttura costituzionale tedesca sostituendo a un cancelliere che è primo ministro che è praticamente il gestore in prima persona della politica del paese su delega del Kaiser pensa di sostituirci invece una figura che sia l'esecutore delle volontà del Kaiser e lui va in cerca di questa figura perché dal 90 al 18 praticamente quasi per intero il periodo nel quale lui Kaiser in Germania nell'impero tedesco e la ricerca di questa figura poi lo porta a una serie di delusioni perché è lui non tanto quell'altro è lui che è un re e quindi è lì per caso questo è il grande problema di Guglielmo II lui non ha vinto un concorso non ha fatto una carriera non ha fatto una lotta politica non ha dovuto meritarsi quel posto è lì sostanzialmente per caso perché discende da quella famiglia e quella famiglia lo ha portato a essere re e i suoi talenti non sono probabilmente i talenti necessari per guidare in prima persona un paese e questo cortocircuito fra il suo desiderio di guidare in prima persona il paese e la sua sostanziale incapacità nel farlo produce sicuramente una serie di malestri per la Germania e produce anche un atteggiamento nei suoi confronti da parte dei cancellieri che si susseguono che non è dei più corretti e questo dipende anche dal sistema costituzionale tedesco perché è sempre il Kaiser che nomina il cancelliere e poi lo manda al Reichstag a trovarsi una maggioranza non è il processo politico che seleziona il personale e poi offre un leader al Kaiser che lo riconosce come tale secondo il sistema inglese tutto ciò poi dipende dalla personalità proprio di Guglielmo II che si è scritto tantissimo sulla sua personalità perché dopo la prima guerra mondiale soprattutto si è voluto descriverlo come un pazzo scatenato e allora si è andati a cercare la storia della mienomazione al braccio che gli avrebbe provocato chissà quali turbe il rapporto conflittuale con i genitori invece favorevole a Bismarck e al nonno poi si è voluto andare a cercare il precettore il precettore che lo trattava male e con così anche un'enfatizzazione di elementi da psicanalisi un po' d'accatto lo si è descritto come una persona molto psichicamente psichiatricamente addirittura turbata invece molto probabilmente da quello poi che ha assodato la storiografia in seguito è una persona abbastanza normale che non ha il talento per la conduzione politica che richiede sempre tempi lunghi ha qualche idea gli piace comandare ma questo piace a tutti e non ha neanche una grande capacità di lavorare il suo collega Francesco Giuseppe è tutto il giorno in ufficio a firmare carte a fare cose non si sa se serva molto nemmeno quello ma la vita di Guglielmo II è una vita diversa è una vita di viaggi non è uno che gli piace a star seduto a guardare le carte semmai legge i giornali legge i giornali legge le riviste tecniche gli piace mandare in giro ritagli di articoli con delle notazioni a quel ministro ma non è la persona che è capace di sostituire Bismarck o anche di farsi carico della conduzione di un impero con i problemi che sono diventati più gravi di quelli che doveva affrontare Bismarck perché la Germania è segnata internamente da scioperi contraddizioni contrasti dalla necessità di pensare a una ridistribuzione della ricchezza dalla necessità di affrontare il problema delle rappresentanze dei lavoratori che diventano potenti perché a Reichstag e alla fine il Partito Socialdemocratico diventa il partito più grosso di tutti e già prima è un partito molto importante quindi si tratterebbe all'interno di trattare con queste nuove forze e in politica internazionale la Germania ha ogni interesse a evitare la guerra in ogni caso e quindi ad accontentarsi di un po' meno di quello che le potrebbe toccare facendo conto sul fatto che nei tempi lunghi potenza economica e commerciale si fanno valere se uno però tenta di tirare troppo il collo a queste situazioni produce la paura negli altri tutti cominciano ad avere paura della Germania e questo per l'impero tedesco non è affatto una bella cosa il regno di Guglielmo II dura 28 anni in questi 28 anni i cancellieri tedeschi cancellieri dell'impero di Germania sono solo quattro sostanzialmente perché ce ne sarà anche un quinto che è Massimiliano del Baden che però entra in carica ai primi di ottobre del 1918 resta poco più di un mese cancelliere e poi nel collasso della Germania viene sostituito praticamente da quello che sarà il primo governo repubblicano della Germania con una transizione anche improprio perché il successore di Massimiliano del Baden che è uno dei leader del movimento socialista tedesco non viene nominato dal Kaiser ma praticamente sostituisce il cancelliere esistente sotto la pressione dei moti popolari che ci sono a Berlino mentre collassa il sistema tedesco a causa della sconfitta nella guerra i quattro cancellieri che possiamo chiamare storici di Guglielmo II sono von Caprivi il primo che è un generale un ammiraglio e poi il principe di Owen Lohen che si chiama Kludwig e che aveva un rapporto addirittura di parentela con il Kaiser che lo chiamava zio durante i colloqui poi ci sono dal 1900 al 1909 von Bulow che è uno dei dei grandi collaboratori del Kaiser il quale si fida molto di lui lo nomina principe però come vedremo poi passando in rassegna l'operato di queste personalità di queste figure politiche probabilmente è l'uomo che getta la Germania nella guerra che ne crea l'isolamento diplomatico ed è una cosa strana perché von Bulow veniva proprio dalla carriera diplomatica l'ultimo è Theobald Bethmann che è cancelliere dal 1909 al 1918 che è il cancelliere della guerra e volendo è il responsabile diretto dell'entrata in guerra della Germania o comunque colui che non riesce a impedirla e è l'uomo che guida la Germania per tutta la durata della guerra e poi cade proprio deve dimettersi alla fine di settembre del 1918 perché la guerra è rimediabilmente perduta comunque torniamo indietro e cominciamo da Fon Caprivi Guglielmo II sceglie un generale e un generale affidabilissimo sul quale pone grandi speranze nel ruolo che lui ha immaginato di esecutore delle sue volontà Guglielmo II vuole cambiare la Germania vuole far progredire la Germania ha delle idee più precise che organizzate e risente molto il suo pensiero la sua modalità di azione da quell'organizzazione particolare del sistema politico tedesco che vedeva una spaccatura profonda fra esecutivo quindi il potere del governo e invece il legislativo il potere del Reichstag noi a volte siamo in qualche modo prigionieri di alcune idee politiche per esempio l'idea della separazione assoluta dei poteri che è una concezione di Montesquieu che è un paradigma molto interessante della politica però la separazione rigida assoluta fra esecutivo e legislativo produce delle crisi perché siccome le leggi le fa il Parlamento se l'esecutivo proviene da un potere completamente diverso da quello del Parlamento ha dei gravissimi problemi di integrazione e questa è la situazione nella quale si trova Caprivi dal 1894 al 1900 e sono gli anni della sua carica sotto la pressione del Kaiser che gli chiede di fare alcune cose e l'ostacolo che diventa sempre più difficile da superare del Reichstag che dovrebbe approvare le leggi operative delle richieste che vengono avanzate dal Kaiser che cosa pensa Guglielmo II Guglielmo II pensa che la Germania abbia grande bisogno di essere modernizzata occorrono riforme sociali occorre creare una cultura unitaria tedesca perché la Germania è un impero federale come dicevamo e questa caratteristica ne fa sì che esista da una parte la Prussia che è la parte maggioritaria in tutti i sensi del paese ma è anche la parte culturalmente un po' più arretrata e industrialmente se si fa l'eccezione di Berlino probabilmente è la parte meno dinamica perché la grande industria tedesca è a Essen Kassel nella Rur anche in Baviera anche se in maniera minore e c'è anche una una frattura non profonda come si vedrà nel corso della guerra perché poi protestanti e cattolici tedeschi combattono assolutamente insieme però è vero che la Prussia ha una fortissima prevalenza protestante mentre gli altri stati la Baviera soprattutto colonia in particolare colonia una grande città cattolica sono cattolici e anche questo ha bisogno di un fenomeno di integrazione la Germania noi la immaginiamo come uno stato unitario ma l'unità della Germania è del 1871 e nel 1894 sono passati poco più di vent'anni noi italiani sappiamo bene quanto è complicato passare da una divisione politica secolare a un'unità nazionale il processo tedesco e quello italiano sono abbastanza sincroni nel tempo e alla fine dell'Ottocento il problema dell'unità del paese esiste dell'unità culturale a questo si aggiunge il problema se lo vogliamo chiamare così che in realtà non è un problema è un grosso portato della rivoluzione industriale possiamo dire la rivoluzione industriale porta all'inurbamento porta alla nascita di quella poi che giusto in quegli anni Marx individua come la classe operaia porta alla nascita di una componente sociale nuova che si organizza perché se l'Europa è stata guidata per un lungo periodo dall'aristocrazia poi c'è l'affacciarsi della borghesia che trova il suo grande momento di affermazione nella rivoluzione francese dopo il periodo di egemonia culturale della borghesia cominciano a nascere altre componenti sociali segnatamente quella operaia e anche il ceto contadino comincia a organizzarsi politicamente quindi la situazione nella Germania è che bisogna occuparsi di creare una cultura tedesca almeno così immagina il Kaiser bisogna occuparsi della distribuzione della immensa ricchezza che viene prodotta dall'industria e che deve essere distribuita nella popolazione e bisogna secondo il Kaiser contrastare l'avanzata dei socialisti ora in qualche modo le idee che ha Guglielmo II sono abbastanza coerenti al loro interno perché lui pensa di sviluppare tre operazioni una sulla scuola una sull'esercito e una sulla legislazione dell'ordine pubblico sulla scuola lui pensa di modernizzare la scuola e di affidare proprio alla scuola il compito di formare una gioventù che secondo lui deve essere antisocialista deve avere una idea di paese più unito e deve essere contraria a qualsiasi idea di tensione sociale di lotta sociale una visione abbastanza paternalistica nella stessa direzione lui pensa di utilizzare anche l'esercito l'esercito ha una tradizione prussiana sono stati i prussiani che hanno vinto la guerra contro la Francia del 1870 affiancati dagli eserciti degli altri stati tedeschi però la tradizione militare della Germania è quella prussiana soprattutto la tradizione dell'esercito poi vedremo la Marina ha una storia leggermente diversa ma questa tradizione si accompagna anche con la difesa di alcuni privilegi il più importante dei quali è l'ammissione solo degli aristocratici e quindi quelli che comunemente si chiamano gli Juncker nelle accademie militari cioè nei luoghi dove si formano gli ufficiali dell'esercito tedesco il Kaiser pensa a una fortuna fortissima trasformazione dell'esercito che vada sostanzialmente in tre direzioni adesso bisogna riassumere una accorciando la durata della leva che dovrebbe passare da tre anni una leva lunghissima a due l'altra allargando però la chiamata sotto le armi quindi ampliando le dimensioni dell'esercito e la terza ammettendo anche non nobili cioè sostanzialmente borghesi nelle accademie militari e quindi consentendo anche a loro di diventare ufficiali dell'esercito tutto questo con la finalità di trasformare anche l'esercito in una sorta di scuola di occasione di formazione culturale se vogliamo usare una parola alta o di indottrinamento se vogliamo invece vederla come la vedevano i socialisti tedeschi di indottrinamento di una parte più larga possibile della popolazione per appunto trasmettere questi due concetti di unità della Germania e di condanna assoluta per ogni forma di lotta sociale perché in Germania ci sono gli scioperi ci sono le agitazioni non è che i socialisti si limitino a presentarsi alle elezioni poi si organizzano fanno attività ed è proprio contro questo modo di fare politica che va la terza gamba di questo insieme di proposte del Kaiser che vuole delle leggi molto dure contro l'organizzazione sociale contro chi sciopera soprattutto contro chi organizza gli scioperi contro chi fa propaganda socialista quindi un complesso di norme sostanzialmente basate su un'idea paternalistica che dovrebbero essere accompagnate a qualche concessione nell'ambito della normativa sul lavoro della normativa salariale ma non immaginate come frutto di una trattativa con i rappresentanti di questi ceti operai o contadini che si andavano organizzando ma immaginata piuttosto come concessione quindi la benevolenza del Kaiser dovrebbe accompagnarsi a una invece stretta dal punto di vista dell'ordine pubblico come giocando su due piani e comunque tutto in chiave antisocialista il progetto in apparenza può sembrare coerente in realtà ha una serie di punti di caduta di rotture e soprattutto manca di un punto di coordinamento che sia capace di costruire una maggioranza parlamentare intorno a un progetto di questo tipo perché le leggi sulla scuola in realtà sono fatte anche per guadagnare il consenso del partito dei cattolici che ormai diventa quasi necessario per riuscire a ottenere la maggioranza dei voti su una legge al Reichstag e però per ottenere questi voti è necessario concedere un'organizzazione della scuola che sia meno laica che conceda nuovamente alle come era all'origine secondo l'organizzazione settecentesca soprattutto delle scuole conceda di nuovo agli istituti religiosi di essere protagonisti del sistema scolastico tedesco e questo chiaramente confligge con quella che è invece la visione dei liberali della sinistra liberale che è ben distinta dalla sinistra socialista che però ha una concezione molto laica di quello che deve essere lo Stato in più confligge con la maggioranza del Reichstag che è ancora quella prussiana quella degli agrari prussiani che sono agrari sono prussiani sono conservatori ma hanno anche la caratteristica di essere protestanti per cui vedono malissimo un'apertura verso i cattolici quanto alle leggi sull'esercito anche queste chiaramente sono molto mal viste dal ceto degli Juncker che considerano l'esercito una sorta di loro proprietà e comunque vedono nell'esercito un'ottima occasione per trovare lavoro banalmente per fare carriera l'esercito è il loro esercito e la proposta di Guglielmo II è quella di trasformarlo invece nell'esercito tedesco di tutta la Germania di tutto il popolo tedesco e anche questo viene visto male sarebbero favorevoli chiaramente gli Juncker alle leggi antisocialiste però il momento di congiunzione fra questa disponibilità praticamente conservatrice se non addirittura reazionaria e invece le aperture le concessioni che si intende fare in campo sociale e gli interventi da fare nella scuola e nell'esercito andrebbero conciliati da un'operazione politica che il Kaiser che prende le decisioni invece scarica completamente su Fon Caprivi che è il suo cancelliere e al quale chiede di svolgere un lavoro assolutamente esecutivo che Caprivi non riesce a portare avanti perché non essendo espressione di nessuna di queste componenti non riesce a raccogliere una maggioranza che sia in grado di far approvare in Parlamento nel Reichstag le leggi che il Kaiser richiede questo comporta un andamento molto faticoso del cancellierato di Fon Caprivi e il sostanziale fallimento di quasi tutti i progetti se si eccettua la parte relativa alla scuola nella quale i cattolici riescono a ottenere delle concessioni e in cambio praticamente viene fuori una legge antisocialista che però è molto attenuata rispetto a quello che voleva il Kaiser e poi si mescola con una legge contro la blasfemia contro le bestemmie in pubblico come richiesto da questa componente politica che è organizzata però su base religiosa per cui per dare il suo assenso chiede altre cose sostanzialmente il Kaiser è scontento di Fon Caprivi perché non riesce ad arrivare in fondo alle questioni che gli vengono chieste e a fianco di questo è scontento dell'andazzo generale perché Fon Caprivi continua a proporre le sue dimissioni quando non riesce a fare quello che il Kaiser gli chiede ha ancora la mentalità più militare che politica per cui come si pone se non riesco a portare in fondo la missione mi è stata affidata devo confessare di non esserne capaci e mi dimetto la crisi arriva nel 1894 dopo che Caprivi è stato cancelliere dal 1890 appunto al 1894 e il Kaiser accetta finalmente le dimissioni di Fon Caprivi che gli sono state offerte avanzate per l'ennesima volta e lo sostituisce con un'altra figura che è appunto il principe Fon Oelloe che fra l'altro è un uomo anziano ha 75 anni è bavarese cattolico quindi il Kaiser si dimostra molto aperto nella scelta dei suoi collaboratori con il quale ha un rapporto particolare perché sostanzialmente il Kaiser è scontento della figura del cancelliere e pensa di dover mettere mano lui alla soluzione dei problemi tedeschi per cui sceglie un cancelliere al quale può rivolgersi appunto come zio e comincia a individuare una serie di figure dentro il governo con le quali avere un rapporto privilegiato comincia a dare istruzioni direttamente ai funzionari in qualche modo stressa ancora di più la carica di cancelliere contando sul fatto appunto che o e lo è anziano e comunque molto disponibile nei suoi confronti debba occuparsi solo di un vago coordinamento dell'attività poi ciascun ministro è chiamato a trovare personalmente su ciascun singolo progetto la maggioranza necessaria a farlo approvare di questo periodo è il cosiddetto caso Köller chi era Köller era il ministro degli interni ministro degli interni di estrema destra reazionario ministro degli interni quindi responsabile dell'ordine pubblico con il quale il Kaiser ha un rapporto strettissimo tanto stretto che Köller provvede a raccontare al Kaiser che cosa succede nelle riunioni del governo invece di affidare questo compito che sarebbe del cancelliere e addirittura lo informa in maniera di forme diversa da come fa il cancelliere la cosa esplode a proposito dei tribunali militari perché i tribunali militari tedeschi erano i processi venivano condotti a porte chiuse sempre invece la spinta appunto della modernità e anche il rispetto di alcune regole elementari del diritto spingeva a immaginare che i processi diventassero pubblici in realtà nel contesto si tendeva anche a limitare i poteri di grazia del Kaiser però il governo era favorevole il Kaiser era contrario e Köhler raccontava tutto quello che succedeva nelle riunioni del governo al Kaiser e gliele raccontava anche forse a modo suo questo produce l'indignazione dei colleghi che praticamente gli dicono hai fatto la spia l'indignazione dei colleghi produce la necessità per Köhler di dimettersi Köhler avanza propone le sue dimissioni ma il Kaiser le rifiuta e quindi c'è una contrapposizione dura fra il governo e il Kaiser da una parte sta l'idea della collegialità del governo per cui il Kaiser fa le nomine però in fondo è il cancelliere che deve scegliere i suoi collaboratori dall'altra parte sta la concezione del Kaiser di mantenere il potere a sé scavalcando sistematicamente il cancelliere e dando degli incarichi separati e autonomi ai vari ministri la questione collassa praticamente perché Köhler se ne deve andare però è chiaro che dato che i ministri sono di nomina del Kaiser è impossibile che si mantenga una compattezza del governo capace di resistere appunto all'influenza del Kaiser il quale fra l'altro siccome non è affatto contento di come vanno le cose non è contento di o e lo e come cancelliere perché lui vorrebbe un qualcuno che sia capace di fare quello che lui pensa andrebbe fatto mentre invece è chiaramente impossibile ottenere una maggioranza in Parlamento che venga dal di fuori appunto c'è questa contraddizione del sistema che lo paralizza di fatto nella speranza di riuscire a organizzare una compagine di governo di suo gradimento il Kaiser in collaborazione con il suo grande amico Owen Lowe sviluppa un progetto di trasformazione totale per cui comincia a nominare dei ministri che secondo lui rappresentano esattamente i suoi desideri il simbolico di tutti è l'ammiraglio Von Tirplitz il creatore della flotta da guerra tedesca che viene individuato dal Kaiser o che forse individua lui il Kaiser perché poi come vedremo quando parleremo della flotta tedesca il Kaiser non è che fosse del tutto d'accordo con Von Tirplitz però ne è affascinato e quindi questa figura gli piace la nomina ministro ma in realtà il progetto vero che sta alla base del secondo periodo del mandato di Owen Lowe quindi praticamente a partire dal caso Collering Point 1896-1997 il progetto sviluppato insieme a Eulenburg è quello di portare una persona fidata al cancellierato attraverso un percorso anche lungo questo è uno dei pochissimi progetti di lungo periodo che il Kaiser riesce a portare a fondo e a sviluppare per alcuni anni si individua la persona che è un amico di Eulenburg che è Von Bulow al momento ambasciatore a Roma fra l'altro mentre fa l'ambasciatore a Roma conosce la moglie napoletana si sposa e questo gli darà sempre un'idea di grande fedeltà dell'Italia all'alleanza con i tedeschi forse maggiore di quella che esiste in realtà Von Bulow è quello che inventa la frase dei giri di Walzer se uno si fida della propria moglie se fa qualche giro di Walzer con qualcun altro non è un problema e questo Von Bulow individuato come la persona giusta per diventare cancelliere nel 1897 viene nominato ministro degli esteri viene nominato ministro degli esteri che è una delle cariche principali del governo tedesco dell'impero tedesco fra l'altro una delle cariche più libere perché dato che non ci sono molte questioni economiche quindi non ha bisogno di confrontarsi con il Reistag per delle questioni di spesa e che la politica estera secondo la costituzione tedesca dipende dal Kaiser è un ruolo di grande importanza molto libero la nomina di Von Bulow dipende dal fatto lui è un diplomatico e dal fatto che sarebbe ancora troppo poco prestigioso per diventare cancelliere ma che lo si vuole far crescere in questo progetto appunto ideato dal Kaiser insieme al suo fedelissimo amico Eilenburg che poi ha anche una fine abbastanza triste perché poi viene travolto da uno scandalo e l'assenza di Eilenburg dalla metà del primo decennio del secolo del secolo nuovo del 1900 è una cosa che lascia molto confuso il Kaiser comunque tornando a Von Bulow diventa ministro degli esteri e in questo ruolo è molto prossimo al Kaiser e in questo ruolo riesce a dimostrare una grandissima capacità che è quella di convincere il Kaiser di star facendo esattamente quello che lui vuole e addirittura viene fuori in Germania un modo di dire che è governare il Kaiser governare ma con la parola che usano i contadini per le bestie per cui riuscire a convincere il Kaiser che i suoi desideri vengono realizzati e questa è la virtù principale di Von Bulow per cui quando finalmente nel 1900 Eulenburg che è di 80enne non ce la fa più rassegna le sue dimissioni fra l'altro ormai isolatissimo da questa nuova compagine di governo che il Kaiser gli ha creato attorno finalmente Bernard Von Bulow diventa cancelliere del Rai con piena soddisfazione di Guglielmo II Von Bulow come dicevamo proviene dalla carriera diplomatica però non riesce sostanzialmente a gestire per la Germania una politica estera efficace e in fondo forse va considerato uno dei maggiori responsabili della situazione politica complessiva che porta alla Prima Guerra Mondiale lui basa la sua attività su due principi fondamentali uno la centralità della triplice alleanza che viene puntualmente rinnovata ed è un'alleanza che stretta ai tempi di Bismarck del primo Kaiser di Guglielmo I accompagna tutta la vita di Guglielmo II e arriva fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale anzi arriva dentro la Prima Guerra Mondiale perché allo scoppio della Guerra Mondiale l'Italia che è il terzo membro della triplice insieme a Germania e Austria e Ungheria l'Italia si comporta esattamente come previsto dal trattato cioè la Germania ha dichiarato guerra alla Francia e alla Russia questo non obbliga l'Italia a entrare in guerra e quindi l'Italia rimane neutrale bisogna aggiungere che nella triplice c'era un'indicazione precisa dell'Italia che viene accennata nella prima stesura del trattato e poi diventa sempre più vincolante aggiungono lettere di chiarimento postille articoli aggiuntivi per spiegare che l'Italia in ogni caso la guerra contro l'Inghilterra non la vuole fare a nessun costo l'Italia sostiene infatti che a parte l'amicizia con l'Inghilterra avendo delle coste smisurate e una flotta palesemente inferiore a quella inglese in nessun caso vuole entrare in guerra contro l'Inghilterra quindi possiamo dire che fino all'entrata in guerra dell'Italia il 24 maggio del 1915 gli accordi della triplice alleanza rimangono in vita però come appunto dal fatto che l'Italia entra in guerra contro la Germania e non a fianco della Germania dimostra che la triplice alleanza in qualche modo col tempo si fosse logorata l'altro punto ben più grave della politica estera di Von Bullow è il principio delle mani libere il principio delle mani libere significa che lui pensa che per la Germania sia utile non stringere trattati di accordo con altre potenze che vincono la Germania per cui la Germania di fronte a ogni situazione dovrebbe avere appunto le mani libere fra l'altro come vedremo poi andando avanti e arrivando al momento dello scoppio proprio della prima guerra mondiale le mani libere diventano sempre più legate dai rapporti strettissimi con l'unico alleato affidabile vero che la Germania continua ad avere ossia l'Austria e Ungheria ora questa politica di Von Bullow si poi concretizza in una serie di atteggiamenti che isolano sempre di più la Germania dal contesto internazionale e praticamente sembrano costringere gli altri attori della politica internazionale a mettersi d'accordo fra di loro segnatamente ai primi del novecento l'Inghilterra comincia a pensare di non essere più capace di mantenersi isolata rispetto al sistema delle grandi potenze qualche modo Von Bullow mutua il suo atteggiamento da quello inglese che era stato fino a quel momento quello delle mani libere l'Inghilterra avanza una disponibilità a fare un accordo con la Germania un accordo strategico con la Germania il problema è che esiste una vera conflittualità fra Germania e Inghilterra rispetto al controllo del mondo perché proprio nei primi anni del secolo avviene il sorpasso dell'industria tedesca rispetto all'industria inglese e l'Inghilterra è il paese che è padrone del mondo ancora non solo l'India buona parte dell'Africa il Canada un impero che tant'è si chiama proprio impero la regina Vittoria è imperatrice dell'India e un impero anche commerciale economico che la Germania vede un po' con invidia e un po' con la ragionevole richiesta di farne parte in qualche modo poi la Germania si sente umiliata da quello che è successo nelle guerre boere i boeri sono olandesi in teoria il Transvaal Kruger però i tedeschi hanno fatto investimenti nel Transvaal e ci sono dei coloni tedeschi che vivono lì la posizione della Germania sarebbe in qualche modo vicina a quella dei coloni del Transvaal e quando scoppiano le due guerre che poi portano all'annessione completa del Transvaal al Sudafrica all'impero inglese il sentimento popolare tedesco sarebbe filo boero non filo inglese e c'è una forte frustrazione nei tedeschi quando si rendono conto che non possono fare assolutamente niente per sostenere quelli che considerano i loro connazionali e a volte anche i loro interessi economici la Germania all'Inghilterra chiede sostanzialmente di contrattare una partecipazione al dominio del mondo l'Inghilterra invece chiede alla Germania di accettare un ruolo egemone per quello che riguarda l'Europa continentale e di lasciare all'Inghilterra il dominio del mondo non si trova un accordo ma non si trova anche per la scarsa disponibilità di Von Bullow a arrivare a stringere un accordo con l'Inghilterra che per esempio preveda il blocco dei progetti navali tedeschi che sono stati sviluppati a partire dal 1897 da Tirplitz e sostanzialmente un'accettazione dello status quo rispetto al quale la Germania può svilupparsi commercialmente ma non con quegli strumenti coloniali che invece il grandere anche del Kaiser comincia a desiderare comunque l'accordo fallisce il tentativo di accordo fallisce e l'Inghilterra comincia a guardare altri partner in particolare la Francia ora la Francia è un nemico storico dell'Inghilterra pensiamo a Napoleone ma non solo a Napoleone primo perché anche Napoleone terzo cade perché l'Inghilterra in qualche modo autorizza la Prussia di Bismarck a fare la guerra contro la Francia poi forse in parte si pente di quello che ha fatto però l'azione dell'Inghilterra è un'azione abbastanza antifrancese anche nella nascita dell'Italia del regno d'Italia l'Inghilterra è molto presente a fare saltare il piano francese che è quello di creare nel nord Italia uno stato dipendente dalla Francia e lasciare il resto dell'Italia tutto frammentato e suddiviso in modo da non crearsi un forte concorrente nel Mediterraneo invece l'Inghilterra sostiene la spedizione dei mille sostiene Cavour sostiene tutte le attività di insorgenza anche in Toscana e consente la creazione del regno d'Italia che chiaramente è concorrente alla Francia mentre invece per lei è uno stato nel quale avviene un rapporto nel Mediterraneo che sia alternativo appunto a quello francese però fallito l'accordo con la Germania l'avvicinarsi alla Francia diventa abbastanza naturale e dobbiamo ricordare che nel 1894 la Francia ha stretto un patto di alleanza molto solido con la Russia in questo contesto di avvicinamento scoppia però un evento internazionale di primaria grandezza che è la guerra russo-giapponese la guerra russo-giapponese che dura abbastanza a lungo perché dura quasi due anni dal 1904 al 1905 sconvolge un po' queste carte il gioco che si sta facendo in Europa perché il Giappone è il grande alleato dell'Inghilterra in Oriente la flotta giapponese i marinai giapponesi gli ammirali giapponesi hanno studiato tutti o in Inghilterra o negli Stati Uniti la tecnologia che consente ai giapponesi di battere i russi in maniera poi definitiva a Tsushima è una tecnologia inglese e comunque esiste un conosciuto rapporto di alleanza esplicito fra il Giappone e l'Inghilterra quindi la Russia si trova a combattere contro l'Inghilterra che si sta avvicinando alla Francia addirittura la stipula dell'accordo formale il primo accordo di intesa fra Francia e Inghilterra è di appena due mesi successivo allo scoppio della guerra fra Russia e Giappone per cui si arriva a una circolarità che il Giappone è alleato dell'Inghilterra che ha un'intesa con la Francia che è alleata con la Russia che è in guerra con il Giappone il cerchio non si tiene non si terrebbe e la Germania avrebbe tutte le possibilità di entrare dentro le maglie di questo sistema internazionale ma Bulov non ci crede non pensa che la Germania debba trovare un accordo fra l'altro è un momento di grande avvicinamento fra Germania e Russia perché poi in fondo il Kaiser pensa che lo Zar con il quale ha rapporti personali di amicizia gli sia molto più vicino del Giappone e anche il grande viaggio della flotta russa del Baltico che parte appunto dal Baltico fa tutto il periplo dell'Africa attraversa tutto l'oceano indiano per poi arrivare a quella tremenda giornata di Tsushima quando viene annientato dalle navi nippo inglesi possiamo dire così dell'ammiraglio Togo tutto questo viaggio è reso possibile dal sostegno logistico tedesco sostanzialmente dalle carboniere tedesche e dalla possibilità di fare ogni tanto sosta presso una base coloniale tedesca e addirittura il Kaiser nella sua maniera un po' pasticciona diciamolo perché lui abbiamo visto l'unica cosa che riesce a fare veramente un progetto di lungo periodo è giusto la nomina di Bulo e riesce a avere un incontro importante con lo zar Nicola II si incontrano con i loro yacht in una baia finlandese scambiano parlano qui e là e poi il Kaiser ha con sé un documento che potrebbe essere decisivo poi la storia dice Franco Cardini va fatta con i sé e con i mai quindi facciamo a sé e quel pezzo di carta fosse diventato un accordo internazionale forse il destino del mondo sarebbe cambiato di qualche grado e poi però sappiamo che pochi gradi di deriva sui tempi lunghi sulle lunghe distanze portano anche a grandi trasformazioni forse sarebbe stato uno strumento per rendere un po' più difficile lo scoppio della prima guerra mondiale comunque sostanzialmente il Kaiser ha di nuovo con sé una cosa che è molto simile al patto di rassicurazione quello che alla caduta di Bismarck nel 1890 non era stato firmato ora è chiaro è molto difficile immaginare che sia possibile un accordo fra Russia e Germania quando c'è già l'accordo fra Russia e Francia ed è un'alleanza difensiva che sfiora quasi quella offensiva ed è palesemente un'alleanza antitedesca però bisogna considerare il momento siamo nel 1906 la Russia ha perso la guerra e sono scoppiata quella che si chiama anche la prima rivoluzione russa quindi più o meno dalla prima rivoluzione russa il Kaiser esce anzi poi esce così tanto e riesce anche a fare la prima guerra mondiale ma è in un momento di prostrazione per cui riuscire a stipulare un rapporto con i tedeschi che gli garantisca la pace sull'immenso confine che c'è fra la Russia e la Germania per lui sarebbe positivo e per i tedeschi è il momento buono per ottenere un rapporto di quel genere certo un accordo di quel tipo dispiacerebbe agli alleati austriaci però i tedeschi ne hanno bisogno durante la trattativa prima di partire Guglielmo II che poi non è così pazzo avventato come si dice si è fatto approvare da Fonbulo il documento quindi lui va lì non a titolo personale ma sta parlando per la Germania con l'autorizzazione del cancelliere del ministro degli esteri nel momento della stipula viene aggiunta una clausola una clausola che limita la validità dell'accordo solo all'area europea esclude tutto quello che succede nel resto del mondo il Kaiser sostiene di averlo aggiunto addirittura a lui perché non vuole rimanere impicciato in un'altra guerra con i giapponesi nella quale i tedeschi non c'entrano nulla o peggio una guerra con gli inglesi nel caso riprendano il grande gioco lungo i confini con i confini stranissimi su questi alti piani che ci sono fra la Russia e l'impero indiano quindi l'impero inglese tornato a Berlino il Kaiser si vede bocciare l'accordo da Fonbulo anche i russi sarebbero in difficoltà a ratificarlo ma c'è da domandarsi come potrebbero rifiutarsi di ratificarlo i russi nelle condizioni nelle quali sono certo stiamo parlando di sottilezze diplomatiche perché esiste l'alleanza fra Francia e Russia e la Russia non intende denunciare quell'alleanza però un patto di rassicurazione con la Germania comincerebbe un po' a riaprire il gioco delle potenze e metterebbe in evidenza l'accordo anglo-francese che poi è costato alla Russia di fatto la sconfitta nella guerra russo-giapponese che non ci sarebbe stata nel caso i giapponesi avessero dovuto combattere con le sole tecnologie di cui dispongono comunque Fonbulo lascia cadere l'occasione da quel momento c'è una serie di crisi in particolare c'è le crisi del Marocco nelle quali l'attività diplomatica tedesca di Fonbulo è un'attività tutta di potenza sempre impegnando la Germania in dei bracci di ferro violenti con la Francia l'idea di Fonbulo è che lui vuole dimostrare che nell'alleanza con la Russia nell'accordo anglo-francese servono a nulla perché tanto poi ci hanno paura e sono costretti a cedere e praticamente lui tenta di dare dei colpi da riete a questi sistemi di alleanza che si sono organizzati producendo esattamente l'effetto contrario l'alleanza tutte le volte si stringe un po' di più si stringe un po' di più e spesso comporta anche delle sconfitte diplomatiche per la Germania che poi vengono negate in particolare nella seconda crisi marocchina succede che i francesi che già alla fine della prima crisi marocchina hanno cominciato a interessarsi in maniera particolare del Marocco e che hanno effettuato un intervento nella capitale un intervento militare a Fez per sostanzialmente per sedare una specie di rivolta che c'è stata lì ma avvertendo tutti in maniera molto tranquilla si vedono contestare dalla Germania il fatto che stanno occupando il Marocco i tedeschi mandano anche una nave da guerra e poi esigono che ci sia una nuova conferenza a proposito del Marocco i tedeschi partono per impedire ai francesi di trasformare il Marocco in un loro protettorato e esigono delle compensazioni per questo e poi tutto finisce con il fatto che i tedeschi ricevono un pezzo di Congo e però il Marocco diventa protettorato anche se in apparenza è una vittoria della diplomazia tedesca in realtà i tedeschi non ci hanno guadagnato niente hanno solo irritato ulteriormente le altre potenze europee ci sono dei piccoli sottoprodotti però in questo evento ulteriore di Algesira di tutta la lunga crisi marocchina ci sono dei sottoprodotti che sono in qualche modo interessanti per l'Italia ma sono anche molto importanti per proprio gli anni successivi perché sono le occasioni nelle quali un pochino sta nascendo quel filo rosso che poi praticamente è come una lunghissima miccia che si accende e poi porta alla prima guerra mondiale chiaramente lo scoppio è dovuto all'esplosivo però anche la miccia alla sua importanza perché nel contesto della crisi marocchina si inseriscono di straforo le pretese italiane su quella che chiamiamo la Libia e che allora sono solo la cirenaica e la tripolitania perché gli italiani in quel contesto continuano per l'ennesima volta a farsi assicurare da tutti che possono occupare tripolitana e cirenaica e addirittura proprio in quel periodo fanno un'altra operazione di quelle di queste diplomazie parallele fatte sul bordo del lecito fanno un accordo con la Russia un accordo con la Russia che prevede la mano libera italiana in Libia in cambio dell'assenso italiano all'occupazione di Costantinopoli e degli stretti da parte della Russia nel caso di collasso dell'impero ottomano è un accordo molto discutibile perché l'impero ottomano è quasi un alleato della Germania che è alleato dell'Italia e qui si prevede invece che vada a finire a quel paese però la Russia è l'ultima delle potenze che manca gli italiani per farsi dare il permesso di conquistare la Libia perché tedeschi e austriaci sono alleati attraverso la triplice e francesi siccome hanno preso il Marocco hanno detto che in cambio gli italiani possono prendere quello che vogliono cioè l'unica cosa che rimane gli inglesi sono abbastanza favorevoli a fermare l'espansione francese nel Nord Africa che ormai hanno già la Tunisia l'Algeria adesso anche il Marocco quindi c'è una disponibilità affinché l'Italia possa effettuare la conquista della Libia ora la conquista della Libia è un altro momento importante di rottura della triplice perché cosa succede che Giovanni Gioliti il presidente del consiglio italiano eletto da pochissimo dell'Undici pensa di utilizzare la guerra di Libia come strumento di politica interna lui lo nega nelle sue memorie Giolitti lo nega però è difficile trovare un'altra motivazione per un'operazione che viene condotta con una fermezza e una durezza abbastanza raria anche nell'esperienza sia diplomatica che militare italiana perché sostanzialmente Giolitti vuole la guerra cosa che i tedeschi assolutamente non vogliono per cui c'è tutto questo ci sono queste vicende a Costantinopoli con l'ambasciatore italiano che viene inseguito dal dal visir che è sollecitato dal tedesco e gli dice ma questi vogliono fare la guerra ma promettetegli qualunque cosa perché la Germania non vuole la guerra fra due stati che in qualche modo gli sono vicini e fanno parte del suo sistema e poi esiste un timore condiviso per quello che può succedere nei Balcani per cui noi assistiamo al fatto che Costantinopoli offre all'Italia di prendersi direttamente tutta la Libia alle stesse condizioni della Tunisia per la Francia e dell'Egitto per l'Inghilterra e l'Italia che rifiuta perché l'Italia pretende di ottenere da Costantinopoli la sovranità sopra la Libia ora il concetto di sovranità è un po' come la coperta corta si tira un po' come si vuole bisogna pensare che l'Egitto è ancora sotto la sovranità formale di Costantinopoli allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l'Egitto combatte insieme agli inglesi contro l'impero ottomano quindi la sovranità volendo è anche solo una parola però Giolitti dice no facciamo la guerra piuttosto che non ottenere la sovranità facciamo la guerra si tratta anche di un grandioso errore militare nel senso non si può accusare Giolitti di non essere un esperto di tattica o di strategia certo il generale Pollio che è capo di stato maggiore quando gli viene chiesto che cosa serve per conquistare la Libia cioè Tripolitano e Cirenaiche che erano separati dà una risposta che non sta in piedi lui dice che secondo lui un corpo di spedizione di 22.000 uomini può essere sufficiente per battere i circa 8.000 soldati turchi che si supponeva ci fossero in Libia ora il fatto è che Giolitti dice mandiamone 44.000 così siamo sicuri non c'è problema ora la questione è che è vero che ci sono solo 8.000 soldati turchi in Libia la stima era esatta la stima degli italiani è anche vero che la Libia aveva all'epoca circa 2 milioni di abitanti ed è tuttora grande parecchie volte più dell'Italia è un posto enorme l'idea che con 44.000 soldati lo si possa conquistare è un'idea abbastanza assurda anche perché che cosa significa conquistare conquistare in termini coloniali è una cosa tremenda comunque da questa crisi marocchina discende la convinzione italiana che sia il momento buono per impadronirsi della Libia da questa convinzione discende l'idea di Giolitti che sia opportuno per l'Italia farlo manumilitari in modo da conseguire una vittoria di prestigio e scoppia la guerra fra due potenze europee potenze europee abbastanza di secondo rango se vogliamo potenze europee molto di secondo rango quali l'Italia e l'impero ottomano però potenze europee la guerra sta tornando dentro l'Europa e il ministro degli esteri italiano San Giuliano prima che cominciasse tutto ha scritto a Giolitti quelle cose si scrivono perché restino infatti sono rimaste in tutti i libri dicendogli se noi interveniamo in Libia contro l'impero ottomano siamo a rischio di far esplodere una gravissima crisi nei Balcani come puntalmente avviene gli anni di Von Bullov sono anche gli anni più intensi della della cosiddetta gara navale corsa navale che si scatena fra Inghilterra e Germania quali sono i termini della questione abbiamo visto che nel 1897 Guglielmo II ha nominato l'ammiraglio Von Tirplitz alla carica equivalente a quella di ministro della marina italiana ora Von Tirplitz è un sostenitore della necessità per la Germania di disporre di una potente flotta da guerra d'alto mare al limite in grado di competere con quella inglese ora è un'idea che si basa sul fatto che Tirplitz più volte si dichiara convinto dell'ineluttabilità dello scoppio della guerra fra Inghilterra e Germania e pensa che dato che l'Inghilterra è una grandissima potenza navale la maggior potenza navale del mondo per la Germania sia necessario uno strumento in grado di impegnare almeno se non proprio di sconfiggere la potenza navale inglese è un'idea che in Germania non tutti condividono e sembra neppure Guglielmo II sia del tutto d'accordo con Tirplitz anche se è affascinato dalla sua personalità l'ipotesi alternativa sarebbe di costruire invece che navi di linea cioè corazzate le unità maggiori in grado di impegnare la flotta inglese in un confronto diretto di costruire semplicemente una serie anche abbastanza larga di incrociatori per garantire una presenza tedesca nel mondo e per proteggere in qualche modo gli interessi economici tedeschi in giro per tutto il mondo ora le due idee sono in contrasto sono in contrasto tale che il predecessore di Tirplitz che è favorevole alla politica degli incrociatori si vede bocciare il suo progetto dal Reichstag e questo sostanzialmente porta alla nomina di Tirplitz il progetto apparentemente è senza grandi speranze la flotta inglese è sterminata però nel 1898 Tirplitz riesce a far approvare una legge navale la prima grande legge navale tedesca che prevede una grande espansione della flotta tedesca della flotta da guerra di prima linea composta di corazzate esiste una leggenda semplificatoria che immagina che in realtà sia Guglielmo II che vuole avere anche lui una grande flotta da guerra e che questo desiderio si sia concretizzato proprio nel 1897 è per il giubileo di diamante della regina Vittoria perché Guglielmo II va per l'occasione a Londra a trovare la nonna e in quell'occasione c'è una gigantesca sfilata navale cioè tutti gli ospiti che sono i regnanti di tutto il mondo assistono a questa gigantesca sfilata navale nella quale l'Inghilterra mostra la sua potenza e così questa immagine un po' semplicistica anche del Kaiser che lo fa molto più sempliciotto di quanto non fosse immagina che in quell'occasione lui in qualche modo sia preso d'invidia dalla nonna dall'Inghilterra e poi immagini che la potenza di una nazione sia sostanzialmente la sua potenza sul mare per cui deciderebbe in quell'occasione di impegnare il suo paese a costruire una grande flotta va detto che all'epoca circola molto anche il libro di Alfred Mann che è uno studioso americano che insegna all'Accademia Navale di Annapolis che sostiene che le guerre vengono sempre vinte da chi detiene il controllo del mare cosa peraltro abbastanza vera che nella prima guerra mondiale si certificherà un'altra volta però le date le date stesse cioè un controllo delle cronologie che poi è alla base di ogni analisi storica prima guardiamo le date poi si vede che interpretazione ne possiamo dare dimostrano il contrario perché Von Tirplitz viene nominato al ministero tedesco della guerra prima che ci sia ci siano i festeggiamenti per il giubileo di diamante della regina vittoria comunque è vero che il Kaiser poi si lascia convincere da Tirplitz della necessità della flotta e sostiene sempre i progetti navali tedeschi si tratta di progetti navali che fino a un certo punto sono possiamo dire abbastanza velleitari perché la flotta inglese è immensa mentre i cantieri tedeschi possono produrre un numero limitato di navi però nel 1906 succede una svolta tecnologica poi la tecnologia non va per continuità ma va per salti nel 1906 succede proprio in Inghilterra una cosa molto particolare che è diventato primo lord del mare l'ammiraglio Fischer questo Fischer è una figura molto pittoresca come parecchi ammiragli inglesi fa parte di quella generazione di marinai che si sono imbarcati quasi bambini poi sarà un tratto comune per esempio anche Gelico e l'ammiraglio inglese dello Yutland si è imbarcato giovanissimo poi è rimasto in mare tantissimo tempo hanno girato il mondo e hanno anche nesso su una mentalità bizzarra e lord Fischer che ormai mi pare 64 anni insomma abbastanza avanti in età però è un visionario a modo suo immagina che sia il momento di cambiare ha capito che la tecnologia potrebbe cambiare e sulla base si dice di un articolo di un ufficiale del genio navale italiano Cuniberti immagina che sia venuto il momento per costruire una nave completamente diversa da quelle che solcano i mari in quegli anni molto più potente e che di conseguenza l'Inghilterra debba essere la prima a disporre di questo nuovo tipo di navi e allora lui praticamente riesce a imporre la produzione di nel 1906 la produzione di questa nave del futuro praticamente che prenderà il nome di Dreadnought che viene varata il 10 gennaio 1906 dopo una corsa impressionante perché ci vuole meno di un anno per terminare questa nave che è una nave da 20.000 tonnellate una nave enorme la cui caratteristica è duplice nel senso che ha un armamento e una velocità fino a quel momento assolutamente sconosciute questo dipende da tre fattori uno che si è riusciti a fare sparare anche i cannoni più grossi con una celerità abbastanza veloce prima le navi da guerra erano armate di cannoni più grossi che sparavano molto lentamente di cannoni piccoli che invece potevano avere un ritmo di fuoco abbastanza veloce adesso anche i nuovi cannoni possono sparare delle salve abbastanza ravvicinate quindi dei cannoni piccoli c'è molto meno bisogno e quindi la Dreadnought è la prima nave cosiddetta monocalibro quindi il cui armamento principale è assolutamente prevalente su tutte le altre armi e l'altra innovazione sono i motori a turbina anziché i motori alternati i motori alternati sono praticamente quelli con lo stantuffo mentre i motori a turbina sono quelli che girano in continuo il fatto di girare in continuo e per una nave che va a elica avere un moto che parte come rotatorio è un grosso vantaggio rispetto al movimento di uno stantuffo e poi bisogna di un sacco di ingranaggi per essere trasformato nella rotazione di una elica poi la macchina proprio rotatoria consuma meno energia è più più conveniente può sviluppare più potenza dato un ingombro limitato dalla grandezza della nave insomma questa nave può andare velocissima a questo si aggiunge il fatto che Fischer con una mentalità diffusa nell'Europa dei primi del secolo perché poi noi immaginiamo che il mondo vada a compartimenti stagni per cui che so noi pensiamo che Marinetti e il futurismo siano una cosa e l'ammiragliato inglese sia un'altra invece il contesto culturale è dominante su tutti i movimenti siano artistici o siano proprio il pensiero dei militari per cui Fischer pensa che le navi debbano essere veloci e potenti e non importa se hanno poca corazzatura perché lui sostiene se una nave è ai cannoni più grossi ed è più veloce delle altre è in grado di stabilire lei la distanza del combattimento di sparare senza che quell'altro possa avvicinarsi e rispondere al fuoco per cui il suo vantaggio è tale che non c'è bisogno della corazzatura e anzi se si sopprime o si limita moltissimo la corazzatura la nave va ancora più veloce e il suo vantaggio aumenta e queste sono le caratteristiche della dreadnought che produce un risultato immediato tutte le altre navi degli altri tipi sono obsolete questo avviene nel 1906 e questo apre per la Germania la possibilità concreta vera di fare una corsa navale con l'Inghilterra la possibilità in realtà è molto più remota di quanto non si creda perché anche se nel 1906 la produzione di acciaio tedesca è superiore a quella inglese questo non significa che i cantieri tedeschi siano in grado di produrre più navi di quelle inglesi come si dimostra praticamente subito perché la Germania lancia una serie di progetti navali che Tirplitz puntualmente riesce a farsi approvare ma questi progetti navali che poi sono dopo quello del 1898 dopo quella del 1900 ci sono altre tre leggi navali in Germania nel 1906 nel 1908 e nel 1912 ma l'Inghilterra è sempre in grado di rispondere con la sua strategia con il suo metodo che è quello di two kills for one cioè impostare due navi per ogni nave che viene impostata dai tedeschi ed è una cosa che possono fare per il grande vantaggio che hanno cantieristico nel senso hanno più cantieri l'Inghilterra in quegli anni produce navi per tutto il mondo e secondariamente per il fatto che l'Inghilterra non ha un esercito o ha un esercito molto limitato perché non ha bisogno di un esercito ha un esercito coloniale l'impianto dell'esercito inglese è quello di fare degli interventi mirati in giro per il mondo mentre invece la Germania in quegli anni di corsa agli armamenti molto brillante se vogliamo usare questo termine che sicuramente è improprio per la corsa agli armamenti deve affrontare spese enormi per l'esercito ha un esercito gigantesco che va mantenuto che va armato quindi la spesa militare tedesca dedicata alla marina è molto inferiore di quella inglese c'è una una frase di di Churchill a riguardo che lui in realtà pronuncia queste parole poco prima della guerra un paio d'anni forse nemmeno prima della guerra lui dice per noi inglesi una marina da guerra è una necessità per i tedeschi è un lusso essendo un lusso i tedeschi non possono pagarla quanto la pagano inglesi comunque la marina tedesca diventa rapidamente la seconda marina del mondo e dispone di un numero molto elevato di navi navi che diventano sempre più grosse sempre più grosse sempre più grosse l'ultima legge del 1912 prevede ancora altre quattro corazzate più grandi di quelle che c'erano prima però sostanzialmente la corsa si è fermata o almeno ha rallentato perché è evidente che l'hanno vinta gli inglesi soprattutto la vincono gli inglesi perché lanciano un programma navale ancora innovativo quello della classe Queen Mary che è basato sull'idea di fare delle navi con dei cannoni ancora più grandi di quelli che si fossero mai visti cannoni da 381 come li chiamano gli europei mentre invece gli inglesi vanno in pollici e due di questi cannoni addirittura sono conservati le canne dei cannoni manca gli apusti ma comunque questi due cannoni sono conservati davanti al British Museum a Londra perché sono proprio diventati uno dei simboli della marineria inglese e questi cannoni vengono installati su navi che hanno la caratteristica di andare con macchine non più a carbone e neppure miste ma esclusivamente a gasolio a nafta questo comporta una serie di problemi spaventosi per l'Inghilterra perché dobbiamo ricordare che l'Inghilterra ha il carbone ma non ha il petrolio e queste nuove navi modificano la politica estera inglese dandole quel grande interesse che c'è per le aree medio orientali dove appunto si trova il petrolio e il petrolio si trova oggi ancora segnatamente Iraq Iran tutto il golfo ma allora se ne trovava ancora di più perché non si sapeva che c'era il petrolio in altri posti del mondo quindi era quasi un produttore esclusivo di petrolio l'Inghilterra ne ha bisogno e questo determina anche un cambiamento della politica internazionale inglese fino ad allora ben disposta sostanzialmente a difendere l'impero ottomano per sostenere la pressione della Russia verso il Mediterraneo che essendo il sovrano su quei territori dove c'è il petrolio diventa per l'Inghilterra un nemico un concorrente perché l'Inghilterra pensa di avere una necessità strategica del controllo di quei pozzi del petrolio quindi facendo navi e costruendo navi si determinano dei grossi cambiamenti ora si è soliti affrontare la questione della corsa navale tedesca solo dal punto di vista così strettamente militare e a immaginarlo come una specie di follia di sogno di grande rivalità bisogna ricordare però che dietro a tutto questo ci sono anche dei fenomeni più complessi che poi danno ragione del fatto che due anni dopo avere bocciato un progetto navale meno di due anni dopo avere bocciato un progetto navale che prevedeva la costruzione di un po' di incrociatori il Reichstag sia disponibile a votare la legge navale di Tirplitz che è enorme al confronto questo dipende anche dal fatto che le leggi navali tedesche sono una sorta di intervento pubblico nel sistema economico tedesco in che senso sono un intervento pubblico dobbiamo immaginare un'economia nella quale le acciaierie la produzione di acciaio è una delle attività dominanti la cantieristica è una grande attività ora noi siamo abituati a forme di sostegno pubblico un po' diverse anche se tuttora la costruzione di qualche nave da guerra sostiene un cantiere e quindi ha un significato pubblico all'epoca di sviluppo dell'industria siderurgica tedesca sviluppo violentissimo poter contare a fianco delle normali commesse commerciali e civili su delle enormi commesse militari significava per gli Stum i Krupp questi grandissimi industriali tedeschi significava un grandissimo volano nelle loro attività tant'è noi sappiamo che a sostenere la politica navale tedesca la necessità di avere una grande flotta a fare sostanzialmente il marketing di questa ricostruzione della flotta tedesca c'era la cosiddetta lega navale che era un'associazione di volontari che erano appassionati di mare tedeschi e quindi che volevano lanciare questo progetto di costruzione di una grande flotta ora noi sappiamo che i finanziatori di questa lega navale che in realtà aveva pochi soci ma aveva una voce importantissima per la Germania i finanziatori erano giusto i produttori di acciaio in buona sostanza quindi non si trattava di contributi così volontari ma di veri e propri investimenti per indurre il governo tedesco ad approvare queste leggi navali e quindi a fare funzionare il loro sistema comunque noi sappiamo poi che a fianco di questo sviluppo navale c'era anche tutto uno sviluppo tecnologico perché i sistemi di puntamento delle navi erano una cosa raffinatissima abbiamo tutta l'industria ottica tedesca che era molto all'avanguardia che va a fianco della siderurgia dell'industria pesante allo scoppio della prima guerra mondiale uno dei problemi inglesi è che restano senza canocchiali sulle navi inglesi i canocchiali sono tedeschi e per cui i tedeschi non gli vendono più i canocchiali e loro non sanno come fare hanno bisogno di canocchiali nuovi e se li devono procurare facendo complicati giri attraverso la svizzera poi comunque questo è un dettaglio però che dà anche una luce diversa a quella che se no sembra solo un'esperienza pazzesca quella di pensare di costruire un sacco di navi da guerra spendendo un sacco di soldi per fare la concorrenza agli inglesi che comunque in ogni caso ne avrebbero avute di più è una sorta quasi di politica economica pre-kenesiana che investe il denaro pubblico e lo fa girare attraverso delle produzioni che vengono ritenute le produzioni di punta per l'economia e per la tecnologia dell'epoca questo è un altro sicuramente dei caratteri del del governo di von bulow ed è anche chiarificatore di qual è quella grande politica di sviluppo economico che lui riesce a realizzare perché se come abbiamo visto la sua politica estera nella quale avrà dovuto essere lo specialista essendo diplomatico è possiamo dire perdente la sua politica interna sicuramente è di grande efficacia comunque anche anche il rapporto fra von bulow e il Kaiser poi alla fine si logora tant'è che è difficile anche nei rapporti umani il cancellerato di bulow è molto lungo dura otto anni poi anche lui cade a dei problemi con il Reistag e alla sua caduta viene sostituito da Bethman è un'altra di quelle figure sicuramente lontane dalla grande personalità di Bismarck perché poi il Kaiser sicuramente ha il limite di non cercare mai un grandissimo statista la Germania non glielo offre il sistema parlamentare tedesco del quale abbiamo già detto molte volte non prevede che i politici che si formano nel Parlamento diventino uomini di governo e quindi c'è questa cesura certo anche Bethman non è una figura di primissimo piano e anche lui porta con sé quell'insieme di insicurezze e goffaggini in politica estera che caratterizzano l'agire della Germania imperiale ed è una cosa per un verso strana e per un altro comprensibile perché manca la tradizione in diplomazia la tradizione è importantissima e la Prussia non ha una tradizione diplomatica gli stati tedeschi che confluiscono nell'impero neppure e quindi ci sono delle difficoltà sia a elaborare una strategia che poi a tradurla nelle azioni conseguenti in più la condizione della Germania è realmente particolare perché grandissima potenza economica e militare proprio in mezzo all'Europa è estremamente scomoda per tutto il resto dell'Europa comunque anche Bethmann non riesce a coordinare una politica estera che riesca a garantire alla Germania la situazione di pace di cui ha bisogno abbiamo visto prima che anche di fronte alla crisi fra Italia e l'impero ottomano la Germania non è capace arriva dopo non è capace di imporre all'Italia la soluzione che sarebbe stata accettabile anche per l'impero ottomano del trasferimento della Libia in maniera pacifica che probabilmente avrebbe perlomeno ritardato lo sviluppo di quello che stava accadendo nei Balcani perché noi siamo sempre così portati a pensare che la guerra ci sarebbe stata in ogni caso anche senza i Balcani la guerra era stata evitata altre volte perché crisi internazionali si presentano ciclicamente nel contesto europeo prima del 1914 e un po' con la ragionevolezza un po' con il desiderio di pace un po' per la valutazione di che cosa poteva essere la guerra rispetto alla pochezza degli interessi che erano di volta in volta in gioco tutte queste crisi vengono risolte la crisi dei Balcani è una crisi particolare e rispetto alla crisi dei Balcani la Germania di Batman assume un atteggiamento estremamente debole rispetto all'Austria e Ungheria praticamente la Germania che all'epoca di Bismarck aveva convocato la conferenza di Berlino del 1878 nella quale i Balcani erano stati riorganizzati dopo la guerra russo-ottomana e si astrae praticamente da quello che succede nei Balcani e affida la gestione di tutta la vicenda alla diplomazia viennese dando una serie continua di assicurazioni di sostegno totale della Germania alla volontà austriaca sicuramente è un atteggiamento che eccita il desiderio di rivalsa austriaco nella regione e anche gli austriaci sull'esempio degli italiani in Libia senza aver visto che anche l'esperienza libica degli italiani non era poi andata benissimo anche gli austriaci sull'esempio italiano in Libia cominciano a immaginare di poter risolvere i grossi problemi interni che hanno perché le molte nazionalità presenti nell'impero rischiano di essere conflittuali anzi sono conflittuali hanno delle pretese sono organizzate malamente perché c'è il privilegio degli ungheresi oltre a quello dei tedeschi ovviamente in opposizione agli slavi e agli italiani per cui pensa che il governo di Vienna alcuni molti cominciano a pensare che una bella guerra con una vittoria militare possa essere un elemento utile a ricompattare l'impero e in questo si vedono assecondati dalla Germania in una maniera della quale non c'era assolutamente bisogno e anche qui Bethmann che è il cancelliere è sicuramente responsabile di questo prima di procedere nella nostra via che porta poi non si sa quanto in maniera inesorabile allo scoppio della grande guerra bisogna fare un passo indietro perché per parlare di Guglielmo II bisogna anche parlare dei suoi viaggi e di uno in particolare Guglielmo II è una persona attiva gli piace viaggiare è abituato a farlo fin da ragazzo è andato molto in giro è stato in Russia in Inghilterra è stato più volte a Vienna e quando diventa Kaiser continua in questa sua abitudine e c'è la stagione berlinese quando bisogna stare a Berlino che però dura stranamente solo l'inverno perché poi per la verità d'estate va molto caldo a Berlino e la stagione praticamente va da un po' prima di Natale a Pasqua dopo è il periodo dei viaggi e dove viaggia Guglielmo II lui ama il mare anche se è un uomo assolutamente di terra con una tradizione familiare che lo lega alla terra è una tradizione familiare anche abbastanza contraria al viaggiare che non è uno dei caratteri dei re di Prussia Federico II Federico il Grande che aveva anche tutta una serie di abitudini e di gusti che lo legavano all'illuminismo che lo legavano agli ambienti musicali era una persona che anche se se ne andava in giro con una giacca tutta sporca e rattoppata suonava il flauto insomma aveva tutta una serie di interessi anche alti sofisticati per esempio non va mai a Parigi perché non gli piace viaggiare come non piace a Guglielmo I o al nonno di Guglielmo II invece il nuovo Kaiser ama viaggiare e ama molto viaggiare per mare tant'è che lui trova uno yacht regale lo yacht imperiale che si chiama Enzoller e decide subito che ne va costruito uno nuovo e si fa costruire poi lo Enzoller che è diventato insomma noto se non famoso è stato sui francobolli è andato in giro un po' per il mondo e questo yacht è qualcosa di più di uno yacht praticamente è una nave 4500 tonnellate di dislocamento non di stanza perché praticamente è una nave da guerra è armata c'ha 10 cannoni e tant'è pagata con i fondi della marina perché addirittura se ne prevede un possibile impiego come nave comando per la flotta nel caso succeda una guerra e poi ovviamente non verrà mai impiegato a quello scopo e questo Enzoller nello yacht o la nave col quale tutte le estati lo zar fa la sua crociera con i suoi amici Oillenburg soprattutto ma anche con qualche ministro sono i momenti nei quali si rilassa chiacchiera e fa una serie di progetti abbastanza visionari ovviamente è la nave con la quale passa in rassegna la flotta con la quale spende il suo tempo forse migliore lui fin da ragazzo e va sempre amato il mare si ricorda che quando era con sua madre sua madre la figlia della regina Vittoria aveva queste abitudini inglesi e fra l'altro dipingeva ad acquarello e allora anche il giovane allora principe dipinge ad acquarello e dipinge sempre delle marine perché proprio è affezionato a questo tema del mare fra i molti viaggi che fa ce n'è uno in particolare che deve essere raccontato e che è il viaggio del 1898 un viaggio molto lungo perché va nel Mediterraneo Guglielmo II nel Mediterraneo però non si ferma all'inizio del Mediterraneo perché arriva fino a Costantinopoli poi da Costantinopoli va in Palestina poi si reca a Gerusalemme si reca a Damasco e si reca a Beirut insomma è un grande viaggio nell'impero ottomano e è un viaggio come si può immaginare che non ha solo un significato così di diporto di crociera ma è un viaggio che ha un significato politico profondo per questo poi è anche così interessante così importante perché sottolinea i rapporti stretti che ci sono fra la Germania e l'impero ottomano e dietro a questi rapporti di amicizia ci sono dei grandi progetti politici il viaggio viene fatto nell'autunno del 1898 ed è il 20 ottobre quando Loen Zollern arriva a Costantinopoli che si chiama ancora Costantinopoli ancora non è diventata Istanbul lo diventerà quando con la nascita della Turchia della Turchia moderna di uno stato nazionale Costantinopoli ancora la capitale di un grande impero un impero che ha dei territori ancora europei la Rumelia che arrivano proprio fino all'Adriatico perché l'attuale Albania fa ancora parte dell'impero ottomano e dall'Albania poi c'è una lunga striscia anche lunga e larga striscia di territori che arrivano fino a Costantinopoli e poi da lì si scende si scende e nel 1898 ancora pezzi di Africa tutto quello che chiamiamo Medio Oriente tutta la zona arabica fanno parte oltre all'Anatolia dell'impero ottomano arriva dicevamo il 20 di ottobre a Costantinopoli e arriva con un uno spiegamento abbastanza imponente di persone innanzitutto insieme all'Oenzoller c'è anche una seconda nave da quanta gente accompagna il Kaiser e poi lui non è andato come va di solito d'estate da solo lasciando moglie e figli a casa questa volta la Kaiserin l'imperatrice è con lui c'è Von Bulow che è già diventato ministro degli esseri c'è l'immancabile Eilenburg e poi nel suo staff ci sono tutti gli ufficiali e addirittura lo accompagna anche una notevole rappresentanza ecclesiastica perché a Gerusalemme è prevista l'importante inaugurazione di un edificio che è stato finanziato anche dal Kaiser l'incontro con il sultano che lui già conosceva perché il sultano era già stato a Berlino è un incontro molto amichevole c'è una grande ospitalità come poi si può immaginare l'Oriente quindi è anche un momento di esotismo c'è questa accoglienza queste questa il palazzo che viene assegnato al Kaiser al suo seguito al Signore all'Imperatrice per la verità gli ambienti sono fastosi ma sembra siano anche un po' sporchi tant'è l'Imperatrice e le damme del suo seguito un po' si risentono la tradizione vuole che passino la sera prima di mettersi a dormire a inseguire insetti con gli spilloni per sbarazzarsi di queste bestiace che girano per le loro stanze però va tutto benissimo grande grande intimità grande comprensione reciproca tant'è che il Kaiser si sente di chiedere al sultano ad Abdul Al-Hamid II gli chiede un regalo gli chiede di concedergli un pezzo di terra a Gerusalemme che non è un pezzo di terra qualsiasi ma è il luogo nel quale ci sarebbe stata la tradizione vuole che ci sia stata la dormizione della Madonna la dormizione della madre di Cristo addirittura il luogo ha la sua definizione latina il luogo dell'adormizio Beate Marie Virginis l'adormizio perché la Madonna non muore perché essendo nata senza peccato non può morire perché la morte è legata al peccato quindi siccome non può morire si addormenta e viene accolta in cielo dal dal Cristo c'è questa bellissima iconografia ortodossa legata alla dormizione alla quale gli ortodossi sono molto prossimi anche come come devozione e che vuole che ci sia la Madonna distesa e il Cristo che ha una specie di bambino in braccio e che è l'anima della Madonna che lui raccoglie immediatamente senza il passaggio attraverso la morte appunto ora il sultano ovviamente a seconda il Kaiser a seconda Guglielmo II gli regala questo terreno e poi un paio di giorni dopo Loen Zollern lascia Costantinopoli e si dirige verso la Palestina e lì l'accoglienza è ancora migliore perché Guglielmo II va in visita a Gerusalemme e lì a Gerusalemme entra attraverso la porta di Giaffa ora se uno è stato a Gerusalemme ha visto che la porta di Giaffa non è esattamente una porta ma è praticamente una via di accesso anzi l'unica via di accesso che esiste per entrare nella città vecchia in quella che poi comunemente si chiama Gerusalemme adesso Gerusalemme è diventata anche una grande città moderna anche molto vasta però la Gerusalemme quella della tradizione quella cinta dalle mura è abbastanza piccola ed è di difficile accesso ora per consentire a Guglielmo II di entrare il 29 ottobre del 1898 a Gerusalemme in una festa incredibile tutti i soldati schierati bandiere dappertutto popolazione festante e la porta di Giaffa viene praticamente distrutta si butta giù quel pezzo di mura e Guglielmo II entra praticamente in trionfo a Gerusalemme festeggiato in ogni modo l'occasione per andare a Gerusalemme in realtà è un'inaugurazione perché Guglielmo II con il suo seguito con l'imperatrice ma anche soprattutto con questo contorno di ecclesiastici tedeschi va a inaugurare a consacrare la chiesa luterana del Redentore che è stata costruita con appunto denaro tedesco in parte anche denaro dello Zara praticamente in prossimità della della Basilica della Ressurrezione dove si trova il santo sepolcro il luogo era quello dove prima c'erano dei resti dei ruderi di una chiesa addirittura amalfitana e la chiesa tedesca riesce a recuperare i diritti su quel luogo e costruisce questa chiesa luterana ora il Kaiser che ha queste idee anche abbastanza ampie sul mondo sulle possibilità sui rapporti su quello che deve essere la Germania perché si è fatto regalare il luogo della dormizione di Maria perché dopo che è stato costruito a Gerusalemme un sito dedicato ai protestanti tedeschi ne vuole costruire anche uno per i cattolici tedeschi e infatti se uno va a Gerusalemme poi può andare a visitare il luogo della dormizione e trova un edificio con un'architettura abbastanza insolita perché l'edificio viene costruito ai primi del novecento e viene costruito con un riferimento alla cattedrale di Aquisgrana però in uno stile in qualche modo moderno cioè gli architetti tedeschi incaricati di realizzare l'edificio ne fanno una cosa che ha dei sapori fra il Liberty e il Deco quando ci va Chesterton a vederlo dopo la prima guerra mondiale lo trovo molto brutto altri per esempio anch'io l'abbiamo trovato invece dotato di un notevole fascino ma poi le architetture hanno bisogno di un po' di tempo per assestarsi più che le architetture siamo noi che abbiamo bisogno di abituare il nostro sguardo a queste forme per cui quello che a Chesterton sembrava un edificio cupamente tedesco e troppo moderno a noi adesso appare appunto come un edificio in questi tratti dei primi del novecento che sicuramente non sono non hanno quella luminosità delle grandi vetrate gotiche però hanno quella capacità di dare un senso di raccoglimento abbastanza interessante in questa cripta sotto con tutta circolare con questi pilastri che la sostengono comunque è l'operazione che fra l'altro c'è anche un piccolo risvolto perché il Kaiser vorrebbe che fossero i francescani a occuparsi delle cerimonie della devozione nella nella nuova chiesa ma i francescani non accettano la sua clausola per cui dovevano essere di lingua tedesca i custodi della chiesa della dormizione i francescani dicono se ce la vuoi dare ce la dai però facciamo come vogliamo noi i francescani sono quelli fra i quali viene scelto il custode del santo sepolcro che è praticamente il rappresentante pontificio a gerusalemme appunto custode del santo sepolcro e però appunto forti della loro posizione rifiutano questa richiesta del Kaiser che mi pare poi invece sia stata accolta dai benedettini credo siano loro che custodiscono invece la chiesa della dormizione comunque il problema del Kaiser il problema l'intenzione del Kaiser è quella di dare dei segnali di interesse tedesco per gerusalemme per la regione e per una presenza che non sia solo una presenza diplomatica o economica in questo è stato preceduto dai russi dagli zar perché sempre andando a Gerusalemme se uno va sul monte degli ulivi trova addirittura due luoghi che sono un monastero e una chiesa che sono stati costruiti in stile assolutamente russo anche per questo la chiesa della dormizione viene costruita in stile tedesco perché i russi hanno costruito con le cupole quelle a cipolla è abbastanza strano arrivare in questo assolutamente luogo orientale arabeggiante e scoprire questi edifici di fine ottocento costruiti dai russi in stile praticamente moscovita neanche russo i russi hanno una tradizione di pellegrinaggio a Gerusalemme e esiste anche una tradizione dello zar di protezione degli ortodossi a Gerusalemme la stessa che il re di Francia poi addirittura anche Napoleone III rivendicano per i cattolici a Gerusalemme quindi c'è questo mix fra la devozione l'architettura e anche la tangibilità di un segno politico di presenza poi andrà anche a Damasco e a Beirut il Kaiser che forse almeno dalle sue lettere sembra gli piacciano quasi di più di Gerusalemme che lui ha trovato un po' confusa e in effetti la città vecchia con queste stradine il mercato la confusione può darsi non sia assolutamente in linea con lo spirito di un prussiano dei primi del novecento ma dietro a questi viaggi a questi incontri a questa presenza del Kaiser c'è in realtà un sogno anche per questo anzi probabilmente solo per questo questo viaggio diventa importante perché la Germania ha un progetto ha un grande progetto per per il Medio Oriente che è un progetto che si avvolge attorno a un'idea ingegneristica che è quella di costruire una grande ferrovia che vada da Hamburgo a Baghdad il sogno di questa grande ferrovia in realtà poi anche l'Orient Express è la prima traccia di questa cosa che però poi l'Orient Express noi vediamo sempre questi vagoni che vanno però bisognava scendere risalire mancavano dei pezzi perché era in costruzione ora questa ferrovia fra Hamburgo e Baghdad era pensata per trovare una diversa e nuova via di collegamento fra il mondo arabo e il centro dell'Europa il mondo arabo con tutto il retroterra anche asiatico che ha il centro dell'Europa immaginato come la Germania e senza la necessità di fare peripli di viaggiare via mare in realtà l'esperienza di queste grandi ferrovie è un'esperienza tipica della seconda metà dell'Ottocento nel 1869 era stata realizzata la ferrovia attraverso gli Stati Uniti quella dei film western quella e poi ci sono gli indiani che non vogliono e questa gara chi costruiva più ferrovia per poi incontrarsi a metà chi vinceva la gara aveva un grosso premio nella costruzione e a fronte di questo c'è anche l'idea di costruire una ferrovia attraverso l'Africa perché la ferrovia è il segno della modernità la ferrovia disegna nuove possibilità di collegamento economico ma anche culturale fra i popoli perché dietro a queste iniziative a questi sogni poi tali si sono rivelati dei tedeschi c'è anche un progetto di rapporto con il Medio Oriente un po' diverso da qua anzi molto diverso da quello che poi si realizzerà alla fine della prima guerra mondiale immaginano i tedeschi il Kaiser di avere un rapporto con un impero ottomano vitale infatti nelle sue lettere ci sono conservate le lettere che il Kaiser scrive allo Zar durante questo viaggio e parla della vitalità dell'impero ottomano che viene immaginato come un partner nella sua complessità lì siamo anche nel conflitto fra stati nazionali e imperi quello tedesco è un impero un impero federale un impero un po' sbilanciato però ha molti dei caratteri dell'impero come li ha in maniera assoluta il suo alleato austro-ungarico che appunto comprende nazionalità diverse culture diverse religioni diverse al suo interno e quindi il riconoscimento fra imperi è poi alla base di un desiderio di scambio che sia economico e culturale in vista di un rapporto che viene cercato fra l'Europa che in quel momento è la zona più dinamica più potente più ricca più in crescita del mondo e quello che è un impero di grande tradizione che ha in sé culture diverse perché c'è la cultura turca c'è la cultura araba c'è una presenza ebraica molto forte ci sono i greci quindi c'è una una coine in qualche modo di popoli con i quali i tedeschi pensano di dialogare nella loro complessità mentre invece ci sono altre forti spinte che sono quelle del nazionalismo che vorrebbero semplificare poi il problema della modernizzazione dell'impero ottomano sostanzialmente è tutto lì per modernizzarsi l'impero ha bisogno di rapporti con l'Europa di trasferimenti tecnologici dall'Europa di farsi insegnare come può funzionare la modernità però ogni collegamento ogni incontro mentre trasferisce tecnologia trasferisce saperi trasferisce anche cultura e la cultura europea è segnata profondamente dal nazionalismo che ha caratterizzato in buona sostanza tutto l'Ottocento e ancora deve conoscere i suoi momenti peggiori diciamo perché poi le guerre mondiali sono i momenti peggiori sono la tragedia del nazionalismo quindi mentre importa tecnologia all'impero ottomano importa anche questa sorta di veleno del nazionalismo che mette in fibrillazione le sue compagini e comincia a stimolare la componente turca a desiderare di fare uno stato turco e mette in difficoltà le componenti di minoranza le mette in difficoltà e fa nascere anche in loro per esempio il sogno di rionificazioni come poi si vedrà alla fine della della grande guerra quando la componente greca della costa anatolica avanzerà l'ipotesi peraltro sostenuta fino a un certo punto anche dagli inglesi di staccarsi da quella che sta diventando la Turchia per andare a far parte del regno di Grecia e per un certo periodo c'è infatti l'occupazione dei greci di Smirne di tutta la regione costiera della Turchia che la Grecia pensa di annettersi come ha fatto con altre parti notevoli dell'impero ottomano ha cominciato staccandosi dall'impero ottomano e poi si è allargata sempre conquistando zone territoriali per cui appunto sono due progetti diversi nei quali probabilmente il progetto tedesco non nazionalista di un rapporto sicuramente non neocoloniale è più moderno e più morbido di quello che poi si afferma invece alla fine della grande guerra quando tutta la regione araba dell'impero ottomano viene fatto a pezzi creando degli stati assolutamente inventati e che sono posti sotto il controllo o degli inglesi o dei francesi e addirittura si riconoscono gli stati che devono dipendere dagli inglesi da quelli che devono dipendere dai francesi perché quelli inglesi sono monarchie e quelli invece assegnati alla Francia sono repubbliche così che ognuno si è scelto anche il sistema di governo che si sente più prossimo per cui questo grande mondo arabo che aveva sognato così di rimanere unificato di diventare una zona anche potente del mondo viene costretto in una misura appunto neocoloniale anche perché si è scoperto che il petrolio serve si è scoperto che lì ce n'è tanto e lì convergono una serie di interessi che in nessun modo gli arabi dai quali in nessun modo gli arabi riescono a difendersi poi c'è anche la vicenda di Lorenz d'Arabia che promette agli arabi che potranno avere il loro grande stato arabo e poi rimane deluso da quelle che sono le successive decisioni del governo inglese si racconta che i confini siano stati tracciati in una notte da Churchill praticamente sulla carta geografica distruggendo quello che era un mondo unitario e probabilmente mettendo le basi di parecchi dei problemi che abbiamo noi adesso c'è Guglielmo II che racconta nel suo viaggio sempre in queste lettere allo zar poi le conosciamo per questo perché si sono conservate e gli dice mai un sovrano cristiano è stato accolto così bene nel mondo musulmano perché erano riusciti a creare la speranza di un incontro che fosse un incontro capace di essere positivo per tutte e due le parti che si incontravano e forse la mancanza di cultura coloniale dei tedeschi sarebbe stata utile a creare un rapporto più paritetico e poi questi sono sono pezzi della della storia che scompaiono comunque sono quelle strade che sarebbero state possibili che senza grande guerra forse sarebbero cresciute e siccome il problema dei rapporti con tutto il mondo islamico è un grosso problema e sicuramente le modalità nelle quali scompare l'impero ottomano hanno portato a incrudelire questi rapporti e forse da Guglielmo II e dal suo modo di affrontare il Medio Oriente e il mondo musulmano ci sarebbe qualche cosa da imparare e questo ce lo rende in qualche modo simpatico e riprendiamo adesso la nostra storia di come l'Europa si lancia dentro la tragedia della guerra mondiale della prima guerra mondiale quella che per vent'anni non è stata neanche la guerra mondiale ma è stata la grande guerra per eccellenza abbiamo visto che nel novembre dell'11 l'Italia dichiara guerra all'impero ottomano i tedeschi non riescono a impedirlo come al solito la loro diplomazia non si dimostra capace di gestire le situazioni è senz'altro una diplomazia inesperta è un po' pasticcione e in più l'eredità di Bullov ha lasciato la Germania abbastanza sola e quindi anche abbastanza impotente nel gestire anche le situazioni di contrasto fra quelli che sono poi i pochi alleati o stati vicini che ha quindi scoppia alla guerra gli italiani pensano di poterla risolvere in pochi mesi ma non è così perché conquistare la Libia è praticamente impossibile perché la Libia è grande cinque volte l'Italia territori enormi e occorrono mezzi che l'Italia non ha pensato di destinare in questa fase in più l'Italia manca assolutamente di tradizioni e di culture coloniali ora le guerre coloniali sono una cosa spaventosa forse addirittura peggiore delle guerre tradizionali perché la guerra coloniale si basa su due strumenti che sono il massacro e la corruzione sono due strumenti terrificanti perché bisogna per conquistare il potere coloniale piegare in maniera assoluta la volontà di indipendenza dei popoli che si intende colonizzare questo piegare la loro resistenza è praticamente impossibile se non con degli strumenti appunto di violenza e di corruzione che fra l'altro all'inizio del novecento cominciano a non funzionare nemmeno più quindi l'Italia poi risolverà a quel modo la conquista della Libia addirittura nel 32 dopo aver inviato Badoglio Graziani centinaia di migliaia di soldati avere fatto delle stragi incredibili avere deportato tutta la popolazione dal deserto sulla costa una cosa che sfiora il genocidio perché la la ribellione rimane rimane viva fino a quando c'è una popolazione capace di sostenere comunque nell'undici e nell'inverno fra l'undici e il dodici gli italiani si rendono conto che non è in Libia che possono vincere la guerra contro l'impero ottomano anche perché l'impero ottomano non pensa di poter cedere la sovranità sulla tripolitana e cirenaica perché per ragioni di politica interna gli italiani fanno la guerra per ragioni di politica interna e ragioni di politica interna impediscono all'impero ottomano di capitolare di fronte all'Italia non se lo possono permettere e allora l'Italia deve fare l'unica cosa possibile dopo avere fra l'altro proclamato ufficialmente l'annessione di cirenaica e tripolitani e quindi essersi tagliata i ponti per una soluzione diplomatica diversa deve estendere il conflitto bombardamento di Beirut bombardamento dei Dardanelli e occupazione delle isole del Dodecannese questo mette in difficoltà sempre maggiori il governo sultaniale che ha una strategia in realtà non è che non abbiano un'idea di come uscire dalla situazione il governo sultaniale pensa di tirarla per le lunghe il più possibile come è abbastanza facile farlo rifornendo di armi e di ufficiali soprattutto i ribelli nel deserto libico e attendere che la crisi diventi così grave da fare intervenire le grandi potenze che impongano una pace in qualche modo concordata cosa che salverebbe la faccia ai governanti di Costantinopoli e che prima o poi si augurano che debba avvenire e sicuramente avverrebbe se non succedesse un'altra cosa l'altra cosa è che gli stati dei Balcani che da anni desiderano appropriarsi dei territori turchi che sono ancora in Europa vedono nella guerra cosiddetta italo-turca l'occasione per fare valere la loro preparazione militare contro un esercito turco ottomano come si voglia chiamare in particolari difficoltà l'ultima guerra che c'era stata nella regione era del 1897 la guerra cosiddetta greco-turca che viene stravinta dai turchi quindi gli stati balcanici sono abbastanza preoccupati di tentare di giocare la carta della guerra contro l'impero ottomano però la situazione si presenta come favorevolissima perché l'impero in difficoltà è fiaccato sta combattendo contro una grande potenza e quindi si tagliano i tempi per una parte si teme che il collasso eventuale dell'impero ottomano possa portare a un intervento delle potenze che poi fanno come vogliono loro nella divisione dei territori dall'altra non si vuole perdere l'occasione di questo momento di particolare debolezza dell'impero per cui gli stati balcanici che hanno delle aspirazioni sui territori ottomani dei balcani che sono la Bulgaria che è il più potente poi la Serbia il Montenegro e la Grecia nel periodo che va dall'11 al 12 fanno una serie di incontri diplomatici di ogni genere ma anche pasticciati anche molto veloci per arrivare a un accordo che consenta di fare una guerra comune sulla base di qualche accordo pur sommario segnatamente ci sono gli accordi per esempio l'ultimo quello con il Montenegro con il re del Montenegro è un accordo addirittura verbale tutto quello che riesci a conquistare è tuo però altri stati come se soprattutto Serbia e Bulgaria che sono quelli che da più tempo pensano un accordo hanno firmato dei trattati con le carte geografiche tu prendi questo io prendo quello e quindi sono pronti a dare inizio alla guerra e ovviamente Costantinopoli si accorge di quello che sta succedendo per cui di fronte al pericolo di dover combattere contemporaneamente contro l'Italia e contro gli stati balcanici accetta la pace con l'Italia e fra l'altro viene firmata però il 15 ottobre vengono firmati gli accordi preliminari ma la pace vera e propria viene firmata la settimana successiva quando le guerre balcaniche sono già scoppiate quindi c'è questa sorta di passaggio di testimone fra gli italiani e le potenze balcaniche nella guerra contro la Turchia la guerra contro la Turchia viene vinta in maniera anche sorprendente dagli stati balcanici che riescono a conquistare praticamente tutta la Rumelia va anche detto che la posizione proprio logistica della Rumelia che è una fascia che taglia ai Balcani in orizzontale viene attaccata sia da sopra che da sotto mentre i greci hanno anche preso il dominio del mare grazie fra l'altro una nave si sono fatti vendere dagli italiani e che ha una storia particolare l'incrociatore Averov che tant'è c'è ancora quella nave viene lì al porto di Atene al vecchio porto al Falero è diventata un museo è la nave sulla quale il re parte anche nella seconda guerra mondiale perché poi non è che la marina greca abbia avuto tante navi però insomma nel nel 12 la marina greca ha un vantaggio su quella appunto grazie a questo allora modernissimo Averov ha un vantaggio enorme sulla marina da guerra turca tanti greci riescono a occupare anche praticamente tutte le isolette dell'Egeo i turchi riescono a bloccare l'avanzata dei bulgari verso Costantinopoli lungo una linea fortificata e intervengono le potenze tentano di imporre una pace ma lì cominciano a scoppiare una serie di piccoli problemi non si sa bene perché poi quando succedono questi contrasti tutti cercano di trovare la ragione prima del contrasto che è difficile da individuare certo è che a Londra dove si viene convocata la conferenza di pace appunto su invito delle potenze la posizione dell'Austria e anche quella dell'Italia contro la Serbia sono molto dure perché né l'Austria né l'Italia vogliono che la Serbia abbia un accesso al mare Adriatico e difendono la costituzione di quella che oggi è l'Albania che praticamente rimane un piccolo enclave musulmano che però ha tutta la fascia costiera che prima apparteneva all'impero ottomano la Serbia si sente privata di una parte del risultato della guerra che considerava preponderante e comincia a rifiutarsi di cedere alla Bulgaria alcune parti di territorio che nella trattativa dovevano toccare alla Bulgaria questo anche perché nella spartizione fra Serbia e Bulgaria non avevano considerato sostanzialmente la Grecia ora non l'avevano considerata anche perché la Grecia appunto nel 1897 era stata sconfitta molto pesantemente dall'esercito ottomano e quindi non pensavano che fosse in grado di fare un'avanzata e di effettuare delle conquiste territoriali l'avevano chiamata nella partita per la flotta non per l'esercito solo che quando all'inizio della guerra i greci arrivano a Salonico praticamente a Salonico c'è un forte prestidio ottomano ma comunque i rappresentanti delle potenze i consoli a Salonico vanno dal comandante delle truppe turche e lo sconsigliano di effettuare la difesa della città poi si rischiava il bombardamento per cui sostanzialmente senza colpo ferire i greci si impadroniscono di Salonico ora per noi consideriamo Salonico una città greca ed è una città greca a ragione la consideriamo una città greca che fosse una città greca nel 1912 è molto più discutibile cioè Ataturk è nato a Salonico per fare un esempio c'è ancora la casa di Salonico ad Ataturk Salonico era la tipica città internazionale grande comunità ebraica grande presenza turca grande presenza slava grande presenza anche italiana perché questi porti queste grandi città portuali avevano questa caratteristica dei vari quartieri quindi era meno una città greca di quanto sia adesso e comunque i greci se ne impadroniscono non la vogliono mollare la situazione per cui è che alla Bulgaria toccherebbe solo la costa della Tracia che è fra l'altro poco bulgara perché poi c'è il concetto di Macedonia ormai noi chiamiamo Macedonia le cose fatte a pezzettini ammescolate che era la situazione reale della Rumelia nella quale popoli lingue culture religioni diverse erano tutte mescolate però c'erano delle zone di prevalenza e la Bulgaria si vedeva assegnate solo delle zone nelle quali anche era discutibile la reale presenza bulgara la Bulgaria pensava anche di essere la maggior potenza militare di avere fatto lo sforzo militare più importante anche perché appunto essendo più vicina a Costantinopoli aveva dovuto combattere contro la parte principale dell'esercito ottomano e quindi rivendica un diverso assetto nella divisione territoriale siccome ad avere preso le parti migliori sono serbi e greci serbi e greci cominciano a mettersi d'accordo fra di loro dicendo no come è tutto quello che è stato conquistato è stato conquistato gli accordi fra serbi e bulgari prevedevano che nel caso di divergenze contrasti si dovesse ricorrere all'arbitrato dello zaro ma non gliel'avevano detto allo zaro e quando richiedono soprattutto i serbi richiedono che venga fatto l'arbitrato da parte dello zaro lo zaro non vuole perché pensa che un intervento di quel tipo avrebbe scontentato tutti non si capisce perché lo deve fare lui fidatevi delle potenze fidatevi della conferenza di Londra a questo punto la situazione si fa ancora più confusa perché succede una cosa molto particolare nel senso che la Bulgaria decide sembra che decida non è ben chiaro di risolvere la questione con un'altra guerra quindi attacca i suoi ex alleati che sono i serbi e i greci il generale comandante dell'esercito dà l'ordine di attaccare sembra dopo essersi consultato con il re ma senza essersi consultato con il governo come il governo viene a sapere dell'attacco emana subito l'ordine di sospensione dell'attacco l'esercito bulgaro entra in uno stato di particolare confusione serbi e greci contraattaccano e respingono i bulgari per parecchi chilometri ma fin qui la Bulgaria sostanzialmente stava pagando un pezzo delle conquiste precedenti però lo scoppio di questa seconda guerra balcanica mette in agitazione tutti quelli che pensavano di avere interessi in contrasto con quelli della Bulgaria quindi prima interviene la Romania che vuole un pezzo della Dobrugia che sarebbe un pezzo infatti adesso la Dobrugia è Romania e se lo prende e che invade da nord la Bulgaria praticamente senza trovare resistenza perché i soldati sono tutti nel sud che stanno tentando di fermare e sono riusciti a fermare serbi e greci però nel frattempo anche l'impero ottomano visto che i bulgari erano andati via dalla zona che avevano raggiunto pensa bene di avanzare e arrivare fino a riconquistare Adrianopoli Adrianopoli viene riconquistata da Amber Bay che era uno degli ufficiali che comandavano la resistenza libica delle delle truppe sia turche che quelle reclutate fra i libici e che avevano combattuto contro gli italiani quindi c'è anche una saldatura proprio nelle persone fra queste due guerre comunque la Bulgaria è costretta a chiedere a chiedere la pace stavano arrivando a Sofia i rumeni e quindi si fa una conferenza di pace che viene fatta a Bucharest in grande velocità per impedire alle potenze di intervenire se non la conferenza di pace dura appena dieci giorni dal 30 luglio al 10 agosto del 1913 tutto deciso tutto deciso e da quelle decisioni viene fuori una Serbia che è grande quasi il doppio rispetto a quella precedente come territori come popolazione la Serbia ha vinto di seguito le due guerre balcaniche e è quasi una potenza egemone rispetto ai Balcani non solo rispetto ai Balcani ma la Serbia come si potrebbe dire dice il nome stesso è uno stato slavo è uno stato slavo che per gli austriaci è un elemento di grandissima preoccupazione perché il sistema dell'Austria-Ungheria prevede l'esistenza di una enorme componente slava una piccola componente italiana ma una grande componente slava soprattutto dopo l'annessione della Bosnia e Herzegovina del 1908 che in realtà era occupata dall'Austria e poi dall'Austria-Ungheria fin dal anzi sempre dall'Austria-Ungheria fin dal congresso di Berlino e quindi come ci esisteva e in maniera che gli austriaci lamentavano molto l'irredentismo italiano su Trento e Trieste la presenza di una grande Serbia ai loro confini meridionali capace di attrarre tutte le spinte irredentiste i desideri nazionalisti della parte sud dell'impero preoccupa moltissimo gli austriaci che vorrebbero un nuovo riequilibrio e lì si nascondono poi i germi dello scoppio della guerra mondiale fra l'altro proprio è la dinamica delle guerre balcaniche e del suo seguito che indirizza la politica europea verso la guerra un elemento è un elemento tecnico le guerre balcaniche che sono brevissime durano pochi mesi e sono la prima guerra combattuta fra eserciti moderni quindi con le mitragliatrici con i cannon tutte queste cose tremende che sono state inventate dopo o cominciano a essere usate ma dopo la guerra del 1870 fra Francia e Germania e Prussia all'epoca ancora la Germania non c'era e tutti i tecnici si domandano quali possano essere le caratteristiche di una guerra moderna di una guerra combattuta nei primi decenni del novecento e scoprono o credono di scoprire che sarà una guerra molto rapida di movimento sanguinosa che però in pochi mesi è in grado di risolvere una situazione diplomatica assolutamente ingarbugliata questa è l'impressione che viene dalle guerre balcaniche e passa in secondo piano la considerazione del fatto che la prima guerra balcanica termina perché sono le potenze che impongono l'arresto dei combattimenti e la seconda termina per una sproporzione di forze spaventose tra la Bulgaria e tutti gli stati che confinano con la Bulgaria per cui le guerre balcaniche proiettano sugli europei non solo sui vertici militari ma da questi vengono trasferite sulle componenti politiche l'idea che una guerra moderna è una guerra di movimento rapida e che non intacca i sistemi sociali nei quali essa avviene per cui il re di Bulgaria si è perso la guerra ma il resto è il re di Bulgaria quello di Romania se l'è vinta ma più o meno tutto continua come era andato fino a quel momento l'altra questione è quella proprio invece dei rapporti fra Austria-Ungheria e Serbia e questi rapporti sono dominati da un un terzo incomodo che è la Russia perché in quella situazione la Serbia è diventato l'unico alleato della Russia nella regione il grande alleato tradizionale della Russia era la Bulgaria ma siccome la Russia non è intervenuta a fianco della Bulgaria nella guerra come i bulgari avevano sperato la Bulgaria ha cambiato completamente il proprio sistema di potere i conservatori filorussi sono stati sconfitti dall'evidenza delle cose travolti dalla sconfitta in guerra e in Bulgaria sono andati al potere i progressisti che sono invece filo tedeschi e quindi la Russia si trova ad avere l'unico alleato che è la Serbia e l'Austria-Ungheria ha la preoccupazione dell'intervento russo a sostegno della Serbia due volte l'Austria-Ungheria lancia degli ultimatum una volta alla Serbia una volta al Montenegro e intimandogli di uscire dall'Albania di uscire con i loro soldati dall'Albania perché poi qui adesso noi guardiamo gli stati sulle carte geografiche tutti colorati ma cosa dovesse essere l'Albania non era chiaro nell'Albania sono presenti col sistema della Macedonia comunità greche comunità slave comunità musulmane insomma è complesso ognuno tenta di proteggere i suoi i confini devono essere tracciati nella complessità un paio di volte l'Austria lancia degli ultimatum che sono un'altra cosa un po' preoccupante perché prima di lanciare gli ultimatum l'Austria si consulta col suo alleato tedesco e il suo alleato tedesco tutte le volte assicura l'Austria-Ungheria del proprio sostegno e qui si inseriscono le occasioni nelle quali vediamo come si comporta Guglielmo II e queste occasioni sono una che è un'occasione discorsiva viene citata spesso che a fronte di una comunicazione dell'ambasciatore tedesco a Vienna il Kaiser avrebbe che chiedeva il sostegno ancora una volta in queste crisi ricorrenti il Kaiser risponde dite pure al ministro degli esteri austriaco che tutte le indicazioni che vengono dal suo ministero per me sono un ordine che poi il modo di parlare di Guglielmo parla sempre in questo modo non significa che Guglielmo si fosse appiattito assolutamente o che condividesse un appiattimento assoluto sulle posizioni di Vienna e un'altra circostanza che viene ricordata è una circostanza del dicembre del 1912 cosa succede? c'è un discorso di Bethmann al Reichstag nel quale Bethmann dice che in ogni caso la Germania deve sostenere l'Austria anche se ci dovesse essere una crisi con la Russia il che significa una guerra sostanzialmente con la Russia a seguito di questo intervento il Kaiser convoca una riunione di militari a Palazzo Reale e in questa riunione che è dicembre 1912 quindi abbastanza prima dello scoppio della guerra mondiale secondo alcuni i tedeschi avrebbero addirittura deciso di fare la guerra certo è che e in quell'occasione Von Molke che è il capo di Stato Maggiore dice che la guerra ci sarà di sicuro e che per la Germania prima la si combatte meglio è perché il tempo gioca contro la preparazione militare tedesca in sostanza il tempo gioca per una ripresa della capacità militare russa perché la Russia era stata sconfitta dal Giappone nel 5 e poi c'era stata la rivoluzione nel 6 e era uscita molto male dalla rivoluzione poi aveva cominciato un processo anche di riarmo determinato anche dalla contrapposizione con l'Austria nella zona dei Balcani che diventava sempre più violenta in questa situazione sicuramente la diplomazia tedesca come le capita un numero di volte impressionante non capisce quello che succede non coglie la complessità della situazione e non ha la capacità che invece aveva avuto con Bismarck ma era una capacità proprio personale di porsi al di fuori della situazione di non farsi coinvolgere in maniera diretta nella situazione e di dialogare con le altre grandi potenze si presenta di fronte alla crisi poi balcanica quella decisiva come un alleato dell'Austria e non come una potenza anzi la potenza egemone dell'Europa continentale interessata a impedire una guerra come in fondo volevano fare sia Batman che Guglielmo II la crisi scoppia con l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando 28 giugno 1914 a Sarajevo la prima impressione che ne ricava Guglielmo II è molto violenta un'uccisione di un membro importante dell'erede al trono di una delle grandi famiglie regnanti europee è chiaramente una shock per chi si trova sul trono di una delle grandi potenze europee il fatto è che all'inizio nessuno immagina che da questo omicidio da questo attentato possa nascere una guerra come abbiamo visto capita poi troppo spesso alla diplomazia tedesca non capiscono che cosa sta succedendo poi è anche vero che è facile con lo sguardo del poi immaginare che si potesse capire prima che cosa stava succedendo certo non credono alla guerra non vogliono la guerra non immaginano che possa esserci una guerra però immaginano nello stesso tempo di dover continuare a sostenere l'alleato austriaco l'alleato austriaco ha dei progetti diversi che con una diplomazia più sofisticata diciamo di quella tedesca riesce in qualche modo a imporre al proprio ben più potente alleato perché le intenzioni austriache anche se non sono neanche in austria quelle dell'imperatore perché francesco giuseppe è contrario a un intervento militare contro la serbia come lo è stato fino a quel momento francesco ferdinando se c'è una ragione vera per la quale l'assassino di francesco ferdinando può causare la guerra è che la sua scomparsa toglie dalla scena politica uno degli oppositori maggiori all'intervento austriaco in guerra la sua scomparsa dal contesto politico austriaco viennese fa sì che i fautori della guerra si trovino improvvisamente in maggioranza quando fino a quel momento erano stati in minoranza si trovano in maggioranza e portano avanti il loro progetto che viene accettato praticamente in maniera piuttosto supina da Bethman il cancelliere tedesco l'idea complessiva sia che come la Russia non era intervenuta in situazioni precedenti nelle quali l'Austria e Ungheria aveva lanciato degli ultimatum prima alla Serbia e poi al Montenegro anche questa volta la Russia non intenda far precipitare la situazione e quindi l'Austria possa avere mano libera in un'azione di guerra contro la Serbia che ha come scopo il ridimensionamento se non addirittura la scomparsa della Serbia come stato che alcuni pensavano addirittura dismembrare attribuendone una parte all'Austria e a altre parti ad altri stati per estirpare dal cuore dei Balcani quello che appariva come un elemento di fortissima destabilizzazione per l'impero austro-ungarico come una sorta di gigantesca calamita che richiamava la parte meridionale dell'impero verso una unità slava e contro invece la compattezza di un impero che era un impero come abbiamo detto multietnico multinazionale che quindi sentiva molto la sofferenza per le pretese nazionaliste in questo contesto a Berlino non ci si preoccupa troppo si pensa che si possa tranquillamente localizzare la guerra che sia giusto in qualche modo che l'alleato austriaco faccia la sua guerra sistemi i suoi problemi e che l'unico compito della Germania sia quello di sostenere l'alleato in modo che questo sostegno impedisca alla Russia di intervenire in difesa della Serbia la situazione è così tranquilla che il Kaiser parte non è a Berlino nei momenti dell'ultimatum austriaco alla Serbia è partito prima di partire di Guglielmo II si consulta come sempre col Cancelliere c'è un'idea di Guglielmo II come una figura difficilmente governabile invece un sacco di volte scopriamo che lui prima di agire si consulta col Cancelliere col Ministro degli Esteri verifica la sua posizione e sembra che Guglielmo II abbia chiesto a Bethman se la sua partenza per la crociera sull'Oenzollern partecipando anche alle manovre navali della flotta nel mare del nord fosse opportuna e Bethman anzi lo invita a partire dicendogli che se non fosse partito avrebbe potuto dare un segnale preoccupante per la situazione europea e invece dato che tutto appariva sotto controllo poteva partire tranquillamente e il Kaiser parte non è a Berlino quando l'Austria lancia alla Serbia il suo ultimato torna però è a Posdam che lì praticamente è nei pressi di Berlino è la residenza costruita da Federico II però è come essere a Berlino è a Posdam quando arriva la risposta serba all'ultimato maustriaco ricordiamo che quest'ultimato maustriaco è scritto in termini di aggressività notevole e contiene oltre ad altre richieste che possono essere assecondate dal governo serbo richiede anche una cosa al limite del pazzesco cioè che le indagini relative all'assassinio vengano condotte in territorio serbo dalla polizia austriaca che significa praticamente richiedere una rinuncia alla sovranità perché l'azione di polizia la garanzia dell'ordine pubblico è uno dei caratteri proprio dello Stato nazionale quindi viene mandato l'ultimatum la Serbia risponde molto in fretta e Guglielmo II trova questa risposta serba quando al suo rientro a Posdam praticamente è appena arrivata gli viene risferita lui la legge e a fronte della lettura di questo documento dice beh allora non c'è più pericolo della guerra non c'è più bisogno della guerra praticamente i serbi hanno concesso agli austriaci tutto quello che volevano e pensa che la situazione sia risolta ora è abbastanza difficile immaginare che una grande potenza come la Germania 65 milioni di abitanti corrono ormai una tradizione statuale consolidata uomini politici esperti il Kaiser nel 14 è già al potere da 25 anni Bethmann è un uomo politico esperto si lasciano trascinare in una guerra quasi inconsapevolmente bisogna dire che esiste un problema che trascina la Germania nella guerra che è il cosiddetto piano Schiften perché questo generale tedesco aveva elaborato il piano perché poi gli stati maggiori servono anche a questo quindi aveva studiato il piano di una possibile guerra contro Francia e Russia contemporaneamente il piano era stato studiato quando nel 1904 era stata stipulata l'alleanza fra Francia e Russia da quel momento in poi per i tedeschi nasce il problema di una possibile guerra su due fronti e anche il problema su come affrontarla e il piano appunto Schiften prevede di attaccare la Francia distruggere l'esercito francese come era successo nel 1870 dopodiché spostare tutte le forze tedesche sul fronte orientale e lì affrontare e sconfiggere anche i russi che si dovesse affrontare prima la Francia e poi la Russia dipendeva da due fatti uno che la Francia è più piccola e quindi bastava arrivare a Parigi ed era fatta l'altro che si prevedeva che i tempi di reazione dell'esercito russo fossero molto più lenti di quelli dell'esercito francese anche per una questione proprio ferroviaria la Francia è un paese dove ci sono le ferrovie la Russia è un paese dove ce n'erano molte meno quindi lo spostamento dell'esercito russo sicuramente che deve venire da più lontano che è più difficile si concentri che a tempi complessivamente più lunghi si prevedeva più lento di quello francese quindi bisognava battere prima i francesi e poi spostarsi sul fronte orientale tutto questo si concretizzerebbe nei piani tedeschi praticamente in una corsa in una corsa che prevede di violare la neutralità del Lussemburgo e del Belgio una corsa che ha proprio delle scadenze quasi orarie precise per riuscire ad arrivare a Parigi battere i francesi e tornare indietro e fondamentalmente è un piano che vuole che la Germania guadagni subito l'iniziativa strategica cioè che sia la Germania a battere sul tempo i suoi nemici non ad aspettare una loro offensiva ma a sviluppare subito una propria offensiva contando sul vantaggio di essere in mezzo fra francesi e russi di poter scegliere chi affrontare per prima contando sul vantaggio del suo sistema ferroviario particolarmente efficiente e tentando di compensare con questo lo svantaggio numerico che sta di avere meno attenti sono i tedeschi al problema del fatto che la Germania rischierebbe di trovarsi assediata e meno attenti ancora sono al problema dell'Inghilterra perché l'Inghilterra in realtà non entra subito nella guerra mondiale ma vediamo un po' di seguire un po' lo sviluppo delle ultime ore perché è un meccanismo quasi a incastro praticamente quando l'Austria minaccia la guerra alla Serbia lo zar Nicola si lascia convincere a firmare un documento che prevede praticamente non proprio la mobilitazione generale ma una mezza mobilitazione generale non si sa quali fossero le intenzioni esatte le intenzioni esatte probabilmente erano spaventare l'Austria e quindi bloccarne le intenzioni di guerra la lettura che viene data a questo inizio di mobilitazione russa invece è completamente diversa nel senso che la Germania protesta immediatamente e ordina la Russia di sospendere la mobilitazione appena l'entrata in guerra l'Austria invece considera questo intervento tedesco come sufficiente a garantirla da ogni rischio di rimanere isolata in caso di un eventuale allargamento del conflitto dichiara guerra la Serbia bombarda Belgrado il sistema subito si allarga scattano tutte le alleanze ed entrano in guerra anche Russia e Francia la posizione di Guglielmo II Guglielmo II in realtà è un uomo che si affida e anche questa volta si affida ai suoi militari i militari gli dicono cosa si deve fare Bestman è d'accordo Bestman anche lui si lascia trascinare dentro questa spirale della guerra ci sono racconti diversi di quello che potrebbe essere l'ultimo tentativo di fermare la guerra che viene fatto proprio da Guglielmo II con Fommolke con il suo capo di stato maggiore perché Guglielmo II sa che è tutta una follia che nessuno vuole fare la guerra lui ha rapporti personali di conoscenza con gli altri sovrani è appunto Kaiser da 25 anni la sua caratteristica è il buonsenso non è una persona particolarmente intelligente non è un gran lavoratore non ha una capacità di impegnarsi in progetti di lungo periodo però non è privo di buonsenso lui si rende conto che c'è qualcosa che non va in tutto quello che si sta facendo e allora proprio quando quando stanno per cominciare i combattimenti chiede a Fommolke ma non si può fermare tutto perché dobbiamo continuare a lanciarci lungo questo percorso ci fermiamo cerchiamo di parlarne e Fommolke gli risponde non è più possibile perché Fommolke è prigioniero del fatto che i tedeschi devono sferrare il primo colpo devono sferrare il primo colpo hanno bisogno per far questo di impadunirsi di alcuni impianti ferroviari che sono in Lussemburgo e per poter invadere la Francia senza dover affrontare in maniera frontale proprio l'esercito francese devono anche passare dal Belgio che è la strada più corta e più comoda questo passaggio dal Belgio mette in crisi i rapporti con l'Inghilterra c'è da domandarsi se l'Inghilterra sarebbe entrata in guerra lo stesso se la Germania non fosse passata dal Belgio non avesse violato la neutralità territoriale del Belgio ed è una una domanda sostanzialmente senza risposta certo gli inglesi si erano preparati alla guerra certo gli inglesi non avrebbero sopportato una vittoria tedesca sul continente però è vero che in quelle poche ore pochi giorni che trascorrono fra la dichiarazione di guerra Francia e Russia e l'intervento inglese gli inglesi comunicano ai tedeschi che per loro l'invasione del Belgio è una causa sufficiente per entrare in guerra ma il comando tedesco continua a sperare nell'efficacia del loro piano del suo piano per vincere la guerra subito c'ha questa speranza di ripetere qualche cosa di simile a quello che era successo nel 1870 quando in poche settimane l'esercito tedesco aveva avuto ragione di quello francese questo è un elemento che viene abbastanza sottovalutato nello studiare il perché dello scoppio della guerra invece è l'elemento che priva la Germania e priva anche Guglielmo II che è una figura di prestigio che ha ottimi rapporti con lo zar Nicola si conoscono personalmente da tantissimo tempo che ha buoni rapporti con gli inglesi anche se poi non c'è più la regina Vittoria quindi non c'è quel rapporto proprio di affetto però c'è un rapporto di profonda conoscenza e anche rispetto anche il decano dei sovrani europei Francesco Giuseppe anche nei confronti di Francesco Giuseppe può vantare una qualche autorevolezza tutto questo poi è inibito sicuramente uno dal rispetto che ha Guglielmo per i suoi collaboratori Guglielmo che viene accusato di essere arrogante e aggressivo guerra fonda in realtà è una persona abbastanza modesta personalmente non non pretende di saperne più degli altri si affida anche la ricerca dei suoi cancellieri è la ricerca di qualcuno di cui potersi fidare a cui poter affidare la realizzazione di un compito e sa che in prima persona non è troppo capace di portare fino in fondo il rapporto con Eulenburg è anche il rapporto di qualcuno che cerca una persona più matura più lucida più capace di pianificare quindi questo senz'altro è un elemento di paralisi per l'azione di Guglielmo II e l'altro elemento è la necessità che gli viene proposta e che lui accetta di fare tutto molto in fretta di fare tutto assolutamente in fretta e di iniziare la guerra è molto discutibile anzi sicuramente non è vero che la Germania voglia la prima guerra mondiale lavori per avere la prima guerra mondiale abbia come obiettivo una guerra però è vero che la Germania pensa di doverla iniziare se la guerra scoppia il comando tedesco è certo di dover prendere l'iniziativa perché pensa che solo prendendo l'iniziativa può vincere una guerra che altrimenti sfugge dal suo controllo come poi sarà perché quando la guerra si blocca e va nelle trincee si vede che il sistema degli imperi centrali è destinato alla sconfitta e questo è poi l'altro punto sul quale ci si interroga rispetto alla figura di Guglielmo II nel periodo della guerra perché Guglielmo II nel periodo della guerra praticamente si ritira anche lì anche in quella circostanza lui dimostra la sua modestia non pretende di comandare in realtà addirittura lui ha il titolo di signore della guerra una cosa del genere di capo della guerra queste cose molto rovoanti ma lui sa di non essere in grado di dirigere le operazioni belliche lui non fa come si comporterà poi Hitler nella seconda guerra mondiale da ordini lui ai generali fate questo fate quello Guglielmo II si affida e pensa di avere durante la guerra più che altro un ruolo pubblico nel senso di dover essere presente come rappresentante dell'impero vicino ai soldati nei luoghi dove si combatte nelle fabbriche semmai il suo intervento come vedremo si centra sul problema della guerra subacquea nella quale la sua possibilità di decisione è poi molto elevata è lui la figura arbitro fra la componente politica Bethmann e la componente militare nel decidere se quando e come scatenare quella che viene chiamata la guerra subacquea indiscriminata per il resto Guglielmo II subisce la guerra subisce la guerra subisce le intemperanze del principe ereditario si chiama Guglielmo anche lui anche il principe ereditario perché tutto lo chiamano sempre principe ereditario che viene messo al comando di un'armata perché bisogna poi in realtà non comanda nemmeno lui e però ha un carattere completamente diverso da quello di suo padre che è un uomo d'ordine invece il principe ereditario è è un uomo si può dire del disordine del caos ma poi che oltre a essere considerato uno scioperato è anche uno al quale piacciono molto sia le donne che gli agi i lussi e durante la guerra non smette di comportarsi come si è abituato a fare e questo poi getta un notevole discredito sulla famiglia imperiale e creano poche preoccupazioni al padre invece un altro dei figli combatte eroicamente viene anche ferito Joachim poi lui avrà una fine tragica perché dopo la guerra si avvicina a movimenti politici di destra spera in un in un ritorno sul trono e finisce col suicidarsi però si comporta nel nel momento della guerra come il padre si aspetta si debba comportare uno dei principi della corona ma a fronte di questo c'è la domanda su come e quando Guglielmo secondo capisca di essere stato sconfitto capisca che la Germania è sconfitta ed è interessante perché nelle letture che si fanno riguardo a Guglielmo secondo si scopre che le idee sono le più diverse c'è chi immagina che poi quando c'è il momento nel quale Ludendorff gli dice la verità lui si è stupito qualcuno sostiene che Kaiser era stato truffato fino a quel momento nessuno gli aveva detto la verità certo è che non dà in escandescenze quando glielo dicono che lui si fosse in qualche modo estraniato dalla situazione politica e anche dalla conduzione del paese ci sono alcune piccole tracce a un certo punto al momento delle dimissioni di Bethman nel 17 a causa dei suoi contrasti con i militari la scelta del successore di Bethman è una scelta molto controversa nella quale c'è un vero e proprio braccio di ferro fra il Kaiser e i militari e il personaggio che salta fuori è una figura abbastanza minore rispetto alla quale il Kaiser dice proprio a Bethman che dopo aver dovuto accettare questa figura come cancelliere avrei anche potuto abdicare a questo punto nel senso lui si si allontana ma si allontana anche da Berlino perché immaginandosi legato alla responsabilità di essere appunto il capo almeno formale dell'esercito lui si trasferisce praticamente a Spa in Belgio dove si è trasferito allo stato maggiore tedesco vive lì ogni tanto torna a Berlino secondo alcuni la sua decisione di lasciare Berlino è una decisione improvvida perché lo tiene lontano dal governo e poi lo tiene lontano dal rapporto con il popolo tedesco lo stesso lui poi ha sempre avuto grande fiducia nell'esercito ha sempre pensato di essere un militare uno va sempre in giro da soldato non bisogna dimenticarlo è uno che ha fatto il servizio militare in maniera abbastanza impegnativa perché ha fatto l'ufficiale sì ma ha comandato davvero i reparti ha comandato davvero le istruzioni nel piazzale ha fatto l'ufficiale di picchetto ancorché nel primo reggimento della guardia però ha una qualche tradizione militare quindi c'è la guerra lui pensa di dover essere al fronte anche lui e per lui il fronte è spa è il comando e da lì si reca presso le truppe addirittura c'è chi sostiene che lui sarebbe voluto spingere anche più avanti andare a trovare le truppe quasi nelle trincee se non fosse stato perché Ludendorff o comunque prima di lui gli altri comandanti dell'esercito tedesco glielo impedivano perché non volevano che arrivasse a rischiare la vita ma lui sarebbe stato disponibile a farlo e poi sicuramente nell'ultimo anno di guerra lui è molto invecchiato i capelli cominciano a essere bianchi e poi comincia ad andare in giro appoggiandosi sul bastone sembra per la sciatica però le sue visite sono le visite di un uomo abbastanza vecchio e abbastanza rassegnato anche se la curva dell'evoluzione della prima guerra mondiale proprio dei fatti della guerra è abbastanza particolare perché il crollo della Russia del fronte orientale anziché di quello occidentale il rovescio di quello che pensava il comando tedesco lascia sperare ai tedeschi una possibilità di successo che invece probabilmente non c'è proprio mai stata per loro è scoppiata la grande guerra non che si capisca subito che si tratta della grande guerra i primi mesi le prime settimane il piano Schlipper sembra funzionare però poi l'esercito tedesco anche perché i russi si sono mossi prima del previsto e poi perché il mondo è cambiato la guerra è cambiata i mezzi sono cambiati c'è una possibilità di spostare gli eserciti con grande rapidità e soprattutto chi attacca all'ultimo momento va a piedi mentre invece chi si difende riceve i rinforzi che arrivano col treno e comunque a una trentina a 35 km da Parigi i tedeschi vengono fermati vengono respinti e comincia la guerra di trincea la guerra di posizione cosa fa il Kaiser durante la guerra certo non comanda lui in teoria è il comandante supremo delle forze armate tedesche il signore della guerra con una locuzione tedesca un po' roboante però non è un tecnico come abbiamo già detto lui è un ufficiale ha le capacità di un ufficiale subalterno quindi non può certo dirigere in uno stato maggiore non prova nemmeno a farlo essendone consapevole lui però rappresenta la Germania rappresenta l'impero tedesco e come rappresentante dell'impero tedesco pensa di dovere di avere il dovere proprio di anche lui di arruolarsi nell'esercito del resto lui è sempre andato in giro in divisa per tutta la vita e frequenta i reparti fa le visite ai reparti si distribuisce decorazioni tenta di sostenere anche il fronte interno visita le fabbriche visita la flotta però dobbiamo dire che c'è un ambito invece nel quale la sua influenza è determinante cioè c'è un ambito nel quale lui sceglie come si debba comportare la Germania in guerra per spiegare bene quale sia questo ambito dobbiamo fare un piccolo inciso devo fare un piccolo inciso perché c'è un'idea della grande guerra dovuta all'immaginario collettivo poi anche a un dato di fatto oggettivo si calcola che siano morte fra le 20 e i 25 milioni di persone durante la grande guerra di questi la larghissima maggioranza sono soldati al fronte sono fanti al fronte in quegli assalti i privi di senso che gli italiani conoscono sul fronte dell'isonzo questi colpi di maglio che significano ogni volta decine di morti decine di migliaia di morti centinaia di migliaia di morti l'utilizzo di ogni risorsa scientifica quindi i gas benefici l'artiglieria pesantissima le mitragliatrici il filo spinato le mine e anche armi che sembravano scomparse dall'immaginario e dall'attrezzatura dei soldati della modernità che sono poi la baionetta addirittura la mazza ferrata anche per degli scontri corpo a corpo molto violenti e quindi l'immaginario anche l'iconografia della prima guerra mondiale della grande guerra ci mostra sempre le trincee i soldati all'attacco delle posizioni nemiche falciati dalle mitragliatrici ci mostra la partenza delle tradotte per il fronte ci mostra i corpi sfigurati dai gas e ci trasferisce in questo modo l'idea di una guerra sostanzialmente terrestre certo è una guerra terrestre ma la soluzione della grande guerra viene dal mare perché nella sua essenza strategica la grande guerra è un gigantesco assedio alla Germania alla Germania e agli imperi centrali e la zona dove questo assedio si chiude è il mare del nord perché la superiorità navale della flotta inglese riesce a bloccare completamente ogni rapporto ogni collegamento via mare fra la Germania e il resto del mondo la Germania rimane chiusa nel cuore dell'Europa e sostanzialmente muore di fame dire morire di fame va inteso praticamente in senso letterale si calcola che negli ultimi 18 mesi nell'ultimo anno di guerra i morti nella sola Germania a causa della denutrizione siano fra i 750 mila e il milione quindi una cifra veramente spaventosa e quindi poi la Germania crolla per il crollo del fronte interno non dimentichiamo che al momento della firma dell'armistizio della grande guerra quando si conclude la grande guerra i soldati tedeschi sono ancora tutti fuori dalla Germania gli alleati non sono riusciti a conquistare un solo metro quadrato di territorio tedesco però la Germania collassa quindi il fronte marittimo e poi il fronte centrale i tedeschi conseguono una serie di vittorie anche spettacolari sui fronti terrestri conquistano la Serbia conquistano la Romania riescono a mettere talmente in crisi l'impero zarista che lo zar nel marzo del 1917 è costretto ad abdicare poi viene la rivoluzione d'ottobre che in realtà per noi capita in novembre perché c'è quella differenza di 13 giorni del calendario ortodosso e poi si arriva alla fine del 1917 ma la guerra praticamente sul fronte orientale è già finita alla pace fra russi e tedeschi e quindi sostanzialmente alla vittoria della Germania sulla Russia poi c'è lo sfondamento di Caporetto sul fronte italiano quindi i tedeschi e i loro alleati colgono numerose vittorie terrestri che si rivelano tutte inutili perché non riescono a spezzare l'accerchiamento quale sarebbe la contromossa tedesca rispetto a questa situazione di accerchiamento navale alla quale la Germania è sottoposta la contromossa sarebbe quella che poi verrà tentata in una situazione abbastanza simile nella seconda guerra mondiale ossia la guerra sottomarina i sottomarini gli U-Boat sono un frutto della modernità il primo impiego dell'arma subacquea risale alla seconda metà dell'Ottocento alla guerra civile americana però di tempo ne è passato e la tecnologia si è sviluppata e i sottomarini adesso funzionano abbastanza i tedeschi ne hanno pochi però hanno dei cantieri navali in grado di produrne molti ora l'impiego del sottomarino in guerra è del sommergibile dovremmo dire perché a quell'epoca i sottomarini moderni non esistono sostanzialmente si tratta di unità che sono in grado di immergersi ma che possono restare sotto acqua per poche ore poi devono riemergere cambiare l'aria insomma hanno questo tipo di problemi quindi è meglio chiamarli sommergibili però queste unità sono modernissime per il 1914 quando scoppia la guerra e rispetto a loro ci sono delle grosse controversie per quello che riguarda le leggi di guerra alle quali la loro attività deve sottostare che non è un problema indifferente perché già l'idea di attaccare senza preavviso dei mercantili nemici è un'idea abbastanza al limite del punto che era stato raggiunto dalla legislazione di guerra e il problema si allarga ancora di più quando ci troviamo di fronte a dei transatlantici sui quali possono essere imbarcati cittadini di altre nazionalità anche per i mercantili è difficile capire che bandiera battono si capisce più o meno dove vanno e da dove vengono ora gli inglesi risolvono abbastanza bene il loro problema della guerra di superficie perché dicono che nessuna nave può andare verso i porti tedeschi e verso i porti austriaci per quello che riguarda il mediterraneo e poi verso i porti della turchia per quello che riguarda il mediterraneo orientale e avendo contando su una immensa superiorità navale non hanno problemi con le loro navi da guerra di superficie a impedire questo transito mentre invece l'attacco del sommergibile è un attacco che avviene in qualche modo in acque nemiche per cui il sommergibile ha pochissimo tempo per attaccare deve attaccare praticamente senza preavviso a volte restando in immersione solo col siluro anche se nella prima guerra mondiale spesso i sommergibilisti tedeschi preferiscono attaccare in immersione col cannone comunque non ci sono tempi lunghi per preavviso per ispezioni a bordo delle navi e per operare come se si trattasse di navi di superficie che controllano il mare il mare lo controllano gli inglesi per cui per i tedeschi farsi trovare fermi in emersione è una cosa così rischiosa che non può essere fatta e allora come si fa? i tedeschi all'inizio pensano che si possa fare in maniera semplice proclamano che le acque circostanti l'Inghilterra e lungo le coste della Francia sono inibite al traffico per cui avvertono che tutte le navi che attraversano quelle acque sono considerate bersaglio e quindi possono essere attaccate ora possono essere attaccate non significa vengono sicuramente attaccate i sommergibili tedeschi gli u-boot tedeschi all'inizio della guerra non arrivano a 10 quindi si può immaginare quelli in grado di navigare contemporaneamente quindi si può immaginare quanto fossero strette le maglie di questa cortina di blocco però le maglie vanno stringendosi vanno stringendosi però nel maggio del 1916 avviene la tragedia dell'usitania l'usitania è un transatlantico un piroscapo passeggeri molto moderno in teoria è quasi impossibile silurare un transatlantico in navigazione perché il transatlantico va quasi più veloce del siluro per cui riuscire per un lentissimo sommergibile a mettersi nella posizione giusta perché il siluro possa raggiungere il transatlantico nel miglio più o meno che c'ha di autonomia di corsa è un caso rarissimo però cosa succede che il lusitania che sta facendo rotta da new york all'inghilterra in vista delle coste inglesi con la gente sulla riva che lo guarda passare che lo saluta rallenta e procede con una rotta lineare cioè non fa costate per evitare il pericolo dei siluri procede lentamente seguendo una rotta appunto lineare c'è un sommergibile tedesco e il sommergibile tedesco lo silura lo silura e lo centra in pieno la nave affonda molto rapidamente ed è una tragedia spaventosa ci sono più di mille cento morti tra civili imbarcati e un transatlanti quindi sono tutti civili e in particolare più del 10% dei morti sono cittadini americani questo è un atto che sconvolge le prospettive del blocco tedesco ora sulla legittimazione dell'attacco tedesco all'usitania si è scritto tanto bisogna ricordare che l'usitania negli almanacchi navali conta nave da guerra perché è iscritto come incrociatore ausiliario poiché fosse disarmato non è non è importante ora la distinzione fra una nave da guerra e una nave non da guerra è molto complicata ma esiste la tradizione del governo inglese di partecipare con una con una quota alla costruzione dei suoi grandi transatlantici in modo che gli armatori impiantino sui transatlantici dei ponti dei rinforzi sui ponti sui quali potrebbero essere montati dei cannoni e quindi la nave viene iscritta come incrociatore ausiliario perché potrebbe diventarlo in qualunque momento una volta armato poi nelle stive dell'usitania c'è materiale bellico neanche materiale qualsiasi di rifornimento per l'inghilterra ci sono proprio munizioni armi e questa è una cosa abbastanza risaputa terzo elemento che i tedeschi tentano di fare valere a fronte delle proteste furibonde degli stati uniti prima che l'usitania partisse da new york l'ambasciata tedesca negli stati uniti ha fatto pubblicare sui giornali di new york un avviso in bella evidenza nella quale segnala i pericoli che corre chi si imbarca su un transatlantico alla volta dell'inghilterra lo stesso si può immaginare le proteste degli americani sono molto violente la tradizione americana statunitense della tutela del cittadino americano e della sua libertà di movimento in tutto il mondo è una tradizione fortissima che risale a teodoro roosevelt anche a prima cioè la difesa del cittadino americano quindi la posizione degli stati uniti è di grande indignazione e diplomaticamente le pressioni sulla germania sono molto forti Bethmann che è il cancelliere tedesco ha paura che gli stati uniti possano intervenire nella guerra forse non lo farebbero e questo poi la storia come dice Franco Cardini si fa anche con i sei coni ma probabilmente nel 16 non sarebbero entrati in guerra neanche nel caso i tedeschi avessero continuato nella loro campagna sottomarina di blocco dell'Inghilterra Bethmann teme che invece possano entrare e quindi si crea al vertice proprio della direzione di guerra tedesca un contrasto fra il civile Bethmann e il comando militare che invece sostiene che se si fa la guerra bisogna farla fino in fondo e che per la Germania è vitale continuare la guerra sottomarina contro l'Inghilterra e in questa situazione di confronto fra militari e politici la decisione poi arriva al Kaiser è Guglielmo II che deve decidere se gli U-Boat tedeschi continuano nella loro politica di blocco dei porti inglesi che significa tentare di silurare o di affondare qualunque nave più o meno in rotta verso l'Inghilterra oppure se bisogna desistere da questa forma di guerra e trasformarla in un atteggiamento appunto delle unità subacquee tedesche più morbido il Kaiser opta per la posizione di Bethmann e dei civili e impartisce delle istruzioni molto minuziose al comando della Marina tedesca riguardo all'impiego degli U-Boat nella lotta al traffico commerciale alleato sono istruzioni così vincolanti che prevedono di fermare la nave ispezionarla controllare verificare che di fatto impediscono la guerra sottomarina tanto che i tedeschi il comando navale tedesco di fronte alla presa di posizione del Kaiser agli ordini che riceve dal Kaiser ubbidisce agli ordini ritirando i sommergibili dall'Atlantico la guerra dei sommergibili continua solo nel mare del nord dove lungo lungo proprio le rotte tedesche si fanno dei tentativi di attacco alle navi da guerra inglesi però anche lì il problema è che le navi da guerra sono molto veloci i sommergibili sono molto lenti anche i siluri non sono proprio adatti a combattere contro le navi da guerra o comunque non si dimostrano adatti la guerra continua passano 18 mesi addirittura un po' meno per la verità perché venga presa la decisione e la guerra cambia anche i rapporti di forze se nel maggio del 15 al momento dell'affondamento dell'usitania la guerra è cominciata da poco l'anno successivo e un anno e quattro mesi dopo molte cose sono cambiate il 1916 non è un anno fortunato di guerra possiamo dire per gli imperi centrali anche se si profila la vittoria sul fronte orientale e cosa succede ai vertici tedeschi ai vertici tedeschi succede che i generali che hanno vinto sul fronte orientale diventano i capi dell'esercito tedesco anche sul fronte occidentale dato che hanno vinto da una parte si pensa possano vincere anche da quell'altra si vedrà che non è così ma non solo la Germania tenta alla fine del 1916 Bethmann il cancelliere fa un tentativo di raggiungere una pace concordata una pace trattata ora questo tentativo viene fatto senza riconoscere che la Germania sta perdendo la guerra quindi si cerca una di fare una trattativa in una condizione di debolezza è vero che al momento la Germania occupa molti territori in paesi nemici Romania Serbia Russia e poi anche una parte della Francia il Belgio ma è anche vero che l'assedio non è stato rotto e che continua e che i tedeschi non hanno di fronte a sé una prospettiva di vittoria mentre invece gli alleati possono sperare che sui tempi lunghi la Germania resti affamata e sia costretta ad arrendersi ora questo tentativo nel dicembre del 1916 fallisce e più o meno a fronte di questo fallimento o in coincidenza con questo fallimento Indenburg e Ludendorff minacciano di dimettersi nel caso che Guglielmo II non autorizzi la ripresa della guerra navale indiscriminata la teoria di Indenburg ma soprattutto di Ludendorff che poi è l'uomo d'azione della coppia mentre Indenburg è più l'uomo di rappresentanza la teoria di Ludendorff è abbastanza brutale ed essenziale ancorché gli Stati Uniti entrino in guerra a causa della guerra navale indiscriminata e questo non modificherebbe la situazione se non su tempi molto lunghi mentre invece nel caso che la Germania non scateni la guerra navale la guerra sottomarina indiscriminata è sicuro che la Germania perderà la guerra quindi è una carta che va assolutamente giocata nel caso Guglielmo II si rifiuti di giocare questa carta a quel punto Ludendorff e con lui Indenburg si rifiutano di continuare a dirigere una guerra che considerano perduta il Kaiser cede e la Germania proclama che dal primo febbraio 1917 verrà ripresa la guerra sottomarina senza restrizioni senza restrizioni indiscriminata significa che qualunque nave venga beccata nell'Atlantico in rotta da o per un porto inglese o francese viene attaccata e affondata i tedeschi hanno anche fatto dei calcoli e hanno gli tedeschi calcolano sempre tutto per cui gli piacciono queste cose hanno calcolato che l'affondamento mensile di 600.000 tonnellate di naviglio nemico gli è sufficiente per vincere la guerra e sembrano riuscirci perché gli affondamenti raggiungono in marzo le 600.000 tonnellate e in aprile addirittura c'è una cifra che viene fornita come esatta che sono 874.576 tonnellate che sono addirittura oltre il 30% in più del tonnellaggio che loro hanno calcolato noi abbiamo le memorie del contrammiraglio americano Sims che è il comandante delle navi americane che vengono mandati statunitensi e vengono mandate in Europa subito dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti che avviene nell'aprile del 1917 non si sa quanto in collegamento con la ripresa della guerra sottomarina indiscriminata il quale racconta di un incontro con Jellicoe che è il comandante della flotta inglese e il quale gli dice che mantenendo quel ritmo di affondamenti l'Inghilterra può resistere solo fino alla fine di ottobre siamo ad aprile quindi si tratta praticamente di sei mesi quel ritmo di perdite significa che la Germania fra sei mesi vincerà la guerra questo poi conferma quello che dicevamo prima riguardo a dove fosse il cuore strategico della guerra il cuore strategico della guerra era affamare la Germania oppure rimanere affamati dalla Germania e questo dà anche una misura impressionante dell'inutilità del massacro terrestre cioè milioni di persone muoiono sui fronti terrestri in una situazione nella quale è impossibile sbloccare la situazione di guerra mentre la guerra si decide da un'altra parte di fatto si decide sul mare si decide sulla capacità di mantenere il blocco della Germania senza restare bloccati a loro volta da parte degli alleati come finisce la storia sappiamo finisce che vincono gli alleati come vincono vincono in una maniera che poi è abbastanza semplice sono quelle cose basta pensarci prima la storia dell'Atlantico è la storia delle traversate in convoglio le navi spagnole la flotta dell'argento spagnolo attraversava una volta l'anno l'Atlantico in convoglio perché in convoglio le navi sono in grado di difendersi ora non è la stessa situazione del 5600 però è una situazione simile perché la strategia la tecnica usata dagli inglesi per proteggere i mercantili in Atlantico si basa sull'idea di controllo del mare per cui molte navi da guerra circolano si stabilisce dove saranno più fitte consigliando ai mercantili di passare da lì ma poi finisce che la presenza di molte navi da guerra segnala i tedeschi da dove passano i mercantili oppure si cerca di costruire delle specie di navi trappola che hanno la chiglia molto bassa per cui in caso di siluramento non vengono colpite perché il siluro passa sotto che possano poi contrattaccare il sommergibile che le ha attaccate oppure si armano i mercantili perché possano difendersi dai sommergibili in questo creando degli altri problemi internazionali perché il mercantile armato conta nave da guerra e allora non può entrare nei porti neutrali se non a condizioni particolari mentre invece a un certo punto che è il maggio del 1917 e poco dopo anche per il Mediterraneo si procede nello stesso modo gli inglesi si adattano a organizzare il traffico dell'Atlantico settentrionale in convogli andare in convogli vuole dire che i mercantili devono partire tutti insieme però questo comporta complessità a ritardi tempi lunghi significa anche navigare alla velocità del più lento dei mercantili del convoglio quindi sicuramente è un danno per le possibilità di trasporto per il commercio però significa che è possibile concentrare attorno al convoglio una forza di copertura tale da poter sconfiggere gli ubo che attacchino o ancorché l'ubot che attacca sia in grado magari di affondare un mercantile la capacità di contrattacco esiste per cui mentre il tonnellaggio di mercantili affondati dai sommergibili tedeschi cala moltissimo aumenta invece il numero di sommergibili affondati dagli alleati e quindi da maggio in poi le cifre degli affondamenti calano tantissimo l'Inghilterra è salva la Germania ha perso definitivamente la guerra perché ha giocato la sua ultima carta probabilmente ha commesso una serie di errori diplomatici e militari gravissimi sostanzialmente non ha coordinato l'offensiva subacquea con l'offensiva diplomatica Bethman ha tentato di fare la pace mentre gli alleati pensavano di vincere mentre invece probabilmente nel marzo del 17 e verso la fine di marzo 17 col rating degli affondamenti che aumentava in maniera spaventosa gli inglesi ci avrebbero pensato diversamente all'offerta di pace tedesca soprattutto se fosse stata molto più modesta di quanto è in realtà invece anche i 18 mesi di sospensione della guerra subacquea visti da dopo forse sono stati un errore forse provocano davvero l'intervento in guerra negli Stati Uniti nel 17 quando la situazione è molto più matura che nel 16 e poi sono un periodo di tempo che viene perduto dai tedeschi nella loro capacità di resistenza e nella loro capacità di sviluppare una guerra sottomarina più efficace comunque possiamo dire che dal maggio del 1917 il 1917 in poi la guerra è clamorosamente persa per i tedeschi e su questo non ci sono più dubbi il 3 marzo del 1918 viene firmata la pace di Brest Livostock che è la pace fra Russia e Germania è la fine della guerra sul fronte orientale ma i tedeschi hanno già cominciato a trasferire le truppe che avevano schierato contro la Russia a trasferirle sul fronte occidentale coltivano ancora la speranza di riuscire a sfondare una speranza del tutto ingiustificata ormai le trincee hanno radicato le loro fondamenta molto così a fondo che è impossibile passare sì poi nell'estate del 1918 Indenburg e Ludendorff lanciano addirittura cinque offensive consecutive che portano a dei risultati nel senso che i tedeschi avanzano i tedeschi fanno dei prigionieri e però in questa avanzata come racconta Junger nelle sue tempeste d'acciaio i tedeschi incontrano anche la consapevolezza della differenza delle condizioni nelle quali stanno combattendo i tedeschi trovano nelle trincee che riescono a conquistare beni di consumo che loro hanno dimenticato ormai da anni si possono rendere conto che il nemico si trova in condizioni molto migliori delle loro già alla fine dell'estate tra luglio e agosto del 1918 gli alleati possono passare alla controffensiva e la Germania non sa cosa fare quando è che si arriva alla crisi definitiva certo Indenburg e Ludendorff non sono capaci di escogitare una strategia che possa portare alla pace e non ci riesce nemmeno Georg Erting che è diventato il primo novembre del 1917 cancelliere sostituendo la strana figura di Georg Michaelis che era diventato cancelliere al posto di Bethmann quando sempre Indenburg e Ludendorff avevano imposto al Kaiser di sostituire un cancelliere che era troppo in disaccordo con loro comunque nell'autunno del 1918 comincia a essere di totale evidenza che la Germania ha perso la guerra e anche che la Germania non è più in grado di continuare la guerra a un certo punto Ludendorff ammette questa situazione siamo nell'ottobre del 1918 e a una riunione Ludendorff ammette che la guerra è perduta avverte del fatto che la Bulgaria sta per arrendersi che infatti l'armistizio della Bulgaria mi pare sia del 10 ottobre che anche l'impero ottomano sta per arrendersi lo farà poche settimane dopo che anche l'esercito austro-ungarico si sta praticamente liquefacendo ancora schierato sul fronte del Piave e non sembra in grado gli austriaci hanno scatenato durante l'estate in contemporanea con l'offensiva tedesca sul fronte francese un'offensiva sul fronte italiano del Piave senza riuscire a passare il Piave mentre invece non sembra siano in grado di resistere alla prevista contro-offensiva italiana e peggio ancora persino dei reparti tedeschi non quelli prussiani per la verità quelli bavaresi e quelli sassoni cominciano a dare segni di inquietudine e quasi di ammutinamento a questo punto Ludentorff si dimette anche deve dimettersi anche Heinz e si arriva a un nuovo cancelliere Massimiliano del Baden si arriva anche a un nuovo capo di stato maggiore che è una figura Gröner non un prussiano un vertenberghese come come poi sarà anche significativo in seguito nei suoi rapporti con il Kaiser ma questi cambiamenti che sembrerebbero dover portare immediatamente alla fine della guerra in realtà non sono sufficienti a riuscire a chiudere il sistema diplomatico per arrivare alla pace anche perché i tedeschi pensavano speravano credevano che le posizioni degli Stati Uniti in particolare del presidente Wilson che erano state espresse nei famosi 14 punti potessero costituire ancora la base di una trattativa di pace mentre sostanzialmente gli alleati esigono una resa senza condizioni di fatto una resa senza condizioni che fra l'altro passa dal riconoscimento di un governo tedesco diverso da quelli emanati dal Kaiser perché durante tutta la guerra gli alleati hanno sostenuto che la propaganda alleata poi difficile arrivati a un certo punto e soprattutto dopo una tragedia di quelle proporzioni che ha imposto sofferenze di quel tipo perdite di ogni genere e lutti diffusissimi distinguere fra la posizione diplomatica e la posizione invece della propaganda alla fine la propaganda siccome poi parliamo di paesi nei quali si vota come l'Inghilterra o la Francia la propaganda convince della cattiveria di alcune persone della della follia criminale per esempio di Guglielmo secondo e quindi Guglielmo secondo non può essere un interlocutore per le trattative di pace ora c'è un giorno che viene indicato come la giornata proprio della crisi che è il 9 di novembre il 9 di novembre Guglielmo secondo è a Spa dove c'è il comando lo stato maggiore tedesco Massimiliano ha tentato in tutti i modi Massimiliano del Baden di convincere il Kaiser a rimanere a Berlino ma Guglielmo secondo preferisce poi stare in mezzo ai soldati ormai il suo collegamento con la politica è molto labile lui si trova quindi a Spa presso il comando dell'esercito tedesco e ricontinua a ricevere sollecitazioni affinché si dimetta lui invece che soffre molto della situazione nella quale è venuto a trovarsi sembra addirittura che pensi a tornare in Germania alla testa dell'esercito per sedare le rivolte che stavano scoppiando un po' dappertutto a Chiel si era mutinata addirittura la flotta poi c'erano stati ammutinamenti a Colonia Monaco di Baviera Francoforte sul meno in un sacco di altre città ma situazione nelle quali i rivoltosi avevano proprio preso il potere e quindi c'è questo sogno poi questo sogno questo attimo di sbandamento di Guglielmo II che sembra volere riportare l'ordine in Germania attraverso l'esercito che induce il comando tedesco a fare una una specie di referendum fra 50 ufficiali fidatissimi ai quali chiedono un parere riguardo sostanzialmente alla tenuta dell'esercito e tutti questi 50 ufficiali e poi in realtà non sono tutti perché non riescono a contattarli tutti nel caos che si sta venendo a creare anche nell'esercito tedesco i 35-40 che riescono a rispondere dicono tutti che il desiderio dei soldati è solo tornare a casa ed è quasi impossibile convincerli a fare qualcos'altro per cui bisogna trovare il modo di fare la pace quanto prima ora quando dicono questo a Guglielmo II Guglielmo II quasi non ci crede vuole sapere come mai i soldati i suoi soldati i suoi ufficiali possano immaginare di venir meno al giuramento solenne che hanno fatto alla sua persona ed è Grönen che gli dice praticamente con una frase famosa come stanno le cose gli dice Sire in tempi come questi i giuramenti sono solo parole e devo dire che probabilmente Guglielmo II ci resta molto male comunque lui in questa giornata frenetica e anche abbastanza disperata a Spa continuano arrivare al comando dell'esercito notizie di sollevazione anche Berlino è molto agitata e arriva la comunicazione di Massimiliano del cancelliere che dice che in mancanza dell'abdicazione è impossibile trattare con gli alleati e allora anche Hindenburg comincia a tentare di convincere il Kaiser che deve abdicare fra l'altro è girata una voce molto antipatica nell'entourage del Kaiser che addirittura è stata attribuita proprio a Gröner che ha sostituito Ludendorff secondo il quale l'unica possibilità alternativa che restava al Kaiser rispetto a quella dell'abdicazione era mettersi alla testa di un reparto di truppe attaccare e farsi ammazzare e il Kaiser la viene a sapere praticamente è un pettegolezzo però gli pare molto brutto e quindi con questa pressione affinché abdichi questa necessità di abdicare alla fine c'è un generale del suo seguito si fa venire una buona idea quella che sul momento sembra una buona idea cioè consiglia che il Kaiser si dimetta da imperatore della Germania ma non si dimetta da re di Prussia così il posto di imperatore di Germania resta vacante la Germania non è più un impero forse le cose cambiano forse gli alleati si accontentano di questo tipo di soluzione viene proposta al Kaiser e sembra che Guglielmo II non risponda ma faccia un cenno nella decisione di interpretare al meglio questo cenno subito il ministro degli esteri che lì ha in sé si precipita a telefonare a Berlino per dire che questa è la soluzione che stanno scrivendo il documento ma quando riesce a prendere la linea con Berlino gli vengono dette delle cose per cui l'idea di fare una mezza abdicazione risulta superatissima perché già due ore prima Massimiliano del Baden ha reso pubblica l'abdicazione del Kaiser anche senza che Guglielmo II avesse abdicato e a seguito di questo aveva dovuto incontrare una delegazione del partito socialista tedesco che in sostanza aveva detto che il cancelliere del Kaiser non poteva più rimanere al potere al governo e per mantenere l'ordine pubblico a Berlino e in tutta la Germania era necessario che venisse sostituito da un cancelliere socialista Massimiliano del Baden non pensa di dover resistere anche perché gli manca ormai la legittimazione alla propria carica dopo lui stesso ha dichiarato che il Kaiser ha abdicato e quindi dato che non ha più una ragione per rimanere al potere c'è del potere a Friedrich Ebert che è il capo dei socialisti tedeschi che diventa il primo cancelliere tedesco non di nomina del Kaiser perché praticamente si è nominato da solo c'è stato un passaggio di consegna ma non una nomina del Kaiser a Spa queste cose si vengono a sapere appunto in questa telefonata e qualcuno le deve pur dire al Kaiser e vengono dette al Kaiser siamo ancora a metà della giornata il quale diventa furibondo e si ritira nel castello dove soggiornava vuole spedire telegrammi di protesta ordina che ai soldati quelli del suo seguito di organizzare dei soldati per la difesa del castello e questo fin quando Indenburg e Greiner si presentano da lui e lui è disponibile a parlare solo con Indenburg perché a Greiner dice con lei non ho più niente a che fare lei è un generale del Württemberg non è un generale prussiano quindi io sono il re dei prussiani quegli altri non li voglio più è una posizione chiaramente dovuta all'eccitazione alla sovra-eccitazione del momento comunque Indenburg comincia a spiegare al Kaiser che deve scappare per la prima volta non è più una questione di abdicare non abdicare di che parte del suo potere cedere ma è la questione della tutela della sua persona fisica perché Indenburg gli dice di non essere in grado di garantirgli la tutela della sua persona fisica Guglielmo II non sa cosa fare anche se è chiaro che cosa deve fare perché a differenza della seconda guerra mondiale nella prima guerra mondiale l'Olanda rimane neutrale nella manovra contro la Francia i tedeschi non entrano in Olanda passano solo dal Belgio per cui l'Olanda nel corso di tutta la guerra rimane neutrale che è una condizione un po' strana perché appunto è circondata da territori di paesi in guerra anche tutto il problema di far arrivare dei rifornimenti di vivere in Olanda non è semplice comunque l'Olanda è tuttora un paese sovrano neutrale e per di più anche una monarchia e per un sovrano deposto in fuga uno stato monarchico è il posto adatto dove scappare rispetto a un oretto da una repubblica queste cose vengono dette al Kaiser il quale però non vuole andare via non vuole andare via perché uno capisce che come se n'è andato non potrebbe più tornare in Germania l'altro perché per esempio sua moglie dona la Kaiser e la figlia Vittoria Luisa l'unica sua figlia che è l'ultima nata alla quale lui è affezionatissimo sono ancora a Berlino però a un certo punto dicono a Guglielmo II che addirittura si teme che i soldati addetti alla protezione dello stato maggiore di Spa e quindi la guarnigione di Spa possa mutinarsi e quindi sarebbe bene andarsene e che addirittura andarsene comincia a essere complicato per tutta la notte Guglielmo II è disperato è disperato non sa cosa fare gli chiedono di partire lui si dichiara d'accordo poi si contraddice dice che non partirà mai e questo continua per delle ore per tutta la notte praticamente fin quando comincia ad avvicinarsi l'alba allora viene organizzato proprio un sistema per confondere chi potesse pensare di bloccare la fuga del Kaiser vengono fatte delle finte delle mosse finte alle 4 e mezzo del mattino viene fatto partire il treno imperiale si fa partire del treno imperiale ma il Kaiser non è sul treno imperiale mezz'ora dopo si organizza una colonna di 10 macchine con in mezzo la macchina dell'imperatore però si tolgono tutte le insegne dalla macchina dell'imperatore si fa uscire questo corteo dal vialone del castello ma il Kaiser non è nemmeno lì il Kaiser è su un'altra automobile che invece esce da un cancello secondario del parco del castello fa un lunghissimo giro e poi si ricongiunge con questa colonna di macchine dove c'è anche tutto il suo segno il confine olandese è distante 30 km quindi ci arrivano abbastanza rapidamente alle 7 di mattina tutti questi tedeschi con queste macchine si presentano al confine olandese e al confine olandese vengono fermati lì loro vengono fermati il Kaiser viene fatto scendere dalla macchina lo invitano ad aspettare le decisioni in merito alla sua possibilità e alle modalità del suo ingresso in Olanda le decisioni del governo dell'AE ad aspettare queste decisioni nella sala d'aspetto di una stazione che è il posto più comodo che riescono a trovargli ora sembra accertato che l'accoglienza di Guglielmo II in Olanda sia stata preparata fra l'altro c'è la visita di un generale olandese a Spa qualche giorno prima della sua partenza però è anche chiaro che alcune cose vanno fatte all'ultimo momento e che il tira e molla di tutta la notte non ha facilitato il lavoro di chi doveva tenere i collegamenti o di chi si preoccupava di tenere i collegamenti col governo olandese comunque dopo queste 6-7 ore nelle quali Guglielmo II e il suo seguito vengono tenuti alla frontiera olandese finalmente il governo dell'AIA che ha sentito Berlino ha verificato che la Germania non considerava un atto ostile l'accoglienza del Kaiser in Olanda e in Olanda fra l'altro dove la regina Guglielmina che è come tutti tutti i re sono parenti fra di loro quindi è parente anche se abbastanza alla lontana del Kaiser spinge per accoglierlo poi i re fra l'altro siccome immaginano che un guaio del genere possa sempre succedere tendono a sostenere i re in esilio insomma concedono l'asilo al Kaiser e ai membri del suo seguito non solo concedono l'asilo ma hanno anche predisposto il luogo della sua ospitalità che è questo castello di Amerongen che non è lontano dalla frontiera con la Germania dove vive il conte Godard Bentinic che è un nobile di alto lignaggio olandese che è ben disposto ad accogliere contento di accogliere i Kaiser fra l'altro il suo castello ha una caratteristica particolare perché in epoche lontane all'epoca di Ressole il suo castello è stato completamente distrutto dai francesi mentre il suo avo era alla corte prussiana per cui siccome era stato dalla parte dei prussiani e contro i francesi quando poi torna in possesso dei suoi ruderi del castello è il re di Prussia che gli regala le travi per rifare il tetto del castello prese dal parco di Posda e quindi il tetto del castello è un tetto prussiano insomma in qualche modo Guglielmo II anche lì è a casa arrivato Guglielmo II in Olanda improvvisamente si può finalmente fare l'armistizio lui arriva in Olanda la notte fra il 9 e il 10 anzi la mattina del 10 praticamente e l'11 novembre 1918 si firma l'armistizio fra Germania e Alleati l'armistizio viene firmato a Compiegne in Francia in un vagone un vagone che avrà una storia perché questo vagone chiaramente è il luogo dove avvengono due fatti a termine una gigantesca tragedia ma anche la Francia ha conquistato forse la più grande vittoria militare della sua storia e quindi il vagone diviene praticamente una reliquia francese prima viene portato a Parigi viene fatto entrare c'entra di preciso ci sono le fotografie dentro il palazzo degli invalidi viene esposto lì al palazzo degli invalidi poi si pensa addirittura di fare a Compiegne un museo dove tenere questo vagone al ricordo di questa firma dell'armistizio per i francesi non si rivela poi la migliore delle idee perché quando nel 1940 arrivano i tedeschi Hitler pretende che venga tirato fuori il vagone venga rimesso esattamente dove era l'11 novembre 1918 e lì venga firmato un armistizio tra la Francia e la Germania il quale praticamente la Francia cede alla Germania o comunque il nuovo governo francese poi c'è De Gaulle in esilio ma si firma una resa della Francia alla Germania dopodiché sono i tedeschi che si prendono questo vagone lo portano a Berlino e lo espongono a Berlino esporre quel vagone evidentemente non è una cosa che ha un senso scaramantico positivo perché le cose gli vanno sempre malissimo a chi espone quel vagone alla fine della seconda guerra mondiale sembra che un reparto di SS sia incaricato di farlo saltare in aria per liberarsene per sempre perché i tedeschi hanno paura di vedersi costretti a risalire sul vagone per l'ennesima volta e firmare un altro armistizio di quel tipo comunque il giorno dopo dell'esilio di Guglielmo II della partenza di Guglielmo II per l'esilio viene firmato l'armistizio ma in realtà Guglielmo II ancora non è in esilio non è più in Germania è rifugiato politico sostanzialmente olandese ma non ha abdicato e non ha abdicato in questa situazione di fuga di Guglielmo II ma non di abdicazione gli alleati sono disponibili sì a fare firmare un armistizio ma non a fare una trattativa di pace qual è il governo legittimo tedesco il governo legittimo tedesco è quello repubblicano di Ebert se c'è l'abdicazione del Kaiser se no ancora non si sa bene allora Ebert che dimostra di essere un politico molto abile fra l'altro riesce a farsi rinominare cancelliere dai Soviet perché anche a Berlino c'è una situazione di tensione scoppi una mezza rivoluzione vengono nominati i Soviet e i Soviet rifanno cancelliere lui che sostanzialmente è un socialista moderato ma molto abile e il quale Ebert sceglie Ernest von Rantzau per andare a trattare Goldkaiser e convincerlo a abdicare finalmente ora Rantzau ha delle carte da giocare in questa trattativa sostanzialmente due uno che sia Dona che Vittoria Luisa sono ancora in Germania a Postdam e sotto il controllo dei soldati tedeschi ma anche in qualche modo prigioniere dei soldati tedeschi e l'altra è tutti i beni degli Ohenzoller perché a fianco dei beni dello Stato ci sono i beni privati della famiglia Ohenzoller che sono quasi tutti in Germania quindi si tratta di mettersi d'accordo col Kaiser in modo da ottenere la sua abdicazione in cambio di una serie di garanzie relative a Dona ai suoi parenti e anche ai suoi beni tedeschi e la trattativa funziona così bene che Rantzau viene anche nominato da da Guglielmo II amministratore dei suoi beni in Germania riesce a convincerlo molto bene non si sa nulla dei loro colloqui perché sono così riservati che né il Kaiser né Rantzau ne parlano mai per cui non si sa che cose si sono detti comunque riescono a capirsi così bene che il 28 novembre del 1918 finalmente Dona arriva al castello di Amerongen e guarda caso lo stesso giorno il Kaiser firma la sua abdicazione da imperatore di Germania da re di di Prussia è anche libera dal giuramento tutti ufficiali funzionari tedeschi e addirittura li invita a collaborare con il nuovo governo abbiamo visto che Guglielmo II lascia la Germania abdica viene raggiunto dalla moglie e vive in Olanda al castello di Amerongen il primo periodo olandese della sua vita lui ha 60 anni e vivrà a lungo in Olanda vivrà più di 20 anni in Olanda il primo periodo della sua vita lì è abbastanza travagliato è abbastanza travagliato nel senso che i problemi non mancano perché lui è ancora vittima di una pressione propagandistica violentissima che è stata scatenata dagli alleati contro di lui durante la guerra contro di lui e contro la Germania tanto che il trattato di pace che viene firmato nella sala degli specchi di Versailles il 28 giugno del 20 impegna i tedeschi in una maniera che non si era mai vista nella storia dei conflitti fra i popoli e addirittura c'è un articolo del trattato di pace l'articolo 231 che dice che gli alleati e i loro governi sostengono e affermano e la Germania riconosce che la nazione tedesca e i suoi alleati sono responsabili delle perdite e i danni subiti dai governi alleati associati nonché dai loro popoli nella guerra loro imposta dall'aggressione della Germania e dei suoi alleati cioè addirittura il trattato di pace pretende di scrivere un pezzo di storia cosa che non era mai avvenuta e pretende di attribuire tutte le colpe di una guerra a una parte sola che è una pretesa un po' assurda perché poi è anche giusto che tutti si rendano conto che almeno una parte delle colpe di una grande tragedia come quella di una guerra tutte le guerre sono una tragedia ma la grande guerra e poi la seconda guerra mondiale sono delle tragedie spaventose nelle quali è giusto che ciascuno cerchi anche di individuare le proprie responsabilità c'è un modo di dire che non mi ricordo adesso bene da dove derivi che la giustizia fugge dal campo dei vincitori che è molto vero nella conclusione degli accordi di pace della prima guerra mondiale questa fuga della giustizia dal campo dei vincitori che forse aveva abitato prima ma che certo nelle clausole di pace che vengono imposte alla Germania e ad altri dei paesi sconfitti un paese per esempio viene penalizzato tantissimo è l'Ungheria perché siccome l'impero si chiama Austria-Ungheria mentre i croati vengono considerati praticamente come dei mezzi vincitori dei liberati dalla guerra gli ungheresi vengono considerati degli sconfitti e per esempio pezzi di Ungheria diventano rumeni e ancora lo sono tant'è in Romania c'è tuttora una forte componente una forte minoranza ungherese ma non solo ci sono queste affermazioni di principio il trattato di pace pretende anche la consegna di 900 cittadini tedeschi perché siano giudicati dai tribunali degli alleati in quanto responsabili sostanzialmente di crimini di guerra e si occupa anche del Kaiser dicendo che il Kaiser deve essere arrestato per la gravissima una offesa arrecata alla pace fra i popoli e alla santità dei trattati e che deve essere processato da un tribunale composto da cinque membri indicati dagli alleati Lloyd George che è il primo ministro inglese e si trova a dover fare una campagna elettorale non esita a dire nei suoi comizi che lui intende fare impiccare il Kaiser ora probabilmente non lo pensava veramente poi la posizione inglese è più sfumata sostanzialmente gli inglesi lo vogliono deportare a Sant'Elena come hanno fatto con Napoleone cent'anni prima questa è la modalità operativa prescelta dagli inglesi rimane quella e intendono proporla agli alleati quindi il Kaiser ha questo problema che si trova a essere non tanto un esule quanto un ricercato rimane in questa situazione Guglielmo II per alcuni mesi per alcuni mesi durante i quali gli alleati continuano a chiedere al governo olandese la sua estradizione e il governo olandese continua a rifiutarla continua a rifiutarla su pressione della regina Guglielmina ma anche in base al fatto che la richiesta è giuridicamente abbastanza debole nel senso che l'Olanda non ha partecipato alla guerra l'Olanda ha offerto asilo a Guglielmo II e la pretesa di processare un sovrano sulla base di un'accusa così generica e anche mal sostenibile non viene ritenuta dal governo e anche sostanzialmente dalla popolazione olandese corretta e sufficiente per giustificare la consegna appunto di una persona alla quale è stato offerto asilo c'è da dire che addirittura il re del Belgio è d'accordo su questa posizione del Belgio che è stato invaso dai tedeschi nel corso della guerra e lo dice pubblicamente sembra che anche il re d'Inghilterra la pensi così ma preferisca non esprimersi in pubblico perché non vuole turbare o intaccare il consenso di cui gode presso i suoi sudditi la situazione si risolve solo abbastanza tardi si risolve all'inizio del XX quando Lloyd George stesso fa una nota diplomatica con la quale trasferisce all'Olanda la tutela di Guglielmo II e la responsabilità di questa tutela prima di arrivare però a questo accordo di non intervento degli alleati cioè di abbandono da parte degli alleati della richiesta di consegna di Guglielmo II c'è stato un piccolo episodio del quale non si sa bene la natura che poi è un episodio molto ristretto però nella notte del 5 febbraio del XX otto ufficiali americani comandati da un colonnello si presentano al castello di Ameronghen è notte più che notte è sere inoltrata comunque tutti sono già a dormire e sostenendo di avere di dover svolgere un'importante missione diplomatica il conte il padrone di Ameronghen ha la prontezza insieme al figlio di chiamare subito il sindaco il sindaco di Ameronghen accorre accompagnato da soldati e da poliziotti e praticamente riesce a bloccare questo gruppo di ufficiali americani che pensavano di catturare il Kaiser e di portarlo per fare una sorpresa a Wilson dicono loro al presidente Wilson non si è mai capito bene se si trattasse così di un'idea di un gruppo di ufficiali non ben consapevoli di cosa stavano facendo oppure se dietro ci fosse un reale tentativo di catturare di impadronirsi di Guglielmo II organizzato dal comando americano tant'è quando tornano quando vengono restituiti questi otto ufficiali all'autorità del comando dell'esercito americano in Europa vengono rispediti subito in America e restano anche in carcere per un certo periodo molto breve per la verità non si capisce se perché hanno compiuto un gesto al quale non erano autorizzati o perché non si sono riusciti a fare quello che erano stati mandati a fare comunque dopo lo scambio di note diplomatiche di Lloyd George finalmente il Kaiser può cercare casa in Olanda ormai si capisce che deve rimanere in Olanda lui cerca casa in Olanda e la trova trova una residenza di campagna composta da un edificio principale e alcune dipendenze in un parco che era la residenza estiva dei Vescovi di Utrecht e nel maggio del 1920 ci si trasferisce dopo che è rimasto praticamente un anno e mezzo quasi un anno e mezzo a Meronghen cioè se si dice l'ospite dopo tre giorni puzza insomma lui ci è rimasto un po' di più e lui quando prima di trasferirsi a Dorn provvede a fare realizzare dei restauri alla casa praticamente una ristrutturazione della casa e degli annessi e sempre facendosi aiutare dal suo amministratore dei beni tedeschi fa portare un sacco di roba dai palazzi reali tedeschi sia da quello di Postdam che da quello di Berlino fa portare mobili fa portare quadri su pellettili posate piante insomma la residenza di Dorn anche se è una residenza abbastanza modesta anzi poco più di una casa di campagna però è molto ben arredata ed è piena di belle cose nonostante questo Dona non si trova bene in Olanda sostanzialmente o comunque rimasta molto segnata dalla guerra sta male loro lei e Guglielmo II festeggiano il quarantesimo anniversario delle nozze però poco dopo nell'aprile del 21 Dona muore e allora Guglielmo II che ha già compiuto 61 anni però è un arzillo vecchietto decide di risposarsi decide di risposarsi e la cosa non lo decide subito dopo in realtà l'annuncio del matrimonio del futuro matrimonio viene dato 13 mesi dopo la morte di Dona con questa Henriette che è anche lei una principessa però è una giovane vedova ha quasi 30 anni meno di lui ha 5 bambini piccoli è ricca e nella mischia firma anche un atto per cui si impegna a non avanzare nel lei nei suoi eredi pretese sui beni degli Ohenzoller cosa tranquillizza un po' tutti ma il matrimonio è mal visto sia dal principe ereditario che si rifiuta di andare alle nozze che anche dai monarchici tedeschi che mandano addirittura una delegazione a Dorn per chiedere al Kaiser di ripensarci e dirgli che giudicano abbastanza inopportuno un matrimonio così vicino alla scomparsa dell'imperatrice e sotto sotto dicono anche beh che dopo i 60 anni anche se non si risposa forse e lui li riceve molto gentilmente e poi gli dice che gli pare proprio inopportuno è anche impertinente rivolgersi così al Kaiser e comunque essendo che lui non è più nemmeno il Kaiser decide di fare quello che gli pare e infatti nel novembre del 1922 si sposa con Henriette e fra l'altro suo fratello Enrico che l'ha accompagnato poi era sempre insieme da ragazzi è presente alle nozze insomma non è una cosa che la famiglia rifiuta manca il primo genito già principe ereditario e è un altro matrimonio abbastanza ben riuscito la nuova Kaiserine che viene chiamata Kaiserine ovviamente perché il moglie del Kaiser non si smette mai di essere Kaiser organizza la vita della casa e dentro questa organizzazione anche questo nuovo affetto che ha trovato Guglielmo II il Kaiser praticamente si dedica alle attività tipiche di un pensionato legge i giornali cosa gli è sempre piaciuta per la verità anche quando era Kaiser spesso mandava ordini ai ministri ai suoi funzionari scritti su ritagli di giornale perché gli erano venute in mente delle cose mentre leggeva il giornale scrive le sue memorie che sono più attente alla vita familiare che poi alle vicende politiche anche se ne parla e anche da quelle si capisce che lui non sviluppa mai una grande politica coerente ma agisce volta a volta secondo l'impulso del momento poi si dedica al giardinaggio e in particolare c'è una una iola di rose che lui alla quale si dedica con con grande attenzione perché è una specialità di rose che è stata dedicata a Dona ancora nel 1890 sono rose bianche color lino verde e molto profumate e altra cosa che fa legge libri soprattutto di Woodhouse che ci dà una dimensione anche abbastanza allegra del Kaiser che evidentemente si divertiva con questo spirito inglese un po' assurdo fra l'altro si racconta che il Kaiser si compiacesse a leggere Woodhouse ad alta voce e alcuni addirittura arrivano a dire che quando qualcuno della servitù o del seguito si comportava male doveva scontare qualche cosa lui lo costringeva ad ascoltare le sue letture di Woodhouse e questa è la parte anche più più tranquilla della vita di Guglielmo Secondo perché poi c'è c'è il fatto che le cose in Germania vanno avanti e non vanno avanti nella maniera migliore nel senso che anche a causa di quello che è stato fatto nel trattato di pace che è stato un trattato di pace volutamente umiliante nei confronti della Germania che pretende dalla Germania il rimborso di danni di guerra spaventosi ma che lascia la Germania il più grande paese il più grande potente paese d'Europa quindi crea veramente un mostro di cattiveria praticamente perché lascia una grande forza in mano a qualcuno molto arrabbiato e cominciano ad affermarsi i nazisti in Germania e si discute su quale sia stata la posizione di Guglielmo II nei confronti dei nazisti sicuramente lui è in totale disaccordo sulle leggi razziali a proposito delle leggi razziali si cita un'altra delle sue frasi celebri questa volta perfettamente azzeccata perché lui dice quando gli arriva notizia della promulgazione delle leggi razziali in Germania lui dice per la prima volta mi vergogno di essere tedesco quindi lui su quello non ha il minimo cedimento quanto a altri rapporti con col nascente partito nazista e poi con il partito nazista al potere si deve dire che col consueto buonsenso Guglielmo II capisce fin da subito che non tornerà sul trono che è impossibile una restaurazione degli Johan Zoller e non crede in quello che gli viene in qualche modo fatto balenare nel periodo della Repubblica di Weimar e non crede assolutamente che questo sia nel progetto dei nazisti anche se Goering che è amico del figlio il figlio scarezza collo primo genito quello non ha voluto andare al matrimonio quello che ha sicuramente appannato la figura degli Johan Zoller di fronte anche all'opinione pubblica tedesca figlio è amico di Goering e Goering nel 31 va a Dorn a trovare il Kaiser gli assicura che è intenzione di Hitler qualora i nazisti arrivassero al potere di rimettere il Kaiser sul trono Guglielmo II non ci crede affatto non si fida però la moglie la sua nuova moglie è molto affascinata dai nazisti anche se appunto stando in Olanda non ha modo di manifestare fuori dall'ambiente di corte questa sua propensione politica sicuramente l'aveva i due figli del Kaiser August e Oscar si iscrivono al partito nazista anche se insomma il Kaiser li autorizza a farlo senza il suo permesso non l'avrebbero fatto il primo genito Guglielmo erede al trono invece si fa fotografare addirittura con la divisa delle camicie brune per l'ennesima volta commette un errore perché le camicie brune sono l'ala perdente dei nazisti quindi non si dimostra lucido neanche in questa occasione comunque una volta salito al potere Hitler chiarisce subito che non ha alcuna intenzione di rimettere sul trono Guglielmo II e anzi la posizione degli Ohenzollern in Germania peggiora peggiora perché per esempio alla metà degli anni 30 vengono proibiti i festeggiamenti in occasione del compleanno del Kaiser perché le associazioni monarchiche erano solite festeggiare il compleanno del Kaiser ed erano delle feste che venivano considerate normali in Germania vengono proibite vengono sciolte le associazioni monarchiche e poi si arriva al punto che addirittura Hitler confisca i beni degli Ohenzoller che erano stati riconosciuti come proprietà del Kaiser dal governo di Weimar anche sulla base di quegli accordi che erano stati fatti per convincerlo ad abdicare tutto questo rimane quindi in una situazione abbastanza conflittuale fino a quando non si arriva allo scoppio della seconda guerra mondiale perché il Kaiser assiste allo scoppio della seconda guerra mondiale e addirittura il 23 maggio del 1940 arrivano i tedeschi a Dorn i soldati tedeschi tornano a Dorn raggiungono ah tornano arrivano per la prima volta perché nella prima guerra mondiale non c'erano stati raggiungono a Dorn e e lì non è ben chiaro il loro atteggiamento nel senso che non si capisce se lo devono proteggere o devono stare attenti che non scappi e poi si dice ma non è che ci siano prove testuali chiare che vengono invitati a non avere un atteggiamento che riconosca eccessivamente la carica di Kaiser a Guglielmo secondo nel senso che Hitler non vuole concorrenti per cui deve essere chiaro che ci si rivolge rispettosamente ma non considerandolo in nessun modo sovrano di Germania poi in realtà sono soldati tedeschi quindi sbattono i tacchi lo chiamano sua altezza però lo controlla perché allo scoppio della guerra Guglielmo secondo viene sollecitato da molte parti lui ha già 80 anni e sta a Dorn da più di 20 chiaramente non c'è voglia di allontanarsi però Hitler gli si dichiara disponibile ad accoglierlo in Germania si era sempre rifiutato a dargli il permesso di tornare in Germania e anzi sembrasi anche disponibile a accoglierlo con un certo non solo a lasciarlo rientrare ma proprio ad accoglierlo dando un certo risalto a questo suo rientro in Germania che all'inizio della guerra gli farebbe comodo dal punto di vista propagandistico la regina Guglielmina che c'è ancora lei regina d'Olanda invece gli offre la possibilità di scappare dall'Olanda prima che arrivino i tedeschi i tedeschi sono diventati nazisti e perché Sirechi sostanzialmente non ha dei territori d'oltremare olandesi può scegliere lui l'Olanda ha un sacco di piccole colonie sparse per tutto il mondo dove potrebbe rimanere in pace aspettando la fine della guerra persino il re d'Inghilterra che l'Inghilterra quella che aveva richiesto la sua estradizione lo voleva processare persino il re d'Inghilterra gli offre di scappare in Inghilterra che è una situazione abbastanza strana che il Kaiser si veda così aprire la possibilità di scappare in Inghilterra per sfuggire all'arrivo dei tedeschi comunque Guglielmo II rifiuta tutte queste offerte e se rimane tranquillamente a Dorn dove appunto viene raggiunto dai soldati tedeschi e nel frattempo però succedono degli altri fatti in Germania che inaspriscono di nuovo i rapporti fra Guglielmo II o gli Ohenzollern o i monarchici tedeschi e i nazisti perché uno dei principi degli Ohenzollern uno rimane ucciso il secondo giorno di combattimento Oscar e un altro invece Guglielmo anche lui che in realtà è il primo dei nipoti il primo nato dei nipoti di Guglielmo II e rimane ucciso anche lui in combattimento contro i francesi rimane ferito gravemente poi tre giorni dopo muore e viene siccome appunto c'è questa linea diretta con il Kaiser viene seppellito a Berlino nella tomba degli Ohenzoller e ci vanno 50.000 persone in tempo di guerra a questo funerale e Hitler si secca tantissimo perché c'è un evidente segnale politico in questo è un segnale politico di sostegno per Johann Zollern e quindi per un regime diverso da quello di Hitler quindi è una critica forte espressa in una maniera che è legittima nemmeno i nazisti riescono a considerarla illegittima però che irrita tantissimo Hitler tant'è che Hitler decide di far assegnare a servizi civili tutti i discendenti degli Ohenzoller che si trovano sotto le armi per non rischiare gliene muoia un altro poi si fa un altro funerale niente niente li sbatte fuori dall'esercito tedesco probabilmente salvando la pelle a parecchi di loro l'ultimo contatto fra il Kaiser Guglielmo II Hitler il contatto non diretto ma epistolare c'è il mese successivo quando la Francia si arrende quando Hitler conquista Parigi perché in quell'occasione il Kaiser viene sollecitato da varie parti Kaiser è contento è contento che i tedeschi vincano che finalmente siano riusciti a arrivare a Parigi che i suoi nemici che gli hanno distrutto l'impero e l'hanno costretto all'esilio vengano adesso sconfitti però non si sogna troppo di congratularsi invece quelli del suo ambiente gli dicono che probabilmente farebbe bene a mandare un telegramma di congratulazioni a Hitler suo figlio l'ha mandato il solito primogenito l'ha mandato subito un telegrammone congratulandosi tantissimo con il furo dei tedeschi qui e là e Guglielmo II non ci ha nemmeno pensato però insistono molto non dicono che Hitler fra l'altro si è dispiaciuto di non averlo ricevuto poi c'è Henriette la moglie che è proprio nazista ci tiene diciamo ma che figura facciamo queste cose qua e insomma il Kaiser alla fine accetta di mandare questo telegramma lo scrive lui col suo solito stile nel quale mette questa vittoria che Dio ci ha voluto dare una cosa del genere che viene considerato poi il massimo momento di vicinanza fra il Kaiser e i nazisti di Hitler ed è si può dire la sua ultima gaff perché da quel momento in poi il Kaiser sta molto appartato sta molto attento a non parlare e poi è anche malato cioè lui ha più di 80 anni ha vissuto sicuramente una vita intensissima che anche se da 20 anni si sta riposando da quasi 23 anni si sta riposando in Olanda certo ne ha viste di tutti i colori a proposito di alcuni libri che sono stati scritti per dimostrare che lui è completamente pazzo a dire no non sono pazzo però con tutto quello che mi è successo avrei facilmente potuto diventarlo il 3 di giugno del 1941 comincia a sentirsi molto male e muore la mattina del 4 giugno con lui c'è la moglie Riette e c'è anche l'amatissima figlia Vittoria Luisa è una morte abbastanza tranquilla viene seppellito i funerali si fanno il 9 giugno sono dei funerali abbastanza riservati con lui scompare praticamente una stagione dell'Europa una stagione che ha rappresentato forse il meglio del sogno tedesco del novecento e che si è risolta presentando forse il peggio della Germania del novecento alle otto della sera Guglielmo II il Kaiser in studio Sergio Varzania Guglielmo II